Grazie Presidente. Verbale della seduta del 20 giugno 2023, numero 78. Presidenza del Presidente La Russa e dei Vicepresidenti Rossomando Castellone Gasparri. Aperta la seduta alle ore 10.03, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 19 giugno 2023. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 747 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 22 aprile 2023, numero 44. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente prende atto. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Salvitti, Magni, Patton, Fregolent, Paroli, Castellone, Pirovano, Parrini e Depriamo. Con votazione nominale, con appello ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione, dell'articolo 161, comma 1 del Regolamento, è quindi approvato l'articolo unico del disegno di legge. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del Decreto-Legge numero 44. Il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle 12.03, è ripresa alle ore 15. Il Presidente commemora il senatore Silvio Berlusconi, recentemente scomparso. Esprime il cordoglio personale e del Senato ai familiari e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Alla commemorazione si associano, a nome del Governo, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Tajani, e anche a nome dei rispettivi gruppi parlamentari, i senatori Ronzulli, Monti, Casini, Biancofiore, De Cristoforo, Untenberger, Renzi, Salvini, Boccia e Malanna. Il Presidente comunica le determinazioni assunte dalla conferenza dei capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 4 luglio 2023 e sospende la seduta. La seduta, sospesa alle 16.45 e ripresa alle ore 16.49. Il Senato passa la discussione alle mozioni numero 50, testo 2, 52 e 53, sull'attuazione e gli impegni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Senatore Boccia illustra la mozione numero 50, testo 2. La Senatrice Paita illustra la mozione numero 52. In sede di discussione prendono la parola i senatori Magni, Nave, Dreosto, Roic e Gelmetti. Replica quindi il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Fitto, il quale esprime il nome del Governo e il parere sulle mozioni. Per dichiarazione di voto intervengono i senatori De Poli, De Cristofaro, Spagnoli, Gelmini, Rosso, Patuanelli, Romeo, Alfieri e Zedda. È approvata una proposta di votazione per parti separate della mozione numero 50, testo 2. Quindi, con votazione nominale elettronica, sono respinte le premesse e i punti dal numero 1 al numero 10 della mozione numero 50, testo 2. È invece approvato il punto numero 11. Previ interventi della senatrice Paita e del senatore Patuanelli. È approvata con votazione nominale elettronica la mozione numero 52, testo 2. È altresì approvata una proposta di votazione per parti separate della mozione numero 53. Quindi, con votazione nominale elettronica, sono approvati dapprima le premesse e i punti diversi dal numero 2. Successivamente anche il punto numero 2. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine i senatori Scalfarotto, Zampa, Naturale e Amidei. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 21 giugno 2023 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19.49, lette approvato nella seduta del 21 giugno 2023. Grazie, Senatore Segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per l'incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Informo che all'inizio della seduta il Presidente del gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. E quindi possiamo passare alla trattazione dell'ordine del giorno, ovvero la discussione del disegno di legge di conversione in legge del Decreto Legge 4 maggio 2023, numero 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. La relatrice, Senatrice Mancini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e naturalmente ne ha facoltà. Prego, Senatrice. Grazie. Grazie, Presidente, Governo, colleghi. Nel presente Decreto Legge, recante un complesso di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, si nota un apprezzabile cambio di paradigma rispetto al passato, sia per quanto concerne la tecnica di scrittura legislativa caratterizzata da concretezza, sia per una più immediata comprensione delle nuove disposizioni. Il provvedimento rifletta una chiara visione riformista, interessando quattro aree di intervento di assoluta profondità sociale, ed è per questo che è stato oggetto di una profonda analisi con ampio spazio alle audizioni di tutte le parti sociali interessate e ad una completa e vivace discussione in Commissione. La prima area di intervento dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 23. Quest'ultima ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, stabilendo nelle more della riforma, ora definita dal presente Decreto, sia l'abrogazione dell'Istituto del Redio di Societananza, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sia una revisione della disciplina di tale istituto per il 2023. In primo luogo, con gli articoli da 1 a 11 del presente Decreto, si istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne ovviamente almeno 60 anni d'età o disabile, o, come aggiunto in sede di referente, ampliando la pliatea, almeno un componente in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEA. In sede referente si è inoltre attenzionato il soggetto inserito nei percorsi di protezione relative alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé anche ai fini ISEA. In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui l'articolo 2 si rileva, in primo luogo, che quelli inerenti all'accettinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di accettinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da 10 a 5 anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni, chiaramente precedenti alla domanda. A quest'ultimo riguardo, il coma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza. I requisiti inerenti alla condizione economica del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell'ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare, del patrimonio mobiliare, sia l'assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di accettinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base ad una scuola di equivalenza. La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell'articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell'applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva da diversi regimi di durata e di rinnovo, in quanto per l'assegno di inclusione, dopo i primi 18 mesi, il rinnovo è ammesso per 12 mesi, anziché i 18, ferma restando la sospensione di un mese dell'erogazione del beneficio, prima di ogni rinnovo. L'articolo 4 del decreto concerne, in primo luogo, la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all'Inps, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e, come aggiunto in Commissione Decima, tramite i centri di assistenza fiscale, conosciuti come CAF. Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest'ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa, che verrà chiamata SISL. Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, dal lato, il riconoscimento dell'assegno di inclusione nel mese successivo, dall'altro lato l'applicazione di ulteriori procedure e obbligi. L'inadempimento di tali obbligo determina la decadenza del beneficio ai sensi dell'articolo 8. In particolare, si prevede che i servizi sociali effettino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, intesa alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 59 anni e attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Anche il patto per l'inclusione supermenzionato deve prevedere la partecipazione in via obbligatoria ad attività formativa o di lavoro o altre misure di politica attive da parte dei componenti del nucleo familiare in maggiorenne o di età inferiore ai 60 anni che esercitano la responsabilità genitoriale non occupati, non frequentanti o regolare corso di studi nei titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinati cariche di cura relativi a figli o familiari disabili. Sono scusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, nonché, come aggiunto in sede referente, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita delle violenze di genere. In ogni caso, i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l'advisione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato. Riguardo il so menzionato patto di servizio personalizzato, le regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale, proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per lavoro e alla formazione. In commi dal 9 all'11 dell'articolo 6, parzialmente riformulati in sede referente, disciplinano l'utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziate. Riguardo alla modalità di erogazione, il coma 8 dell'articolo 4 prevede che l'assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti del medesimo comune, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità, nonché, come definito in commissione decima, la carta non può essere utilizzata per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici. L'articolo 7, nel quale in sede referente sono state inserite alcune modifiche tecniche, indovida l'amministrazione e l'autorità competente per i controlli dell'assegno di inclusione. Adesso occorre aggiungere i comuni, che sono responsabili delle verifiche dei controlli anagrafici. L'articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai controlli e prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all'irregolare percezione dei benefici in oggetti. Riguardo le altre disposizioni di cui l'articolo 8 si segnala in primo luogo che sorreca sanzioni penali per illeciti di faso o di emissioni relative ai benefici in esami e prevede la decadenza del nucleo familiare degli stessi o la sospensione per le condanne e i procedimenti penali individuati dal medesimo articolo. Si prevede inoltre la medesima decadenza dell'assegno per l'inavimento degli obblighi summenzionati posti a carico dei beneficiari, nonché per alcune fattispecie di faso, di emissioni delle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un'offerta di lavoro subordinato, rientranti nell'ambito della fattispecie di cui è successivo articolo 9. Quest'ultimo, nel testo parzialmente riformulato in sede referente, distingue a seconda che l'offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e nell'ambito della prima tipologia contrattuale disciplina distintamente l'ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a 14 anni. Quindi, in Commissione Decima, si è inserito al lato degli 80 km la percorrenza in massimo 120 minuti con i medi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che l'assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra 1 e 6 mesi. L'erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest'ultimo e reddito dai su derivanti non rilevano ai fini dell'applicazione dell'assegno. L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione, nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell'Adi che avviene a un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o da una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. Tali norme riconoscono in primo luogo un incentivo in favore dei datori di lavoro privato in caso di assunzione dei soggetti in esame. L'incentivo è della durata massima di 12 mesi e l'importo dello stesso varia a seconda che il contratto stipulato sia a tempo indeterminato o a termine. Si prevede inoltre un incentivo per l'Agenzia per il lavoro con riferimento all'assunzione in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione. Un incentivo, inoltre, per alcuni entri e imprese con riferimento all'assunzione in oggetto relativa al personale con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei medesimi di enti e imprese. La summenzionante apprezzazione aggiuntiva per i beneficiari dell'assegno di inclusione è riconosciuta in un'unica soluzione ed è pari a 6 mesi l'ità dell'assegno di inclusione. Calcolatene il rispetto di un limite pari a 500 euro mensili. L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relative all'attuazione dell'assegno di inclusione e nonché l'istituzione di un osservatorio sulla povertà. L'articolo 12 istituisce ad accorre dal 1 settembre 2023 il supporto per la formazione e il lavoro. Tale istituto interessa in primo luogo i soggetti di età compresa tra i 18 e 59 anni non aventi requisiti per accedere all'assegno di inclusione appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro anni. Un ulteriore possibile ambito di applicazione è previsto con riferimento ad alcuni soggetti appartenenti ai nuclei familiari beneficiari dall'assegno. Il supporto per la formazione e il lavoro è definito come una misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione ai progetti di formazione e di qualificazione e di qualificazione professionale di orientamento e di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. In tali ambiti rientrano anche i servizi civili e universali ai progetti utili alla coltellità. In caso di partecipazione ai suddetti progetti per la durata della stessa e comunque per un periodo massimo di 12 mesi in età l'interessato riceve un'indennità pari a 350 euro messili. L'articolo 12b in sede referente quindi in commissione decima reca un riferimento all'intero decreto legge una clausola di salvaguardia relativa alla regione statunziale e alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Lo stesso articolo reca con riferimento alle solite province autonome clausole specifiche relative al segno di inclusione e a misura analoghe. L'articolo 13 reca disposizioni transitorie di coordinamento finanziario. Si rivela in primo luogo che il Coma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l'inclusione nel regime sanzionatorio previsto per i redditi di cittadinanza anche degli illeciti in materia di commissione nella fase finale di applicazione dell'istituto del reddito. La novella di cui è successivo Coma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti dal 1 gennaio 24 nell'ambito dell'Adi continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 23 i redditi di cittadinanza senza l'applicazione del limite dei 7 mesi introdotti della legge di bilancio del 23. Il Coma 5 inserisce un ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite. Questa nuova norma come parzialmente riformulato in sede referente fa riferimento ai soggetti che entro il 31, 12 e 23 siano stati presi in carico in quanto non attivabili il lavoro dei servizi sociali. Passando al secondo capo del profedimento l'articolo 14 il cui testo è stato integrato in sede referente reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono tra gli altri i profili attenenti al medico competente alle attrezzature di lavoro agli edifici scolastici. L'articolo 15 prevede che per le finalità e vindicate gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente anche attraverso cooperazione applicativa le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con conseguenza messa a disposizione delle stesse anche in favore del corpo della Guardia di Finanza così come riformulato in Commissione Decima. L'articolo 16 prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro destine un contingente di proprio personale ispettivo adeguatamente qualificato allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nel territorio delle regioni siciliane. In sede referente è stata espunta dal presente articolo un'omologo a previsione relativa alle province autonome di Trento e di Bolzano. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 istituiscono un fondo per il conoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari e degli studenti e vi compresi quelli universitari di percorsi di istruzione e formazione professionale deceduti a seguito di infortuni o corsi successivamente al 1 gennaio 2018 durante l'attività formativa. La definizione dei requisiti dei criteri di determinazione della misura di sostegno nonché le modalità di accesso è demandata a un decreto ministeriale. I successivi commi 4 e 5 parzialmente modificati in sede riferentieri con alcuna integrazione alla disciplina sui percorsi per le competenze traversali per l'orientamento. Le novelle riguardano tra l'altro il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di istituto. L'articolo 18 prevede con riferimento all'anno scolastico e accademico 23 e 24 un'estensione nell'ambito di applicazione della situazione inial contro gli infortuni analiticamente individuati dal coma 2 operanti nei suoi settori come docenti e altre funzioni e attivi come studenti e allievi sono comprese nel regime assicurativo. L'articolo 19 prevede un incremento dell'alzazione del fondo nuove competenze mediante l'impiegno di risorse relative al periodo 2021-22 con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria nonché gli oneri relativi ai contributi presidenziali essenziali nelle loro destinate ai corsi di formazione. L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura del sostegno economico in favore degli utenti del servizio di trasporto cosiddetto buono trasporti. L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'AMPA. L'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico universale per i figli a carico. La novella concerne la maggior specificità dell'assegno attribuito per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reti di lavoro e il valore dell'isea del nucleo familiare sia figliore o pari a un determinato limite. A riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del mese del nucleo familiare. L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali amministrative pecunarie per l'omissione del versamento di contributi previdenza assidenza sociale da parte di datori di lavoro nonché da parte dei committenti dei contratti di co-co-co di entranti nella cosiddetta gestione separata dell'Inps. L'articolo 23 bis inserito in sede referente introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fatti specie di avvenuto annullamento automatico in seguito a norme speciali dei debiti contributivi. L'articolo 24 ampiamente riformulato e integrato in sede referente modifica in primo luogo la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono definiti i presupposti di ammissibilità cosiddette causali di durata dei contratti superiori a 12 mesi in ogni caso non superiore a 24. La nuova disciplina oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di situazioni di altri lavoratori reinserisce la causale costituita da fatti specie previste dai contratti collettivi riproponendo una regimola norma transitoria operante fino al 30 settembre 22. Sopprime sia la causale di esigenze temporanee oggettive estraneo ordinari attività sia le clausole di esigenze connesse incrementi temporanee significative non prorogabili attività ordinare introduce inoltre la causale applicabile solo con atti fino al 30 aprile e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in aziende viene inoltre modificata la disciplina dell'applicazione delle causali come ora definita relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro termini tale modifiche escludono anche per i rinnovi i termini identici a quanti già previsti per le prologhe inoltre l'articolo 24 modifica la disciplina operanti in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi dell'imme quantitativo dei ricosti ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato l'articolo 25 modifica la disciplina del istituto transitorio dei contratti di espansione la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese l'articolo 26 rica semplificazione in merito e gli obblighi di informazione e di pubblicazione relativa al rapporto di lavoro che devono essere adempiuti dal datore di lavoro dal committente in favore dei lavoratori l'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni effettuate nel periodo giugno 23 dicembre 23 a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di giovani al di sotto dei 30 anni dall'incentivo è concesso per un periodo di 12 mesi nella misura del 60% della retribuzione mensile l'orda imponibile ai fini previdenziali mentre l'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione da parte degli enti del terzo settore e da altri enti ad esso assimilabili con un tratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti con disabilità di età inferiore 35 l'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti del terzo settore in sede referente all'articolo è stato riformulato e in stessi altresì introdotte novelle corrispondenti alla disciplina specifica relativa all'impresa sociale l'articolo 30 prevede una possibile faticezza di prolungamento oltre al 31 dicembre 23 intercazione salararia in deroga esplicita limiti durata stabiliti dalla disciplina relativa al solito trattamento l'articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia all'Italia il 32 prevede per il 23 un incremento delle risorse per il finanziamento statale tra convenzioni tra IMSS e CAF l'articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell'agenzia industriale di difesa gli articoli dal 34 al 36 recano varie norme del settore dei trasporti in sede referente in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi è stato inserito anche questo concetto l'articolo 36 inserito in sede referente reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro del settore trasporto fune il 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale la novella concerne i primi valori la fattispecie di utilizzo di tale prestazione nei settori dei congressi delle fiere e degli eventi e in sede referente viene integrata la disciplina del modello di acquisto di utilizzo del libretto famiglia l'articolo 38 reca disposizione relativa al trattamento giuridico economico degli ex elettori di lingua straniera l'articolo 39 per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre incrementa di 4 punti percentuali la misura della riduzione temporanea già prevista per i 23 dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile l'articolo 39 bis inserito in commissione decima riconosce il fine di garantire stabilità occupazionale di superiore tale eccezione mancanza di offre di lavoro nel settore turistico ricettivo termale in via transitoria ovvero 1 giugno 30 settembre un trattamento integrativo riconosciuti dal sessuto di imposta l'articolo 40 prevede limitatamente il periodo di imposta 23 e in deroga quanto previsto dall'articolo 51,3 del TUIR a determinate condizioni una disciplina più favorevole in materia di esclusione del compito del reddito imponibile del lavoratore dipendente e dei beni ceduti e i servizi prestati del lavoratore medesimo conosciuti come fridge benefit tale regime transitori per favorevole e riconosciuto i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico in sede referente è stato apportato un elevamento della stima del reddito al fine di tenere conto degli effetti dell'esenzione anche sulla base imponibile della contribuzione previdenziale l'articolo 41 incrementa il fondo per la riduzione della pressione fiscale nella visura di 64 milioni di euro l'articolo 42 infine istituisce un fondo con la dotazione per 60 milioni di euro per il 2023 per le attività socioeducative in favore dei minori il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei comuni intesa al potenziamento dei centri estivi dei servizi socioeducativi territoriali dei centri svolgenti attività educative e ricreative in sede referente è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre di alcune disposizioni in materia di lavoro agile smart working per il settore del lavoro privato relativa in particolare ai genitori con figli di età inferiore a 14 anni e relativa in particolare ai genitori con figli e soggetti fragili l'articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza erogati dall'amministrazione inserita nel conto economico consolidato dall'apposito elenco istat siano considerate nel calcolo del reddito soggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica e di remunerazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società infine l'articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oner di cui il presente decreto recalcuna e clausole contabili rimodula la misura dell'aliquota d'imposta sulle essere matematiche dei rami vita iscritti nel bilancio dell'esercizio delle imprese escurative ed infine incrementa il fondo rotativo del medio credito centrale per il sostegno alla internazionalizzazione dell'impresa nella misura di 545 milioni di euro per il 2023 grazie grazie senatrice Mancini allora dichiaro aperta la discussione generale ed è scritto a parlare per il primo intervento il senatore Damiani per dieci minuti prego senatore Damiani grazie 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 ci siamo sì grazie grazie presidente sottosegretario governo colleghi senatori il decreto che ci accingiamo questa mattina in aula qui da approvare è il decreto lavoro approvato lo scorso primo maggio dal governo quindi individuando appositamente una data simbolica proprio a dimostrazione dell'impegno forte che il governo in tema di lavoro intende attuare in questa legislatura quindi un impegno una circostanza che nonostante voglio dire simbolica in una data appunto simbolica tanto cara anche a una parte politica del nostro paese invece ha suscitato numerose polemiche che diciamo in questa sede non voglio assolutamente ricalcare perché voglio tracciare invece quello che è l'importanza oggi del provvedimento che come dicevo è stato approvato il primo maggio proprio a significare oggi la centralità che questo governo vuole dedicare al tema del lavoro al tema del welfare al tema delle famiglie al tema delle imprese si tratta quindi di un provvedimento che vede il governo confrontarsi oggi con queste sfide economiche che sono ardue per il paese perché appunto parlare di politiche del lavoro non è mai semplice e non lo è stato mai semplice nella storia del nostro paese e lo facciamo in un momento anche particolare economico congiunturale in un momento appunto storico che vede il paese uscire fuori prima dalla pandemia e oggi affrontare quelle che sono le sfide anche economiche con le quali ci stiamo confrontando dopo e durante adesso il conflitto russo-ucraino quindi alle prese in un momento particolare con la necessità di rimettere in moto interi settori produttivi del nostro paese offrire sostegno alle imprese ai consumi a chi realmente oggi è impedito a svolgere anche un'attività lavorativa è evidente quindi che in questa congiuntura molto delicata le precisazioni le priorità o meglio da affrontare sono ben precise quindi in primis ridisegnare le politiche di sostegno all'inclusione evitando sprechi soprattutto in misure che sono puramente assistenziali alleggerire gli oneri delle imprese in modo da liberare risorse che servono per gli investimenti favorire così a livello individuale un reddito aggregato quel sostegno ai consumi che oggi è la base dell'economia quindi in un momento anche economicamente particolare e difficile la causa dell'inflazione oggi noi abbiamo la necessità appunto di dare più soldi più ricchezza alle nostre famiglie e quindi sostenere i consumi il decreto lavoro ha puntato appunto su questi criteri fondamentali su questi due aspetti fondamentali abbiamo introdotto l'assegno di inclusione che va a sostituire il famigerato reddito di cittadinanza e abbiamo continuato a seguire la strada della riduzione del cuneo fiscale appunto dedicando tagliando di altri punti e quindi arrivando a 7 punti percentuali oggi di taglio anche per quei redditi fino a 35 mila euro dopodiché abbiamo anche introdotto disposizioni per facilitare il lavoro temporaneo nei settori in cui la richiesta ha più difficoltà ad incontrare la domanda è un provvedimento come dicevamo che incontra il favore oggi politico di Forza Italia sostenuto dai ministri nel governo di Forza Italia dal ministro Zanghielo dal ministro Berlini ma come dicevo da tutto il centrodestra inoltre nel corso dell'esame dell'esame che c'è stato nella commissione anche sono stati numerosi i provvedimenti e soprattutto gli emendamenti che sono stati anche accolti e proposti dal gruppo parlamentare di Forza Italia cito a titolo di esempio l'ampliamento della pleatia dei destinatari degli interventi di inclusione sociale finanziati attraverso il fondo povertà anche a persone e famiglie che pur in condizioni di estrema povertà certificata dai competenti servizi sociali dei comuni mancano di requisiti formali per beneficiare di tale misura e degli interventi ad esse connesso una maggiore anche rappresentanza dell'arma dei Carabinieri nell'ispettorato nazionale del lavoro proprio in tema di controlli nel settore del lavoro sono stati poi accolti alcuni nostri ordini del giorno pure importanti vincolanti anche per programmare altri interventi legislativi che verranno in seguito proposti dal governo per estendere l'applicazione dei fringe benefit aziendali per i lavoratori per rimodulare l'importo delle pensioni minime e soprattutto l'importo delle pensioni di invalidità che vanno aumentate questo è un aspetto politico importante veniamo quindi a quelle che sono le misure però principali cioè l'assegno di inclusione e la riduzione del cuneo fiscale per l'assegno di inclusione abbiamo appostato 5 miliardi e mezzo nel 2024 rispetto ai 7 miliardi che erano previsti nella legge di bilancio del 2023 un miliardo e mezzo quasi vengono e mezzo vengono utilizzati per sostenere le politiche per la formazione alle persone tra i 18 e i 59 anni l'assegno viene erogato dal 2024 a coloro che hanno un reddito inferiore a 9.360 euro limite che scende per quelle famiglie che sono composte da over 67 o disabili al limite si sommano ulteriori 3.360 euro per l'affitto fino a dicembre 2023 si prosegue quindi con il reddito di cittadinanza il meccanismo di assegnazione del nuovo assegno passa anche attraverso l'Inps l'assegno vale 500 euro ed erogato per 18 mesi per i nuclei familiari con disabili e over 60 anni come noto noi siamo stati abbiamo sempre avuto una posizione anche di rimodulazione del reddito di cittadinanza così come avevamo previsto e avevamo proposto anche durante la campagna elettorale e quindi abbiamo confermato oggi questo cambio questa rimodulazione questa proposta nuova come dicevo del nuovo reddito quindi con un assegno che continua perché abbiamo sempre sostenuto che l'aiuto e il sostegno alle fasce più deboli con reddito più basso delle famiglie va sempre sostenuto quindi il governo oggi va in quella direzione solo negli anni 2020 e 2021 i dati che sono stati raccolti anche in tema appunto di reddito di cittadinanza usato male quindi diciamo anche le cosiddette truffe che sono state comunque certificate prestazioni erogate non dovute sono circa 200 milioni di euro cioè il triplo di quanto anche riscontrato nel 2020 quindi diciamo sono continuate anche in questi anni diciamo le truffe sul reddito di cittadinanza una situazione inaccettabile che quindi necessariamente andava arginata pertanto i requisiti sono stati oggi modificati per accedere all'assegno ma ipotizzando che ci sarà ancora chi proverà ad accedere al nuovo beneficio pur non avendone le caratteristiche sono state quindi previste nel decreto lavoro delle sanzioni più pesanti quindi che prevedono la reclusione fino a sei anni per chi rirascia dichiarazioni false sono previsti quindi filtri ulteriori non solo al momento della richiesta dell'assegno ma anche per il mantenimento dello stesso che prevedendo la verifica sulle banche date dei requisiti per poterne godere previsto uno sgrave o contributivo fino a 8 mila euro dei datori di lavoro che assumono il percettore di assegno che sia occupabile il decreto lavoro prosegue inoltre nel taglio come abbiamo già detto del cugno fiscale un'operazione che inizia anche nella precedente legislatura continua quindi con il governo Meloni al taglio di dicembre come dicevo di circa 3 miliardi che abbiamo messo nella scorsa manovra finanziaria aggiungiamo oltre oggi un ulteriore taglio di 4 miliardi a favore dei redditi bassi quindi fino a 35 mila euro per la copertura si utilizza tutto l'indebitamento che abbiamo approvato 3 miliardi e mezzo nell'ultimo DEF 2023 e ai quali poi si aggiungono anche altre variazioni di bilancio il taglio quindi è complessivamente oggi in questo anno tra la manovra finanziaria di dicembre e l'ulteriore taglio con il DEF di 7 punti percentuali sui redditi fino a 25 mila euro il che significa che si può arrivare sino a 100 euro in più in busta paga fino a 35 mila euro il vantaggio fiscale è complessivamente pari a 6 punti percentuali anche questa battaglia sul cuneo fiscale ci appartiene da sempre e ora più che mai per incrementare il reddito reale delle famiglie e limitare soprattutto la rincorsa dei salari prezzi la scommessa è da qui alla prossima legge di bilancio quella di dicembre di trovare quelle coperture che sono adatte a rendere strutturale oggi la misura del cuneo fiscale quindi l'impegno oggi che dobbiamo mettere l'invito che rivolgo qui impegnato sul tema del lavoro al sottosegretario di Rigoni è appunto quello di rendere oggi questa misura strutturale per le nostre famiglie e come dicevo per i nostri lavoratori per l'assunzione di giovani under 30 sono previsti sgravi contributivi fino al 60% della retribuzione gli incentivi durano un anno per le nuove assunzioni effettuate da giugno a dicembre e così anche per i contratti a tempo determinato ci sono tutta una serie di misure quindi come dicevo per concludere un impegno importante assunto da questo governo appunto in una data significativa per il lavoro nel nostro paese che è quello del primo maggio una serie di misure che come dicevo vanno oggi a restituire anche un valore al reddito delle nostre famiglie come dicevo misure che dobbiamo impegnarci tutti quanti con questo governo in questa legislatura a rendere strutturali grazie grazie senatore Damiani ora è scritta a parlare la senatrice bevi l'acqua per otto minuti prego grazie presidente colleghi governo cittadini in ascolto devo dirvi che sono veramente colpita dall'indifferenza di questa maggioranza per le vere stanze di questo paese indifferenza e non solo perché in questi otto mesi di governo avete più volte dimostrato a noi nelle aule e agli italiani che tutti i giorni vivono i problemi reali che siete totalmente sordi alle difficoltà delle persone manifestando addirittura arroganza e totale mancanza di rispetto per chi ha bisogno di uno stato veramente solidale e vicino ai più deboli questo decreto precariato che il governo ha beffardamente chiamato decreto lavoro è forse l'emblema più alto dell'irriverenza mista ad arroganza con cui state continuando a tutelare i forti facendo cassa su chi è in ginocchio e non ce la fa più il nostro non è un paese per giovani e non lo è sempre più per colpa di questo governo dopo aver detto ai nostri ragazzi di essere degli stanza fatiche dei divanisti dei fannulloni dei parassiti dopo avergli detto che devono smettere di sognare il lavoro la professione per cui hanno studiato tanto con grandi sacrifici delle famiglie che li sostengono magari mandandoli a studiare fuori sede nelle università più accreditate per dargli un'opportunità in più di trovare il lavoro dopo avergli fatto credere che questo governo avrebbe contrastato la denatalità con interventi a sostegno delle famiglie e dei giovani che la loro famiglia sognano di metterla su avete sfoderato un decreto che spegne con ferocia le speranze di un futuro dignitoso per intere generazioni condannandole al precariato selvaggio precariato selvaggio fatto di contratti a tempo determinato e voucher come regola e non come eccezione contratti che ai nostri giovani non permettono nemmeno di comprare un frullatore a rate figurarsi di ottenere un mutuo e di poter mettere su famiglia contratti che agevolano solo chi mette il profitto davanti a tutto davanti alla dignità delle persone alle loro storie quelle storie che sabato scorso abbiamo portato in strada a Roma in piazza ma che volutamente fate finta di non ascoltare accanto a questi giovani che il lavoro lo cercano nel giorno della festa del lavoro avete conciato per le feste anche chi già lavora e nonostante un impiego ce l'abbia non arriva a fine mese e sapete perché non ci arriva a fine mese perché mentre negli ultimi 30 anni in Germania o in Francia salivano del 30% in Italia i salari non solo non sono cresciuti ma addirittura sono scesi di quasi il 3% non arrivano a fine mese quei 5 milioni di lavoratori e lavoratrici che pur spaccandosi la schiena 40 ore a settimana hanno una paga da 4-5 euro l'ordi l'ora da contratto collettivo nazionale avete capito bene sto parlando di persone in carne ed ossa che devono scegliere se fare la spesa e far mangiare i loro figli o curarsi e comprare le medicine e in tema di lavoro sottapagato devo purtroppo ritornare ai nostri giovani perché questo riguarda anche i più brillanti che sono costretti a lasciare l'Italia la famiglia le persone care perché per fare lo stesso lavoro all'estero guadagnano in media il 40% in più come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella andare all'estero deve essere una scelta non una scelta obbligata a ciò avete associato lo smantellamento dell'unica vera misura di protezione sociale esistente in Italia percepita pensate un po' anche da 200.000 lavoratori poveri sto parlando ovviamente del reddito di cittadinanza che con questo provvedimento avete provato maldestramente a copiare il tutto solo per far cassa secondo uno studio di etica economia con il passaggio dal reddito all'assegno di inclusione la spesa annua si ridurrà di 3 miliardi e mezzo circa e risparmio più consistente riguarderà i nuclei con un unico componente ma un significativo risparmio di spesa peserà su tutte le dimensioni familiari mentre si continuano però a stanziare risorse per l'industria delle armi complimenti come avete fatto anche con questo decreto si tagliano fondi per il contrasto alla povertà in un momento in cui l'inflazione resta al 7% direi vergogna per quanto riguarda i cosiddetti occupabili invece nel testo del provvedimento in esame il governo è riuscito addirittura a scrivere che il percettore del supporto per la formazione e il lavoro che ricordo sono appena 350 euro al mese può autonomamente individuare progetti di formazione sapete cosa significa? che ancora una volta tradito una premessa elettorale quella mai mantenuta di far partire da gennaio 2023 i famosi corsi di formazione e ciò perché in questi anni avete boicottato sì avete volutamente boicottato il piano di potenziamento dei centri per l'impiego per i quali avevamo messi in campo durante il conte 1 un miliardo di euro con lo scopo di assumere 11.600 nuove unità di personale sapete quante persone sono state assunte alla fine del 2022? appena 4.000 complimenti avete fatto un ottimo lavoro ma maggioranza è a governo di tutto questo non interessa niente anzi creare cittadini di serie A e cittadini di serie B sembra un preciso obiettivo e cittadini di serie B si sentono dire da tempo che se non trovano lavoro la colpa è loro basta vi prego basta con gli slogan come il blocco navale miseramente infrantosi contro i numeri quintuplicati degli sbarchi e l'incapacità di ottenere risposte vere in Europa basta con le promesse non mantenute come quelle sulle accise sui carburanti che dovevate cancellare e invece sappiamo bene che avete cancellato gli sconti che le avevano limitate e basta di prego basta con gli attacchi alle misure del Movimento 5 Stelle con cui pensate di colpire noi come avversari politici e invece non fate altro che giocare sulla pelle di lavoratori e famiglie basta distrazioni di massa parlando di sostituzione etnica o di maternità surrogata per nascondere i diritti che nel frattempo calpestate pensate veramente di sfasciare l'Italia senza che nessuno se ne accorga e non parlo di noi qui in aula parlo dei cittadini che inevitabilmente vedranno cadere una ad una tutte le vostre maschere classiste e ipocrite noi saremo qui a denunciare ogni giorno le vostre azioni ingiuste e sbagliate il Movimento 5 Stelle non arretrerà di un millimetro nel presidiare e difendere quell'idea di stato solidale di giustizia sociale che sono alla base della nostra costituzione e concludo Presidente perché noi vogliamo comunque proporre costruire pertanto rinnovo due proposte concrete che potreste anzi dovreste cogliere al volo per dare risposte vere a chi è in difficoltà salario minimo per cancellare la vergogna di contratti di lavoro sotto la soglia di povertà da contratti collettivi nazionali e decontribuzione per gli aumenti dei salari quando la coperta troppo corta del taglio del cuneo fiscale a dicembre esaurirà i suoi effetti vi prego smettetela una volta per tutte di girarvi dall'altra parte grazie Presidente grazie senatrice bevi l'acqua è scritta a parlare la senatrice Minasi per dieci minuti prego senatrice grazie Presidente colleghi governo prima di iniziare questo breve intervento io vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione soprattutto la nostra relatrice per l'ottimo lavoro volto a migliorare questo prevedimento che oggi è in discussione è destinato a cambiare le sorti a differenza di quanto ho sentito proprio ora le sorti dell'Italia e degli italiani la cui vita dipende dal lavoro e mi riferisco non soltanto al tipo di vita che ciascuno può condurre in base a quanto può spendere ma soprattutto alla realizzazione individuale alla dignità che appunto il lavoro garantisce migliorando la persona e di conseguenza la società non per nulla la Costituzione si apre con l'articolo 1 ponendo il lavoro come base fondante della nostra Repubblica fondamento però che a dispetto dei tanti proclami che si sono seguiti negli anni da chi ci ha preceduto sono stati totalmente dimenticati basti guardare come il lavoro è stato trattato anzi direi maltrattato dai governi guidati negli ultimi 11 anni da chi per vocazione almeno presunta avrebbe dovuto essere il primo paladino dei diritti e delle tutele dei lavoratori e invece cosa abbiamo assistito in questi anni ad un progressivo smantellamento di quei diritti e di quelle misure che hanno massacrato il lavoro irrigidendo e soffogando il mercato del lavoro tartassando datori e lavoratori di tasse frenando gli investimenti e la crescita aiutando però la finanza ma mai le persone le imprese le famiglie i cittadini cioè il mondo reale ci troviamo quindi oggi a dover porre rimedio ai disastri fin qui compiuti e lo facciamo proprio ripartendo da quel mondo dalle persone dalle loro necessità dalle imprese che fanno girare l'economia creando benessere e da con provvedimenti che ridanno finalmente fiato al mercato del lavoro e nuove vie di ingresso per chi può lavorare e prevedendo parallelamente adeguati mezzi di sostentamento e di inclusione per chi non può inclusione che però non è assistenzialismo strumentale come è stato finora ma assistenza mirata a parificare le opportunità e garantire una partecipazione attiva alla vita della società e riguardo al reddito di cittadinanza io voglio solo partire da un dato 18,8% che cos'è? è il numero in percentuale dei percettori del reddito di cittadinanza che per Ampala a fine 2022 avevano un'occupazione meno di una persona su cinque e peraltro con impieghi trovati per lo più non grazie al meccanismo del reddito ma per altre vie quindi basterebbe solo questo dato a distanza di tre anni per dimostrare e certificare il totale fallimento di questa misura tanto cara ai 5 Stelle ma vado oltre degli oltre 725.000 percettori del reddito tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro solo il 42% cioè meno della metà si è presentato ai centri per l'impiego per avviare l'iter di ricerca di un impiego percentuale che si abbassa ulteriormente a sud dove invece il numero dei beneficiari è sensibilmente maggiore e c'è più bisogno di trovare lavoro anche questo dimostra come il reddito abbia totalmente fallito quindi queste 725.000 persone occupabili hanno continuato a percepire il reddito di cittadinanza senza essersi mai attivate per trovare un impiego fra l'altro vorrei sapere i Navigatolo che fine hanno fatto perché non pervenuti e quindi per loro questa misura è stata sempre un semplice contributo assistenzialistico senza benefici in termini di investimenti né su se stessi né per la società non sono state accompagnate verso un percorso lavorativo non ha agito da moltiplicatore per l'economia ma ha semplicemente rappresentato una spesa un esborso improduttivo di denaro pubblico che lo Stato oggi non può e non deve permettersi e poi voglio anche citare un altro dato il 71% di beneficiari del reddito cittadinanza ha il massimo ha al massimo il titolo di scuola media quindi sono persone non appetibili per le imprese da persone che vanno riqualificate quindi un esercito di potenziali poor workers lavoratori poveri che non sono in grado di emanciparsi dalla povertà né di aiutare l'economia quindi non possiamo che concludere che il reddito di cittadinanza partendo da questi dati ha avuto solo effetti negativi a partire da una gravissima deresponsabilizzazione anche morale perché è veramente scioccante che oltre la metà dei beneficiari abbia meno di 40 anni ma che dignità ha uno Stato chiedo che invece di porre le condizioni per creare posti di lavoro e garantire l'occupazione dei suoi figli si limita a offrire loro solo a sostegni e che generazione di cittadini stiamo splammando mi chiedo una platea di futuri adulti incapaci di provvedere a se stessi a fronte di migliaia di offerte di lavoro che restano senza risposta a centinaia di aziende che non trovano mano d'opera giovani che sono stati abituati da voi ad avere le loro piccole entrate senza darsi da fare una stortura terribile voluta da chi ora dalle piazze grida in vita a mascherarsi con complice PD col passamontania per fare le brigate di cittadinanza queste sono parole irresponsabili gravissime che non avreste dovuto nemmeno pensare di dover pronunciare soprattutto in uno stato come il nostro che ha vissuto gli anni di piombo vergognatevi quindi e chiedete scusa ai vostri giovani ai cittadini per lo stato di precarietà in cui li avete ridotti anche al ruolo che loro stessi vi hanno affidato e che voi avete offeso e tradito adesso e prima con quel provvedimento il reddito che è servito solo a purirvi la vostra coscienza come se dare un contentino al popolo sia il modo giusto in cui declinare la propria missione di suo rappresentante e no questo non è il modo giusto questo è il solo modo con cui garantirsi consenso al momento debito facendo leva sul bisogno con cui legare a doppio filo chi riceve il debito esattamente come avviene in territori di mafia strategia che peraltro non vi è riuscita se oggi sedete nei banchi dell'opposizione a rispetto a quanto affermato il vostro leader in piazza l'altro giorno questa è la piazza della maggioranza del paese che vede il governo che non ha soluzioni beh 20.000 persone in quella piazza non penso che rappresentino la maggioranza del paese ma sono solo quelle poche rimase a sostenere le vostre politiche e quelle del PD della segretaria Schlein che ha voluto affiancarvi e che ogni giorno chiede che attornasse il vuoto ecco voi avete costruito solo un popolo di precari ed emarginati noi oggi cerchiamo di ricominciare a costruire persone dignità e lavoro e su questo decreto come su tutti gli altri ovviamente ci avete sempre attaccato ancora una volta additandoci come disumani disattenti verso le fasce deboli ecco questa è una menzogna macroscopica che i fatti smentiscono innanzitutto dall'assegno di inclusione che introduciamo e quindi come assistenza alle persone disagiate e bisognose e parlo di assistenza non di assistenzialismo perché prevediamo infatti incentivi di lavoro incentivi per i datori di lavoro che assumano i beneficiari dell'assegno incentivi per l'occupazione giovanile soprattutto per i nitto un beneficio aggiuntivo di 6 mensilità dell'assegno per i beneficiari che avvia un'attività autonoma di lavoro o un'impresa o una società o cooperativa il fondo di 7 milioni di euro per gli enti del terzo settore che assumono persone con disabilità rifinanziamo i CAF che normalmente sono di aiuto alle persone meno abbienti maggioriamo l'assegno unico universale detassiamo per una quota più alta e cioè fino a 3 mila euro i premi aziendali e i rimborsi per bollette per chi ha figli proroghiamo il bonus su trasporti istituiamo l'osservatorio per la povertà riduciamo il cuneo fiscale tra il 6 e il 7% per i dediti fino a 35 mila euro consentendo un aumento sensibile nelle buste paga da chi che dà anch'esso fiato ai lavoratori misura che avete anche questa criticato perché non è strutturale ma mi chiedo voi cosa avete fatto in questi anni e questo quanto per grandi linee le misure che riguardano le fasce appunto più deboli quelle più povere più disagiate e per i minori anche aiutando le famiglie a liberare risorse preziose e a queste si sommano concludo presidente si sommano poi le misure per le persone occupabili per le quale giustamente cambiamo prospettiva con paletti più stringenti e puntando ad una reale formazione per un percorso serio di accompagnamento a loro e a proposito a client commissione addirittura piangeva all'idea che un percettorio occupabile si sia offerto un lavoro lontano da casa io voglio dire che dimentica ed è anche offensivo che noi dal sud siamo costretti a emigrare per lavorare da oltre un secolo e che noi mamme del sud vediamo ogni giorno i nostri figli andare a lasciare la famiglia gli amici il lavoro la propria terra e lì sì che piangiamo ma per ragione ma non li fermiamo perché non abbiamo il diritto se l'opportunità di formarsi lavorare e realizzarsi altrove piuttosto quello che noi stiamo cercando di fare è cambiare questa realtà e dovreste impegnarvi anche voi per farlo anziché piangere lacrime di cocrodillo per non essere riusciti a costruire il futuro dei nostri ragazzi e avere invece solo distribuito assegni di mantenimento mensile per tre anni a chiunque ciò che serve è quello che dico sempre una visione che questo governo e questa maggioranza stanno dimostrando di avere certo il decreto è un tassello fondamentale ma in un quadro di interventi molto più vasto come le misure per la natalità il potenziamento dell'istruzione i nuovi contratti collettivi i finanziamenti per la disabilità lo sblocco degli appalti e delle grandi opere e così via insomma con la politica del sud e cara senatrice bevi l'acqua e andate via siete stati cinque anni ora noi dite che stiamo sfasciando uso le sue parole d'Italia ma io dico dimostrate per una volta di avere voi a cuore gli interessi dell'Italia e degli italiani grazie 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 senatrice minasi ora è scritta a parlare la senatrice Zambito prego senatrice Zambito senatrice minasi voi vi dimenticate sempre che al governo ci siete stati pure voi conte 1 conte 2 conte 4 draghi 1 ci siete stati anche voi grazie presidente colleghe colleghi e governo per questo decreto è stata scelta la parola lavoro una parola che porta con sé un concetto sacro sinonimo di dignità per quanto ci riguarda e approfitto di questo momento per ringraziare le colleghe e i colleghi con cui abbiamo lavorato in commissione in queste settimane questo decreto non è all'altezza di un concetto così sacro e importante avevamo provato ad inserire alcune proposte emendative ma purtroppo abbiamo registrato un atteggiamento di netta chiusura una chiusura che ha significato ad esempio la bocciatura del nostro emendamento che voleva ripristinare la natura universalistica del reddito di cittadinanza perché non si è poveri a seconda dell'età ma delle condizioni economiche e sociali e questo a nostro avviso è inconcepibile vi siete convinti che i percettori di reddito siano tutti dei fanulloni questo avete raccontato al paese quando poi abbiamo visto i dati dell'AMPAL che dicono che solo il 3% dei percettori di reddito di cittadinanza sono realmente occupabili lo sapevamo sin dall'inizio ci distingue una netta diversità di visione del mondo e del mercato del lavoro per voi la competitività delle imprese si incentiva comprimendo e sacrificando sempre e solo i salari dei lavoratori per noi non ci può essere incentivo che non tenga conto anche della crescita salariare dei lavoratori questa visione peraltro è anacronistica non ha mai funzionato e non la chiedono neanche le imprese virtuose che sono la stragrande maggioranza di questo paese che semmai hanno bisogno e chiedono di investire di più sul capitale umano aggiungo è un tema quello dei salari su cui servirebbe un investimento forte in un momento di forte inflazione in cui i tassi logorano il potere d'acquisto di lavoratori e famiglie ma dal governo non arriva alcuna risposta al contrario ancora una volta assistiamo alla precarizzazione del mercato del lavoro ritornano i voucher non c'è un investimento serio su contratti stabili e di qualità è stato detto che siamo contrari al taglio del cuneo fiscale niente di più falso voglio ricordare che lo abbiamo fatto per primi come partito democratico semmai è invece vero il contrario e cioè che con i nostri emendamenti abbiamo provato a rendere strutturale il taglio che voi avete previsto fino al 31 dicembre anche qui restando totalmente inascoltati oltretutto per fare questo taglio avete trovato le risorse necessarie proprio dallo smantellamento del reddito di cittadinanza circa 3,5 miliardi di risparmio così alimentando una guerra tra più poveri e un po' meno poveri lo dico con profondo rammarico e pensando anche alla grande attenzione che questo governo dice di voler avere sul tema della denatalità pensare di combatterla creando un mercato del lavoro così come lo state immaginando e costruendo a me sembra sia in controtendenza rispetto agli obiettivi sbandierati in campagna elettorale e che continuate a sbandierare vedete quando si parla di povertà e di fragilità a me appare sempre molto normale che la discussione e il dibattito politico e parlamentare si accendano il contrasto alla povertà la rimozione delle ingiustizie e delle fragilità sono spesso alla base del nostro impegno politico ho iniziato a far politica occupandomi del mio quartiere poi della mia città come consigliera comunale a Pisa quando si è trattato di andare al governo della mia città non ho esitato un secondo a chiedere la delega alle case popolari una casa popolare aveva dato alla mia famiglia la possibilità di vivere sotto un tetto e con dignità a me nello specifico di crescere e studiare ecco perché quando si parla di queste tematiche sento un particolare coinvolgimento innanzitutto umano vedete sono convinta che il governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano ben presenti le difficoltà che vivono tanti nostri concittadini mi sorprende per questo che la risposta a queste difficoltà si concretizzi nella distruzione di una misura di sostegno alla povertà come il reddito di cittadinanza che presenta due caratteristiche fondamentali è universale e strutturale sono due caratteristiche che accomunano tutte le misure di contrasto alla povertà presenti negli ordinamenti dei paesi europei l'Italia sotto questo aspetto si era adeguata agli standard europei con colpevole e ritardo e adesso noi torniamo ancora una volta indietro certo a distanza di qualche anno dalla sua introduzione il reddito di cittadinanza poteva essere migliorato ma una cosa è certa questo provvedimento aveva rappresentato per l'Italia un grande passo avanti sul tema del contrasto alla povertà che a discapito del nome ha svolto il ruolo di reddito minimo garantito così come lo conosciamo in altri paesi europei e non lo diciamo noi ma lo dicono i numeri questa misura soprattutto in una fase di grande difficoltà come quella che abbiamo vissuto in occasione della pandemia ha dato sostegno a migliaia di famiglie ciò che serviva era migliorare e potenziare la presa in carico del percettore di reddito in un percorso di ricollocamento o di inserimento nel mercato del lavoro su questo aspetto avremo potuto lavorare insieme per ovviare ai problemi ai limiti che sono emersi avete deciso di fare in altro modo per tutti i poveri occupabili poi viene anche rafforzato l'obbligo ad accettare qualsiasi lavoro che garantisca i minimi contrattuali a prescindere dai costi di trasporto ed eventuale soggiorno insomma senza tenere conto della congruità dell'offerta di lavoro su questo ci torneranno le mie colleghe certo è positiva l'attribuzione ai servizi sociali comunali della valutazione multidimensionale della situazione della famiglia e dei singoli componenti l'unica pecca è che non c'è un solo euro per permettere ai comuni di svolgere questo compito nel miglior modo possibile infine e concludo non si comprende in quale modo e con quale stratagemma le politiche attive del lavoro che sono state il pezzo mancante delle riforme finora attuate dovrebbero e potrebbero funzionare era lì che bisognava intervenire su questo punto che era davvero il punto più importante da rivedere e da far funzionare il decreto non si occupa è chiara la gravità del fatto che con questo provvedimento l'Italia non solo fa non fa alcun passo avanti sul tema della povertà e del lavoro ma anzi ne fa più di qualcuno indietro avevamo una grande occasione recuperare i gap sulle politiche attive del lavoro e migliorare le inefficienze sulle misure di rettito minimo avete deciso di non fare né l'una né l'altra cosa avete deciso di alimentare una guerra tra poveri e meno poveri ne pagheranno le conseguenze tante famiglie italiane e tanti cittadini che si sentiranno nuovamente abbandonati dallo stadio grazie presidente grazie senatrice zambito ora è scritta a parlare la senatrice leonardi prego grazie presidente onorevoli colleghi membri del governo laura del senato si trova in questa giornata a discutere un atto davvero importante che incardina misure volte ad incidere su due temi fondamentali per la nostra società quello dell'inclusione sociale e quello del lavoro un decreto legge fortemente voluto dal presidente Giorgia Meloni e da tutto il suo governo che ha scelto di approvarlo proprio nella giornata del primo maggio festa del lavoro non una scelta casuale non una scelta di facciata ma una scelta di merito perché introduce in un contesto e in una giornata significativa misure importanti a tutela del lavoro e dei lavoratori l'obiettivo è infatti quello di aumentare stabilmente l'occupazione tagliare il cuneo fiscale ed attuare misure per abbassare gli effetti dell'inflazione sulle buste paga degli italiani dopo i massicci interventi per contrastare il caro bollette inseriti nella legge di bilancio che hanno consentito di abbattere i costi di luce e gas l'attenzione del governo si è concentrata infatti sull'obiettivo di aumentare il potere di acquisto delle famiglie italiane stiamo intervenendo con misure concrete ed efficace a tanti gravi problemi che ci avete lasciato e che pesano sulla vita quotidiana degli italiani soprattutto dei più deboli il decreto legge introduce infatti una serie di provvedimenti a sostegno dei lavoratori dell'occupazione ma anche delle imprese il più importante dei quali è certamente quello relativo al taglio delle tasse sul lavoro se chi ci ha preceduto non ha saputo intervenire in maniera efficace e soprattutto risolvere questo tipo di problemi beh stiamo intervenendo noi sta intervenendo il nostro governo e lo sta facendo con misure concrete in cui effetti si stanno già vedendo nella nostra società sono state liberate risorse per circa 4 miliardi di euro che il governo ha voluto destinare al taglio del cuneo contributivo di 4 punti percentuali che si vanno a sommare al taglio che già era stato introdotto con le misure contenute nella legge di bilancio e che consente ora un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per i redditi fino a 35 mila euro e di 7 punti percentuali per i redditi più bassi quelli fino a 25 mila euro in un periodo in cui crescono sia il costo della vita che l'inflazione il governo del presidente Meloni fa una scelta ben precisa quella di dare risposte concrete ai lavoratori che si ritroveranno fino a 100 euro in più in busta paga per ogni mese grazie a questo importante taglio del cuneo fiscale una misura che diciamoci la verità pressoché tutte le forze politiche riconoscono come soluzione utile per accrescere i poteri di acquisto degli italiani e contrastare la povertà e che il nostro governo sta dimostrando di saper mettere da subito concretamente in atto in assoluta coerenza con il mandato che abbiamo ricevuto dagli italiani l'attenzione alle famiglie e ai più fragili si conferma anche con altre misure come l'incremento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefit aziendali per i lavoratori con figli a carico questi sono aiuti concreti perché sono buoni spesa o buoni pasto che saranno interamente detassati si prevede inoltre una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico per i figli misure concrete misure che vanno a incidere su quello che è il nucleo fondamentale della nostra società la famiglia attorno alla quale tutte le politiche del governo Meloni si stanno muovendo con azioni concrete ed incisive per contrastare la povertà e l'esclusione sociale con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili minori o anziani dal 1 gennaio 2024 verrà attivato l'assegno di inclusione il beneficio mensile che avrà un importo non inferiore 480 euro verrà erogato dall'Inps quale integrazione al reddito in favore di quei nuclei familiari che comprendono appunto persone con disabilità minori o ultra sessantenni che siano in possesso di determinati requisiti e avrà una durata di 18 mesi e potrà essere rinnovato per altri 12 per attivare questo beneficio i destinatari dovranno sottoscrivere un patto di attivazione digitale che preveda anche incontri trimestrali per l'aggiornamento della propria posizione noi abbiamo sempre sostenuto che non è corretto che uno Stato metta sullo stesso piano chi non può lavorare da chi invece può farlo per questo confermiamo ed anzi oggi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare famiglie in difficoltà nei cui nuclei ci siano persone con disabilità minori bambini o anziani ma per chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione o riqualificazione al lavoro prevedendo però anche di garantirgli un rimborso spese pari a 350 euro nel periodo in cui avviene questa formazione e prevedendo altresì incentivi importanti per chi dovesse assumere chi è entrato in questo percorso è un cambio di paradigma rispetto al reddito di cittadinanza in cui venivano invece diseducati alla ricerca del lavoro e in cui possiamo dirlo i dati sono stati chiari anche nelle numerose audizioni che abbiamo avuto questa misura ha completamente fallito per quanto riguarda la sua vocazione di politica attiva del lavoro si è trasformata solo in una misura assistenziale disincentivando di fatto la ricerca del lavoro che invece una pietra miliare non solo della nostra Costituzione ma anche di quel valore di quella dignità che il lavoro porta con sé per tutti i cittadini italiani abbiamo talmente a cuore i giovani a differenza di quello che ho sentito dire che si è scritto in questi mesi in queste settimane che vogliamo investire realmente sui nostri giovani e per questo per incentivare l'occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% delle retribuzioni a favore di quei datori di lavoro che assumono giovani di età inferiori ai 30 anni questo decreto si occupa anche del lavoro delle persone con disabilità sostenendo nell'assunzione da parte degli enti del terzo settore con appositi incentivi e di relativo fondo di finanziamento con le misure previste si interviene anche per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e con anche specifici controlli ispettivi siamo stati tutti drammaticamente colpiti dalla mole di infortuni anche mortali che hanno coinvolto ragazzi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro per questo si è intervenuti con una revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e viene istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative sempre in tema di sicurezza sul lavoro sono previsti ad esempio l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di particolari attrezzature e attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza concludo presidente le misure che andremo ad approvare oggi dopo un approfondito iter in commissione che ci ha visto a udire confrontarci effettivamente con moltissimi soggetti per questo mi sento di ringraziare in primis la senatrice Mancini per il grande lavoro il presidente e tutti i membri della commissione noi guardiamo con attenzione al mondo del lavoro con questo atto in approvazione taglio del cuneo fiscale incentivi alle assunzioni presa in carico dei soggetti più fragili formazione retribuita per aiutare chi può ad entrare nel mondo del lavoro interventi sulla sicurezza incentivi per l'occupazione delle persone con disabilità dei giovani delle donne vittime di violenza il finanziamento dei centri estivi per conciliare famiglia e lavoro tutte misure di buonsenso tutte misure necessarie tutte misure a favore degli italiani che sono la nostra priorità grazie grazie senatrice leonardi ora è scritto a parlare il senatore russo prego sì grazie signor presidente governo onorevoli colleghi inizio l'intervento innanzitutto ringraziando un entro anche io ringraziamento alla radice mancini al presidente zaffini per l'ampio lavoro che è stato svolto in commissione dove si sono stati auditi decine di soggetti sociali associazioni sindacate associazioni di categoria e dove non è vero che il governo è stato sordo o la maggioranza è stata sorda è stato fatto quello che poteva essere fatto avendo chiara la direzione che si voleva imprimere perché noi abbiamo una visione strategica e che chiaramente è direttamente opposta a quella di chi ci ha preceduto al governo fino adesso e negli ultimi anni chiunque in buona fede ha dovuto rendersi conto dei danni profondi spesso difficilmente rimediabili provocati a scelte politiche dettate non solo da un'imposizione ideologica ma persino da un puntio o da una mossa di merestri di propaganda quello che abbiamo ascoltato anche adesso negli interventi dell'opposizione un governo che è espressione della reale volontà popolare che non è frutto di giochi di palazzo ma che è frutto di elezioni e di risultati elettorali che da sette mesi ci vedono sempre vincere e quindi avere il conforto del popolo e che si accorge degli errori compiuti in precedenza ha il dovere di affrontare la situazione per quello che è e porre il rimedio agli errori e paradossi che sono rimasti come un macigno sul percorso dello sviluppo della nazione è il caso del reddito di cittadinanza il fallimento conclamato di una delle battaglie simbolo del Movimento 5 Stelle si riassume tutto nei dati che rimo dall'Inps e dall'Istat due terzi dei 3,7 milioni di pericieri della misura cifra che nel bilancio pubblico impatta per 8 miliardi di euro pari quindi a 2 milioni e 4 di individui non risulta presente neanche negli archivi Inps degli estratti conti contributivi degli anni 2018-2019 tradotto questo significa che due dei percettori sul terreno non solo non hanno trovato lavoro nel periodo di riduzione del reddito ma proprio non lo hanno cercato anche però se si volesse escludere il tema lavoro dal bilancio del reddito di cittadinanza le cose non andrebbero meglio l'Istat rivela infatti che nel 2020 le famiglie in condizioni di povertà assoluta cioè non in grado di acquistare un paniere di bene e servizi sufficienti a uno standard di vita minimamente accettabile sono aumentate da 1 milione e 674 mil 2 milioni il che equivale a un milione di poveri in più se il reddito di cittadinanza da una parte ha permesso l'affetto di popolazione di uscire dal livello di povertà assoluta e probabilmente anche di affrontare il momento apicale della pandemia dall'altro ha creato nuovi poveri alterando la geografia della distribuzione dei ambienti dal sud al nord il reddito di cittadinanza può probabilmente definirsi il fallimento per eccellenza proprio perché contiene in sé l'illusione del successo a buon mercato ma si è rivelata una misura ben lontana dagli obiettivi per cui era stata progettata se poi si riconoscesse che si tratta di uno strumento di assistenzialismo come un altro si potrebbe anche aiutare qui ogni valutazione è giunto quindi il momento di acquisire una concezione diversa dello stato di cittadinanza nel senso di individuare e implementare quelle attività inclusive che trasformano persone in un cittadino capace di fare la sua parte in una comunità organizzata attraverso la dignità del lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza così come è stato concepito prima che il lavoro manca la capacità di divenire un lavoratore solo superando questo si possono dilatare le nebbie degli equivoci insidi nel reddito di cittadinanza il reddito per stessa ammissione di chi l'ha immaginato non ha creato occupazione ma ha svolto un diverso ruolo sociale che oggi però l'Italia non può più sostenere né dimensionalmente né eticamente se da una parte il sostegno degli indigenti deve continuare e continuerà a essere una priorità sociale del nuovo governo non si possono più depauperare le risorse dello Stato che non qualifichino il capitale umano non solo sotto il profilo delle competenze ma anche da un punto di vista culturale perché il vero danno è la mancata affermazione del valore del lavoro come strumento in mezzo di riscatto e di emancipazione sociale regalando ai nostri figli l'ennesimo alibi del lavoro che non si trova in Italia milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 anni hanno scelto di non studiare e neppure provano a cercare un lavoro l'immigrazione dei cervelli la crisi economica e oggi il reddito di cittadinanza sono diventati un ulteriore alibi per continuare a illudere i nostri figli destinandoli così alla paralisi e alla emergenazione è quindi necessaria una scelta molto più difficile di quella che si è limitata come è venuto in generale sin ad ora a erogare un assegno e passare oltre ma è la sola utile a fare avanzare la nostra società ed è la scelta di questo governo che sta mettendo giù tanti piccoli tasselli per far ripartire il mercato del lavoro questa è l'impostazione culturale e politica che è alla base di questo decreto tra le principali novità che voglio sottolineare vi è sicuramente l'istituzione dell'assegno di inclusione come nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza e che potrà essere richiesto dai nuclei familiari con disabili minorenni e over 60 che siano in possesso di determinati requisiti relativi all'accetto di diranza o all'autorizzazione al soggiorno richiedente a durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche in sede di esame in commissione come avevo detto prima si è svolto un lavoro ampio e approfondito sono stati apportati importanti miglioramenti frutto del confronto politico anche con le tante categorie in particolare in prima di sottolineare l'approvazione di un emendamento che ha essesso il riconoscimento dell'assegno ai componenti del nucleo familiare svantaggiati e inseriti in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati alla pubblica amministrazione quale doverosa misura di inclusione da destinare ad esempio ai senza fissa dimora e ai minori che fuoriescono dal circuito delle case famiglie per il passaggio della maggiorità e ancora grazie all'approvazione di un altro emendamento l'assegno di inclusione potrà svolgere un ruolo fondamentale nel recupero dell'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza supportandola soprattutto nella prima fase del loro percorso la possibilità di accedere a un sussidio economico che garantisca una sicurezza economica nel breve e medio periodo infatti incide sia sulla scelta della donna di lasciare il maltrattante in caso di convivenza sia su quella di uscire dalle case di accoglienza ha quindi un duplice impatto positivo permette di allontanarsi dalla situazione di violenza e di prevenire eventuali recidive così come contribuisce a liberare più velocemente le disponibilità di posti nelle case di rifugio consentendo così a un numero maggiore di donne di essere accolte chi ha accusato il governo di non occuparsi delle difficoltà delle famiglie italiane dovuto al coro vita ha avuto da noi una risposta precisa un'altra misura fondamentale e qualificante inserita all'interno di questo decreto dove è previsto che per il periodo doveva dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 è stata inserita questo importante taglio al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti grazie a me solo parziali contributi di prevenzione al loro carico che sto concludendo che potrà portare ad avere fino a 100 euro in più nella busta vaga mensile inoltre a fine promuovere l'occupazione giovanile sono previste dei bonus di assunzione a favore delle aziende che andranno ad assumere under 30 dal 1 giugno al 31 dicembre e potrebbe evitare dell'incentivo i giovani lavoratori devono avere meno di 30 anni di età essere NIT cioè persone che non lavorano e sono inserite in corsi di studio o di formazione possono essere registrati al programma operativo nazionale di iniziativa occupazione a giovani concludo Presidente dicendo che chiaramente ancora una volta in un'azione di governo che è ampia organica che come ho detto in altri miei interventi non si propone di risolvere i problemi oggi ma di risolvere nell'arco di 5 anni con questo decreto noi stiamo mettendo avanti un percorso che darà senso alla possibilità di sviluppo economico attraverso il lavoro e non attraverso l'assistenzialismo e che sicuramente ridarrà la possibilità di questa nazione di pensarsi con un futuro che non sia semplicemente quello di una povertà istituzionalizzata ma di chi riesce a uscire dalla povertà attraverso il lavoro grazie grazie senatore Russo è scritta a parlare la senatrice Furlan prego allora intanto senatore Berrino grazie sto prendendo nota infatti grazie grazie presidente devo dire che oggi ci troviamo a parlare del cosiddetto decreto lavoro ma che è molto di più del decreto lavoro non si occupa solo di lavoro come è già stato precedente espresso dagli interventi dei colleghi di maggioranza devo dire che il rilievo che ha avuto la discussione in commissione e ringrazio tutti i commissari presenti di maggioranza e di opposizione è stato molto alto ognuno ha parlato di campi di interesse per precedenti esperienze personali questo sì per precedenti esperienze politiche è vero anche presidente che poi nella discussione nel dibattito politico che dal primo maggio a oggi ci ha accompagnato sono stati toccati pochissimi temi di tutti quelli che invece il decreto cosiddetto lavoro tocca e questo spiace perché ce ne sono molti di interesse ma chiaramente soprattutto l'opposizione ha voluto porre l'accento laddove legittimamente ma incomprensibilmente è stata fatta solo polemica ancora oggi ne abbiamo sentito in quest'aula soprattutto da un gruppo politico presidente che non si rassegna a dover rimettere in frigo le bottiglie vuote di quando si è brindato alla fine della povertà povertà che non è mai finita e anzi aumentata in questi cinque anni e a chi ci dice che il reddito di cittadinanza non doveva essere eliminato come non lo è stato ma doveva essere modificato e migliorato rispondiamo che questo è stato fatto questo è stato fatto in questi mesi e in questo decreto e gli effetti positivi di queste modifiche si sono subito visti in questi giorni abbiamo sentito chi si vantava che i 500 e passamila occupati nuovi di quest'anno fossero l'effetto positivo di provvedimenti precedenti in questo in parte vi posso dare ragione sono merito del reddito di cittadinanza che è stato modificato in positivo e da quando è stato modificato in positivo le assunzioni sono schizzate in alto e hanno raggiunto i 500 mila alle 500 mila unità merito del momento positivo trasmesso a chi deve assumere ma merito anche di tutti quei percettori che sapendo di non poterla più far franca e di tutti quei percettori che sapendo che non avrebbero più avuto diritto al reddito hanno incominciato a cercare e a trovare lavoro anzi a cercarlo non tanto perché il lavoro era già lì era solo da cogliere e così in pochi mesi le assunzioni sono cresciute tantissimo e devo dire che a chi soprattutto e mi rivolgo a lei presidente perché non posso farlo direttamente ma al movimento 5 stelle che continua con questa insistenza a dire che le regioni soprattutto quelle del centro-destra ma poi vedendo i dati si equivalgono tutti hanno boicottato gli elementi cosiddetti positivi del reddito di cittadinanza a partire dal potenziamento umano e infrastrutturale dei redditi di cittadinanza raccontate o fate suonare un disco rotto che si inceppa io personalmente ho fatto l'assessore al lavoro di regione Liguria per sette anni e mi sono occupato del potenziamento dei centri per l'impiego e vi dico che la Liguria con un'amministrazione di centro-destra con l'assessore al lavoro di Fratelli d'Italia pensate voi il massimo della negatività che il gruppo di 5 Stelle possa pensare è stato il primo a finire il potenziamento in termini di assunzioni di donne e uomini dei centri per l'impiego ed è stato il primo a iniziare il potenziamento dei centri per l'impiego dal punto di vista infrastrutturale e allora cosa raccontate e allora cosa raccontate a quali dati accedete sono pubblici quei dati sono pubblici quei dati e guardate se voi vi agitate mi parlate sotto io sono un uomo da stadio mi esalto mi fate una cortesia se mi contestate anche in diretta no vabbè senatore è un vero complimento senatore Berini diciamo che c'è allora si rivolga alla presidenza io naturalmente come sempre richiamo nel caso ma siamo diciamo nelle regole proprio per stare nella calcistica del vantaggio accettabili però se non siamo sullo stadio ma siamo in aula del senato io naturalmente gliene sono molto grata prego continui le verrà conteggiato il tempo tranquillamente rivolgere a lei affinché sentissero a quelli a cui non mi possono rivolgere direttamente ma che si rivolgono direttamente a lei e non a lei senza microfono ecco detto questo è inutile quindi continuare a raccontare una favola che non c'è laddove laddove non si è riusciti a potenziare le cause vanno cercate in altri in altri fattori non certo nella volontà politica di affossare un provvedimento che già si è affossato da solo e quello che noi dicevamo nel 2018 e io lo potevo dire anzi c'era qualcuno delle attuali opposizioni che mi diceva di l'uturo che noi non possiamo per via del referendum che era stato come detto all'epoca dicevamo al ministro Di Maio che assumere 3.300 navigator avrebbe portato per legge a 3.300 disoccupati e così è stato perché chi era il governo nella precedente legislatura non ha avuto il coraggio e non ha potuto dal punto di vista legislativo trasformare quei contratti co-co-co in contratti a tempo indeterminato e sapete cosa ha fatto lei Presidente forse lo sa benissimo lo sa anche a chi mi rivolgo tramite lei l'hanno scaricati sulle spalle delle regioni che non hanno potuto fare altro che lasciarli a casa senza nessuna senza nessuna risorsa in più per poterli stabilizzare se non ci riesce il governo sicuramente non ci possono riuscire le regioni ma quando noi dicevamo queste cose ci davano dei portatori di iella perché questa cosa era fatta non per dare un alto là chi voleva fare quel provvedimento all'epoca ma era fatta per affossare il reddito di cittadinanza e come sappiamo si è poi affossato da solo nei risultati ma devo anche dire Presidente che il come dire si è sollevata una voce che rinfaccia questa maggioranza di non essere stata ma lo fa anche agli organi di stampa di non essere stata attenta alle storie vere e ce ne sono tantissime raccontate in piazza dal Movimento 5 Stelle ma io e forse non c'entra con questa discussione ricordo una cosa che se forse quelle storie raccontate non fossero state sopraffatte nell'interesse da chi parlando di lavoro e di dignità invoca le brigate di cittadinanza e passamontagna forse quelle storie avrebbero trovato molto più interesse anche in questa maggioranza e anche nei giornali e quindi non è colpa nostra non è colpa di questa disattenzione chiudendo Presidente tra i tanti articoli che innovano il mondo del lavoro in Italia voglio soffermarmi perché anche questo l'ho vissuta personalmente come esperienza di quando mi occupavo di lavoro in regione io trovo molto interessante il superamento del decreto dignità che in pratica è fatto dall'articolo 24 perché vede non sempre i contratti a tempo non sempre i contratti a chiamata sono indice di volontà dei datori di lavoro di non dare certezza a chi cerca lavoro anche solo per un weekend anche solo per tutti i weekend dell'estate il superamento del decreto dignità è il poter utilizzare i lavoratori a chiamata i lavoratori a tempo determinato in determinati settori aiuta e sta aiutando l'economia italiana a superare e a lasciarsi alle spalle le crisi che abbiamo passato e aiuta tantissimi lavoratrici e lavoratori che cercano lavoro a tempo determinato o che si affidano a lavoro determinato perché altri non ne possono trovare a trovare lavoro retribuito e protetto delle assicurazioni che esso deve non come è successo negli ultimi anni a trovare solo lavoro in nero e un ultimo accenno lo devo fare a chi in questi anni di governo precedente a questo se ne è infischiato di rinnovare i contratti collettivi in aumento e ha lasciato che si continuassero a rinnovare i contratti collettivi senza aumento per poi dire adesso che noi dobbiamo fare quello che non è stato fatto in nessuno degli ultimi dieci anni da nessuno degli ultimi governi e oggi ci dice che è stato al governo per dieci anni che gli stipendi per colpa dei contratti collettivi nazionali sono troppo bassi grazie 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 senatore allora senatrice Furlan prego grazie presidente colleghe e colleghi governo oggi siamo chiamati a discutere una proposta di legge che nasce con l'intenzione di offrire risposte alla questione della povertà al suo dramma dell'inclusione sociale socio-laborativa invece ci troviamo a confrontarci su un testo che affronta molte questioni diverse tra di loro anche troppe offrendo però risposte del tutto inadeguate sappiamo bene come nasce il decreto legge dalla campagna elettorale emersa continuamente sul tema di come abolire il reddito di cittadinanza una bandiera di contrapposizione politica quando invece sul tema della povertà dovremmo avere tutti la stessa bandiera che è quello di riconoscere la dignità umana della persona della famiglia offrire chance per uscire dalla povertà con questa proposta di legge si supera ogni tentativa di costruire una normativa che metta il nostro paese accanto alle grandi democrazie europee nel sostegno della povertà delle politiche di inclusione addirittura si dividono i poveri per categoria e la discriminante della divisione è l'età l'età anagrafica come se dipendesse solo da quella lo stato di povertà la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assenio di inclusione diventa una misura categoriale rivolta esclusivamente a un certo tipo di famiglia con minori anziani disabili e tutto il resto viene tralasciato abbiamo visto tutti le stime con la nuova legislazione circa il 50% delle famiglie che oggi hanno reddito di cittadinanza rimane esclusa da questo tipo di copertura di sostegno e allora mi chiedo e credo che ognuno di noi se lo chieda il resto gli altri 50% che fine fanno li abbiandoniamo a se stessi non riconosciamo più a questi il diritto all'inclusione alla propria dignità e poi la questione dei figli che è eclatante a 18 anni non sei più considerato una parte della famiglia che deve essere sostenuta e allora vi chiedo in questo paese dove la scuola la formazione negli anni passati nel nostro dopoguerra ha davvero definito e creato le condizioni dell'ascensore sociale della possibilità di riscatto della persona cosa facciamo adesso a 18 anni li facciamo abbandonare gli studi e devono andare a lavorare esattamente il contrario di quello che dovremmo fare noi abbiamo ascoltato nella commissione tante associazioni laiche cattoliche la caritas che ogni giorno è in campo contro la povertà tutti tutti ci hanno detto una cosa non va bene non riconoscere la povertà per tutti quelli che hanno questa condizione e l'occupabilità della persona non è soltanto un dato anagrafico ci sono tanti fattori anche quello formativo anche quello culturale anche quello del disagio sociale anche quello delle dipendenze che creano condizioni di occupabilità oppure no come si fa a discriminare i poveri credo che questa sia la cosa più grave che stiamo facendo e siccome quando si tratta della dignità delle persone diventa ostinata ed è starda io chiedo alla maggioranza siamo ancora in tempo con gli emendamenti per correggere gli errori macroscopici che ci sono in questo decreto e poi il tema di come si riconosce la possibilità dello sbocco laborativo guardate questo è un tema delicatissimo e importante perché significa creare davvero per le persone l'uscita dallo stato di povertà se c'è una cosa che ha funzionato poco nel reddito di cittadinanza è proprio stata la seconda gamba l'occupabilità delle persone perché non si può soltanto immaginare che con un decreto si crea ci vuole impegno risorse investimenti che non abbiamo visto è vero in alcune regioni del nostro paese tra cui in modo un po' più parziale di quello che ho ascoltato c'è la regione Liguria noi abbiamo condizioni anche di attività di possibilità per i centri per l'impiego in altre molto meno e allora qual è l'investimento sulle politiche attive del lavoro qual è l'accompagnamento formativo che deve essere un diritto per chi cerca lavoro in modo particolare per chi cerca lavoro per uscire dalla povertà non abbiamo visto nessun investimento né nella finanziaria né nel DEF né tantomeno in questo decreto e allora diventa finto l'accompagnamento alla formazione al lavoro se non si investe in quelle politiche attive del lavoro che aveva annunciato all'inizio della legislatura proprio nella decima commissione la ministra al lavoro non l'abbiamo più vista desaparecito dopo l'annuncio di un confronto importante in commissione sul progetto delle politiche attive del lavoro non abbiamo più avuto modo di incontrarla di discuterne nemmeno di ascoltare quelli che sono i progetti che si vogliono portare avanti e poi guardate non si combatte la povertà creando condizioni di una corsa ad ostacoli per chi è povero cosa significa che si deve accettare un lavoro in tutto il nostro paese che è molto lungo lo ricordo a prescindere dalla distanza se anche è a tempo indeterminato part time cosa vuol dire che dalla Sicilia da Agrigento si va in Val d'Aosta con un stipendio part time e lì con quello stipendio part time ci si deve vivere e magari mandare anche qualche soldo a casa la propria famiglia ma ci si rende conto di cosa stiamo parlando quando si parla del lavoro che è la vera condizione di dignità della persona si deve parlarne col grande rispetto che si ha per la coesione sociale per il valore sociale del lavoro e soprattutto per la dignità umana di qualsiasi persona e poi certo il tema del lavoro noi abbiamo tanti precari l'abbiamo anche visto in questi giorni quando abbiamo affrontato il tema della pubblica amministrazione il tema del precari della pubblica amministrazione e sono purtroppo in tutti i settori della nostra economia vogliamo ancora allargare questo stato e quando pensiamo di legare il rinnovo la cosiddetta deroga alla possibilità di contrattazione diretta tra l'azienda e il singolo lavoratore precario pensiamo davvero che ci stia la stessa forza da una parte e dall'altra del tavolo io credo di no perché ricreare le condizioni del causalone finalmente l'avevamo superato in questo paese e poi i vouch non bastava averli ripristinati addirittura li allarghiamo tra l'altro in uno di quei settori che ha una flessibilità contrattuale direi davvero estrema ci sono tutti gli strumenti anche contrattuali per affrontare innanzitutto la stagionalità perché allargare nuovamente questo strumento dei vouch faccio allora presidente io chiedo davvero che sia possibile almeno per alcune categorie a partire ad esempio dai lavoratori fragili di creare condizioni di correzione in quest'aula perché gli strumenti che abbiamo davanti e dobbiamo discutere sono seri e sono legati innanzitutto alla serietà che dobbiamo nei confronti degli uomini e delle donne del nostro paese grazie grazie senatrice Furla ora è scritto a parlare il senatore Magni prego grazie presidente e onorevoli colleghi io devo dire che dopo la riunione di stamattina in commissione di lancio ho deciso di cambiare il mio intervento e arrivo in quest'aula devo dire molto deluso profondamente deluso da questa discussione da settimane discutiamo di questo decreto e oggi ancora oggi si è dimostrato quanto arroganti siete come l'avete fatto il giorno del primo maggio perché un decreto come questo non si comunicava alle parti sociali il primo maggio ma si costruiva gli incontri per poter arrivare a una piattaforma in grado di trovare la soluzione un accordo con le parti sociali e anche datoriali se si voleva affrontare il problema del lavoro invece voi avete ovviamente giustamente lo rivendicate la maggioranza e pensate di disporre come volete ecco l'arroganza qual è? è il fatto che stamattina in commissione bilancio i nostri emendamenti per la maggior parte bocciati con una discitura non c'è la relazione tecnica e quindi utilizzando l'articolo 81 noi ci troviamo la relatrice a questo provvedimento che presenta 11 emendamenti in cui il primo che presenta cambia la scala dei valori dal punto di vista dell'equivalenza e non c'è una relazione tecnica apportata in più alle ore come si dice 10 10 e 30 arriva un emendamento in cui si propone di ripristinare il fondo che la ministra Calderoni aveva tolto alcuni mesi fa questo è quello che avviene quindi siamo di fronte al fatto in cui si può fare disfare senza tener conto della democrazia e della partecipazione questa cosa è inaccettabile dal punto di vista della procedura lo dico subito perché questo è il dato non è che non si può presentare gli emendamenti non si può lavorare in questo modo anche perché gli emendamenti i segnalati noi li abbiamo presentati il 28 di maggio siamo al 21 di giugno quindi c'era tutto il tempo per fare questa discussione questo è stato il sottratto in questa cosa ora io sono un uomo del novecento un uomo attempato come si dice credo di essere orgogliosamente il novecento perché dico questo perché io sono uno che sono nato e cresciuto e in cui penso che il lavoro è nobilità all'uomo non solo perché ho iniziato molto presto a lavorare perché ho questa concezione però questo decreto non ha niente di tutto ciò questo decreto non l'ha ascoltato non solo le nostre idee le nostre proposte non l'ha ascoltato chi è stato audito ad esempio ho sentito prima in aula tutta una discussione cioè la cosa principale è colpire il fatto che bisogna colpire i poveri non la povertà perché il regno di giudizia di nata non è che è scritto che non si può modificare certamente che si può cambiare certamente che andava corretto però un sistema universale in tutti i paesi c'è tranne il nostro che era stato introdotto e adesso si toglie e si dividono i poveri per categorie e stamattina si cambia la diciamo l'equivalenza sulla questione della casistica proprio perché si accorge che qualche cosa è cambiato oppure si introduce alcuni emendamenti proposti dalle opposizioni in queste cose che ha fatto la relatrice quindi questo è il dato ci si accorge benissimo è raro e umano e quindi per l'amor di Dio se facciamo le correzioni in positivo ok ma almeno come si dice non l'arroganza di dire che decidiamo noi facciamo noi e quindi questo è il dato fondamentale e come detto prima non si è ascoltato non noi ma la Caritas non si è ascoltato chi di Progetta se ne parla ogni giorno tutti i giorni impegnato su questo terreno non si è ascoltato i dati che ci ha spiegato l'Ibs l'Apal in quanti sono potenzialmente i lavoratori oggi che percepiscono il reso di cittadinanza che sono possibili l'avviamento del lavoro e poi anche qui non si è tenuto conto che il rapporto che per introdurre lo diceva prima la senatrice Furlan c'è uno che si propone come si dice se è di Cattanisetta di venire al mio paese a lavorare e se invece non accetta come si dice perde il diritto ma non esiste sappiamo tutti che c'è un problema di rapporto tra domanda e offerta c'è un problema di quale condizioni almeno si faccia io ho proposto un emendamento firmato da tutti le opposizioni c'è in cui a mia prima firma ma da tutte le opposizioni in cui dice un compenso congro una garanzia di un posto di lavoro per poter affrontare questa cosa e chiedere e chiedere di avere l'occupazione sotto casa no chiedere un minimo delle cose che si fanno invece voi ideologicamente siete contro a questo a questo tipo di ragionamento volete davvero siete contro i poveri e siete davvero volete mortificare le persone che peggio stanno e quindi aumentate le disuguaglianze e questo è un altro tratto ad esempio sul terreno della flessibilità avete introdotto e avete accettato anzi nella discussione che abbiamo fatto in commissione avete peggiorato addirittura il testo governativo sulla questione delle causali cioè avete tolto le causali avete liberalizzato si può andare 24 mesi senza avere una causale perché si fa il contratto a termine e addirittura si introduce il fatto che le causali possono determinare tra il singolo lavoratore lavoratrice e il datore di lavoro come tutti ben sanno in questo caso non c'è parità di condizione quando si contratta in questa situazione questo è il dato quindi è un terreno di subalternità cioè mettete in difficoltà le persone da questo punto di vista e non ci avete ascoltato assolutamente su niente da questo dato e non avete affrontato è inutile che si giri intorno certamente non è colpa l'ho già detto tante volte e lo ripeto io non ho questo timore non è colpa di questo governo come si dice se certe situazioni ci sono di precariato oppure non sono state rinnovate i contratti però parliamoci chiaro sono passati nove mesi da quando siete il governo la dovete smettere di continuare a pensare che è la colpa degli altri dovete dire che cosa fate voi la vostra impostazione è una impostazione classista questo l'ho già ripetuto e lo ripeto con forza perché pensate sostanzialmente che esistono ovviamente la società in classi e volete fare in modo che quelli subalterni cioè quelli che stanno peggio devono continuare a stare peggio e avete come dire allargato le maglie per i datori di lavoro in cui chiedevano maggiore flessibilità questo è il dato e infine ovviamente invece non avete trovato un modo una discussione una proposta per cercare di affrontare il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi per fortuna in qualche modo qualche contratto si sta rinnovando ieri si è stato rinnovato il contratto del legno e affini il contratto ai meccanici prevede un recupero del 6,6% dell'inflazione questi aumentano la paga base aumentano le condizioni di lavoro cioè la disponibilità economica perché quando si aumenta la paga base c'è un rapporto con l'insieme del salario diretto e indiretto il cuneo fiscale in cui voi spendete e spandete con grande forza è una cosa temporanea e per di più spero anzi in effetti in questo decreto c'è anche qui un ulteriore peggioramento perché c'è la possibilità di dare un salario ai lavoratori che fanno in alcuni campi ad esempio del settore turistico che lavorano di notte o di domenica si può dare del salario senza che questo sia riconsiderato come si dice parte dalla retribuzione c'è una specie di salario mordi e fuggi ora davvero pensate di costruire una società in questo modo io penso che se vogliamo pensare alle discussioni come qui si diceva alla natalità al fatto di costruire un futuro a far sì che le generazioni non vadano all'estero bisogna forse il problema di ridurre la precarietà di fare delle assunzioni programmate di dare certezza di mettere in condizioni chi ha studiato di poter svolgere un ruolo e una funzione per quanto ha speso durante il suo studio questa è la cosa da fare ecco parlare di lavoro e offrire ovviamente le occasioni di lavoro voi pensate di dare solo al mercato invece la condizione per creare i posti di lavoro guardate io non sono contro l'impresa penso benissimo che se esistono i lavoratori esista anche l'impresa il problema è se ha delle regole oppure è tutto libero purché come si usa dire ci sia un posto di lavoro questo non avviene ecco in tutto questo infatti discutete di lavoro ma tutto questo non c'è tutto questo in questo decreto non c'è l'unica cosa che c'è in questo decreto è maggiore precarietà maggiore pressibilità tolte il reddito di cittadinanza avete diviso i poveri in categorie e questo è una vergogna e questo è il dato quindi questo è finisco presidente e devo dire che convintamente davvero pensavo di poter dare un contributo a una discussione per migliorare e cercare di dare una risposta positiva diciamo al mondo del lavoro e ai lavoratori purtroppo per colpa di questa maggioranza è impossibile dare questo contributo e quindi potremo conto a questo provvedimento grazie grazie senatore Magni è scritto a parlare la senatrice Versace prego sì grazie presidente onorevoli colleghi allora il testo che in questo in questo testo riguardo le misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro possiamo già considerarlo sicuramente una buona base di partenza secondo quanto afferma il governo lo scopo di questo provvedimento è quello di agevolare promuovere la trasparenza e la semplificazione del mondo professionale tuttavia credo che tutti voi possiate essere d'accordo sul fatto che temi così importanti come la promozione dell'inclusione e la tutela del mercato del lavoro necessitino di un impianto normativo coerente nel suo insieme dotato di una visione volta a risolvere non solo le urgenze momentanee ma anche a garantire una prospettiva a lungo periodo ecco un primo punto che vediamo sicuramente in modo favorevole riguarda certamente l'inserimento dell'assegno di inclusione che andrà a sostituire già a gennaio 2024 il reddito di cittadinanza e oggettivamente un provvedimento che ha disatteso le aspettative come del resto molti di noi avevano anche previsto sin dal principio in tempi non sospetti quanto meno per come era scritto e applicato una scelta che riteniamo eticamente ed economicamente più corretta che servirà a sostenere quelle persone che dimostrino oggettivamente di non essere in grado di lavorare cercando di non lasciare nessuno indietro l'intento è valido e condivisibile però crediamo che tutte le misure di sostegno a reddito debbano essere eque effettive ed universali ed è proprio con riguardo all'universalità della misura che nutriamo qualche dubbio sulla sua reale applicazione ad esempio devo rilevare la rigida individuazione dei criteri per poter beneficiare dell'assegno di inclusione questo infatti comporta il rischio di escludere i soggetti senza fissa di mora per fare un esempio che in quanto ultimi tra gli ultimi dovrebbero poter fruire di misure di sussistenza così come già segnalato anche da numerose associazioni di categoria che sono state udite in commissione un'altra criticità attiene ad un ambito a me molto caro e parlo del mondo della disabilità riprendendo le perplessità già manifestate anche dalla FISH in sede di audizione voglio segnalare che l'attuale formulazione della norma comporta due sostanziali rischi che non sono assolutamente da sottovalutare il primo è che l'assegno di inclusione così come disciplinato rischia di escludere persone con disabilità che non rientrino nelle ipotesi di disabilità media grave o non autosufficiente bene sarebbe opportuno decisamente opportuno estendere la misura anche a quei nuclei familiari che presentano un componente con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 il secondo aspetto invece che deve essere chiarito è che dal calcolo del reddito familiare cui fa riferimento per poter beneficiare all'assegno di inclusione devono essere escluse espressamente le prestazioni connesse all'invalidità civile riguardo a questo punto voglio specificare che questa norma in questa norma il testo è poco chiaro e consideriamo assolutamente necessario intervenire per evitare che i percettori di assegno di invalidità civile o di pensione di invalidità siano ingiustamente discriminati peraltro parliamo di assegni e di pensioni che si aggirano intorno ai 300 euro sarebbe pure più dignitoso definirli rimborsi o spese piuttosto che pensioni come detto il provvedimento in discussione presenta anche che presenta punti di forza e di debolezza chiaramente positiva è la parte che riguarda la riduzione del cuneo fiscale di 4 punti percentuale per i lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 35.000 euro assunti per il periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre indubbiamente un passo avanti per contrastare il costo della vita e per incentivare i consumi però occorre che il costo del lavoro diminuisca ulteriormente che la misura divenga strutturale e non occasionale o per soli 4 mesi come in questo caso serve infatti che sia rifinanziata nella prossima legge di bilancio e per i prossimi anni e per i prossimi anni prevedendo maggiori riduzioni del costo del lavoro anche per la quota a carico del datore di lavoro se non si interviene seriamente questo tipo di azioni non possono essere considerate buone o idonee per tanti datori di lavoro né tanto meno potranno stimolare nuove assunzioni e voglio ricordare in quest'aula che proprio l'abbattimento del cuneo fiscale è stato da sempre un cavallo di battaglia del centro-destra motivo per cui oggi ci aspettiamo più coraggio più convinzione affinché l'Italia non venga più annoverata come uno dei paesi oxe con il peso del cuneo fiscale più alto e lo voglio ricordare già oggi supera il 45% bene anche la previsione di misure per afforzare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro che possono certamente prevenire le cosiddette morti bianche morti inutili e ingiuste su cui bisogna assolutamente intervenire proprio per migliorare la vigilanza e la sicurezza altro aspetto che ci inorgoglisce e che voglio ricordare è l'accoglimento in commissione di un nostro emendamento a prima firma delle colleghe Paita e Sbrollini con cui il governo si impegna a rafforzare l'assegno di inclusione per le donne vittime di violenza donne che non dobbiamo lasciare sole e che chiedono solo opportunità e sostegno per ricominciare e ricostruirsi una vita altro aspetto che peraltro a me sta particolarmente a cuore è proprio quello legato agli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità parliamo nello specifico mi voglio riferire all'articolo 28 istituisce un fondo un fondo di 7 milioni di euro per il 2023 finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore delle organizzazioni di volontariato e non lucrative che assumono ai sensi della legge 68-99 con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il primo agosto del 22 e il 31 dicembre del 23 persone con disabilità di età inferiore a 35 anni ci verrebbe da dire finalmente e vi verrebbe da dirlo insieme a me però guardare alle persone con disabilità non più come un peso ma come una risorsa per la società era forse un sogno troppo ambizioso fino a qualche tempo fa poi oggi sembra realtà ma ci si imbatte nei labirinti dei decreti attuativi che invece ci riportano alla cruda realtà e dei decreti attuativi dipende praticamente tutto il decreto in discussione oggi infatti demanda modalità e procedure ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ministro delegato per la disabilità per il lavoro per le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il primo marzo duemilaventiquattro ora devo essere onesta inizialmente avevo letto questa misura come un'iniziativa sicuramente lodevole poi però leggere che occorrono dieci mesi quasi per concertare tutti i ministri affinché si dia vita a un decreto attuativo mi sembra francamente esagerato non si può aspettare il primo marzo per un decreto attuativo figlio di concertazione tra ministri competenti il nostro invito è che vi concertiate prima e a riguardo ho pensato di darvi una mano non per gentilezza ma per spirito di squadra per spirito costruttivo affinché nessuno davvero resti indietro ma perché si possano offrire risposte serie quindi approfitto per ricordare a tutti i colleghi presenti al governo che tra gli emendamenti che ci apprestiamo esaminare a votare ce n'è uno a mia prima firma con cui chiedo proprio all'articolo 28 che questo fondo possa vedere la luce non dopo dieci mesi ma dopo tre un tempo che mi sembra più che sufficiente soprattutto se si pensa che l'operazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi forse tre mesi vi sembrano pochi allora riformulatelo per non andare oltre dicembre duemilaventitré onestamente lasciare il primo marzo duemilaventiquattro è una vera esagerazione vorrebbe dire quasi dieci mesi di attesa per un decreto attuativo sottosegretario mi rivolgo a lei per il tramite della presidenza perché conosco anche la sua sensibilità non ci sono oneri di spesa aggiuntivi rivedete il termine per il decreto attuativo io lo ricordo il mio emendamento è il 28 punto 101 e vi dà proprio la possibilità di correggere il tiro e dare risposte rapide e serie anche al mondo del terzo settore motivo per cui colgo l'occasione di chiedere anche a tutti i colleghi di maggioranza opposizione di soffermarsi e di votarlo ridimensionare le tempistiche per l'emanazione dei decreti attuativi è urgente e necessario e non lo chiedo solo io lo chiedono milioni di persone e numerose associazioni che hanno più volte sollevato il tema anche durante le audizioni in commissione e giusto ne cito una tra tutte per esempio confassociazioni certo un altro punto su cui ci sarebbe piaciuto trovare più spazio e modalità di discussione sarebbe stato il salario minimo a nostro avviso si tratta di un traguardo di civiltà ma questo è un altro capitolo io vado a concludere presidente mi sento di dire che questo provvedimento sicuramente presenta dei punti interessanti ma decisamente ancora migliorabili quindi il mio auspicio è che il governo abbia la giusta attenzione e sensibilità per valutare seriamente i suggerimenti che abbiamo presentato con lo scopo di migliorare questo testo e che a breve ci approcciamo a discutere e a votare grazie 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 senatrice Versace ero iscritto a parlare il senatore Silvestro per dieci minuti grazie presidente grazie governo onorevoli colleghi il decreto contiene in primo luogo nuove misure di inclusione sociale e lavorativa cambia cioè l'approccio alla lotta alla povertà e alle situazioni di marginalità si tratta di un nuovo modo di includere chi ha più difficoltà senza quindi lasciare indietro nessuno ma attraverso un pericoloso e oltre a prevedere l'inserimento nel tessuto sociale responsabilizza chi percepisce un assegno dello Stato questa è la ragione che sostiene l'introduzione dell'assegno di inclusione l'assegno viene erogato alle famiglie ed esclusive i singoli tra i 18 e i 59 anni che non abbiano nel proprio nucleo familiare persone non in grado di lavorare il nuovo assegno non contiene quei fattori che vedevano alla partecipazione nel modo del lavoro che aveva il reddito di cittadinanza al contrario si pone come obiettivo quello di coniugare la necessità dei sussidi per chi non lavora con la presenza di politiche attive del lavoro che siano efficaci l'assegno va alle famiglie con minori e disabili e torna ad essere un sostegno per includere per contrastare la povertà ora ci sono a disposizione il doppio delle risorse che aveva il vecchio reddito di inclusione la misura prima prevista per contrastare la povertà il reddito di cittadinanza non ha funzionato perché ha voluto essere una misura per coniugare contrasto alla povertà e politiche attive ma non c'erano gli strumenti per poterlo fare innanzitutto per la macchinosità delle procedure previste per il passaggio tra ottenere il reddito di cittadinanza ed entrare nel mondo del lavoro poi per il fatto che la macchina amministrativa era certamente impreparata a gestirlo va detto che circa i 30 miliardi impiegati in quasi 4 anni sono andati in larga parte a famiglie del mezzogiorno molti nella mia campagna in un periodo in cui l'economia ha rallentato fino a retrocedere duramente dopo la pandemia questo ha consentito a molte famiglie dovere di avere un reddito o un'integrazione di reddito che ha sostenuto l'economia di quei territori però indebolendo lo Stato ora si cambia pagina e la nuova misura l'assegno di inclusione segna un approccio completamente nuovo rimangono comunque molte risorse poste nel 2024 sono appostate 5,5 miliardi di euro che andranno ai veri poveri allo stesso tempo si investono risorse finanziarie nelle politiche attive sulla formazione per consentire a chi può lavorare di prepararsi a ricoprire un ruolo attivo nel mondo del lavoro il lavoro è quello strumento che dona dignità ed è quel ruolo che ci si conquista nella società a qualsiasi livello che fa sentire il lavoratore un cittadino a pieno titolo cioè torna ad essere il lavoro e il salario che si percepisce ogni mese a costituire l'autentico reddito di cittadinanza ecco perché questo decreto segna un cambio di paradigma rispetto a prima una visione del mondo inclusiva e non meramente assistenzialista una concezione della società in cui lo Stato aiuta il cittadino a prepararsi attraverso la formazione continua ad ogni nuova sfida guadagnandosi a pieno titolo il proprio ruolo di cittadino allo stesso tempo lo Stato sostiene con un apposito assegno chi rimane indietro chi è veramente povero e non riesce ad acquistare quei beni materiali veramente necessari a una vita dignitosa altro capitolo importante di questo decreto è il proseguimento nella riduzione del cuneo fiscale iniziata con la prima legge del bilancio del governo Meloni anche su questo l'esecutivo con la sua maggioranza fa fede al programma elettorale che non era solo una promessa ma diventa una realtà di ridurre la pressione fiscale dopo aver adottato un'aliquota fissa molto bassa per indurre i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro di reddito da impegnarsi e a produrre di più dopo aver approvato una liquida fissa molto vantaggiosa per chi inizia a lavorare e per i primi 5 anni nel decreto prosegue la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti che portano il vantaggio fiscale rispetto a prima fino a 7 punti di percentuale sui redditi a 25.000 euro e 6 punti di percentuale a redditi di 35.000 euro detto in soldone un lavoratore può arrivare ad ottenere in busta paga fino a 100 euro netti in più ogni mese dal punto di vista del bilancio pubblico vengono aggiunti altri 4 miliardi di euro ai 3 miliardi già appostati nella legge di bilancio di dicembre a copertura viene utilizzato integralmente il maggiore indebitamento deliberato dalla Camera ad aprile al quale si aggiungono ulteriori economie di bilancio la vera sfida è riuscire a trovare le opportune coperture finanziarie per rendere strutturali questi tagli al cuneo fiscale attraverso una maggiore crescita dell'economia e attraverso il recupero di evasione di tasse un terzo punto che vorrei sottolineare rispetto alle norme approvate in questo decreto è la volontà di azionare un'ulteriore leva a favore dei lavoratori e delle aziende private attraverso l'ampliamento del welfare aziendale in questo caso viene concesso l'utilizzo di Frank Benefit per 3.000 euro a favore dei lavoratori con redditi bassi per coprire il rincaro delle bollette energetiche su questo tema crediamo che si debba fare di più convinti che il welfare aziendale sia non solo un'arma efficace per garantire al lavoratore un reddito netto più alto ma anche per rendere più armonioso e amichevole il rapporto tra un'azienda e dipendenti che per essa lavorano le aziende che crescono di più sono quelle in cui vengono attivati tutti gli strumenti possibili del welfare e a favore dei lavoratori bene anche la strada intrapresa nel decreto per andare incontro alle esigenze delle imprese che chiedono lavoro flessibile e temporaneo che essendo contrattualizzato elimina lo spettro del lavoro nero bene gli incentivi dell'occupazione giovanile che soprattutto nel mezzogiorno si rileverà una misura utile ed efficace insomma un decreto che per la vasta articolazione dei suoi diversi interventi agisce in modo puntuale in molti settori trovando la soluzione più efficace Forza Italia ha seguito lungo l'esame in commissione e posso testimoniare l'ascolto dirigente che si è dato alle stanze di tutte le categorie e la lettura attenta delle modifiche proposte dai gruppi parlamentari non è uscito un testo normativo ulteriormente migliorato rispetto al decreto iniziale che vede quindi favorevole il sostegno convinto dei senatori di gruppo di Forza Italia grazie senatore Silvestro è scritto a parlare il senatore Mazzella prego senatore Mazzella grazie presidente onorevoli colleghi sono passati appena 45 giorni dal primo maggio giorno in cui il governo si è riunito per condannare definitivamente i nostri giovani e le future generazioni alla perpetua disoccupazione firmando un decreto che molto più semplicemente il Movimento 5 Stelle ha già ribattezzato decreto precariato noi ci aspettavamo un ascolto delle principali categorie sociali soprattutto per rivedere gli strumenti di ingresso nel mondo del lavoro eppure tutte le audizioni parlamentari sono state più un compitino da dover svolgere in tempi rapidi piuttosto che un reale banco di confronto ci aspettavamo un dialogo schietto ma concreto tra tutte le forze politiche nel rispetto dei ruoli di maggioranza e di opposizione eppure ci troviamo oggi a discutere un decreto che porta solo la firma di chi non sente o meglio non vuole sentire le richieste provenienti dal mondo del lavoro dato che ormai questo esecutivo poi agisce a colpi di decretazioni di urgenza ci aspettavamo anche un provvedimento capace di dispiegare effetti in tempi rapidi e invece l'operatività di queste misure necessiterà di attuazione di ulteriori decreti attuativi ecco ci saremmo aspettati un maggiore impegno sul tema della riduzione drastica del precariato sul tema della salute sul tema della sicurezza e dei controlli e invece questo decreto è un insulto a tutti quei giovani che vengono quotidianamente umiliati con tirocini fittizi contratti precari e paghe da fame da più parti sentiamo dire che questo decreto porterà ad un taglio del cuneo fiscale e quindi ad un aumento dello stipendio netto in busta paga ma evidentemente si tratta solo di marketing politico nato per nascondere provvedimenti vergognosi in realtà a meno che non venga prorogata la misura ulteriormente il paese in il paese questo taglio durerà solo 150 giorni onorevoli colleghi della maggioranza da mesi state urlando che l'abrogazione del reddito di cittadinanza alleggerirà le tasche dello Stato ma vi chiedo a danno di chi sicuramente degli ultimi dei fragili di chi non ha voce perché evidentemente anziché puntare al recupero delle evasioni fiscali anziché parlare di tasse come pizzo di Stato questo governo ha deciso di fare cassa sui poveri ha deciso di fare addirittura cassa cresta sui poveri diciamo su chi a stento riesce a mettere un piatto a tavola e non oso immaginare cosa accadrà nel 2024 quando di fatto entrerà in vigore la revisione del reddito di cittadinanza e già perché vi siete rimangiati la favoletta propagandistica di eliminare il reddito di cittadinanza per fare posto all'assegno di esclusione voi l'avete chiamato assegno di inclusione ma è paradossale che si chiami così una misura ad escludendum una misura categoriale e non più universale come richiesto dall'Europa come esiste in Europa avete scatenato una guerra ideologica contro i poveri e contro i percettori del reddito di cittadinanza che avete definito furbetti fannulloni truffatori divaniste è una vergogna la verità è che il reddito di cittadinanza misura presente negli ordinamenti di quasi tutti i paesi europei ha salvato dalla disperazione milioni di italiani soprattutto nei durissimi mesi pandemici senza questo sostegno difeso persino dal commissariato al lavoro dell'Unione Europea avremmo avuto un milione di poveri in più e non lo dico io bensì l'ultimo rapporto dell'Istat che fa eco a quanto dichiarato recentemente dal presidente della CEI se solo il governo fosse stato interessato al corretto funzionamento del reddito di cittadinanza avrebbe dovuto disciplinare misure drastiche contro i governatori delle regioni che hanno ritardato le assunzioni nei centri per l'impiego motivo per cui abbiamo presentato un emendamento volto ad accelerare le assunzioni nei centri per l'impiego prevedendo il commissariamento delle regioni che non hanno speso le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 questa maggioranza ha ignorato totalmente i nostri emendamenti a tutela dei più fragili e di chi rischia di rimanere indietro come la mia proposta di prorogare fino alla fine dell'anno lo smart working per i lavoratori fragili giacché il prossimo 30 giunno scadrà il loro diritto di lavorare in smart working avete approvato un emendamento per prorogare il lavoro agile ma solo per i privati e nel pubblico zero e la motivazione non siamo in grado di stabilire la platea dei potenziali fruitori ma come? non eravate pronti non eravate pronti a governare e ora non sapete quanti sono i fragili gli immunodepressi i malati di cancro o i trapiantati vergognosa ad esempio è la previsione di rafforzare la possibilità di ricorrere anche ai contratti a termine un chiaro regalo a quei datori di lavoro che escludono che eludono il sistema sfruttando milioni di lavoratori e che in questo modo potranno prolungare questa forma contrattuale alimentando la precarietà in Italia la previsione secondo cui i datori possono assumere fino a due anni senza causali ad eccezione di motivazioni di natura tecnica organizzativa e produttiva disciplinate o da disciplinare aumenterà secondo noi il contenzioso giudiziario e questo perché in assenza di una disciplina contrattuale la causale verrà definita in autonomia dalle parti del contratto incrementando la già forte condizione di debolezza di tanti lavoratori e inoltre avete aumentato il tetto per i voucher e in questo modo i voucher prenderanno il posto dei regolari contratti di lavoro un insulto a migliaia di lavoratori soprattutto stagionali e voglio ricordare che già con la lence di bilancio 2023 il governo Meloni era intervenuto per modificare le prestazioni di lavoro occasionali prevedendo l'aumento da 5.000 a 10.000 euro l'anno del limite massimo dei compensi da corrispondere un chiaro segnale di sostegno al mondo della precarietà confermato dai recenti dati dell'osservatorio sul precarato IMS secondo cui il numero dei lavoratori impiegati con contratti di prestazione occasionali è in aumento cari concittadini perché io mi rivolgo ai concittadini oggi attraverso il suo tramite presidente perché i senatori le senatrici sono state sordi ai nostri emendamenti abbiamo provato a modificare questo decreto presentando numerose proposte di buonsenso nell'interesse unico dei nostri veri datori di lavoro i 60 milioni di italiani eppure spiace evidenziare che tutte le proposte del Movimento 5 Stelle sono state stralciate probabilmente perché è diretta ai lavoratori e non agli sfruttatori a cui il governo strizza invece un occhio penso alla bocciatura di un nostro emendamento volto a introdurre nel nostro ordinamento il salario minimo non inferiore ai 9 euro l'ordi l'ora un'iniziativa appoggiata dalla stessa Commissione Europea penso a una mia proposta emendativa che intendeva introdurre un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome e penso alla decontribuzione totale per i contratti di lavoro domestico una proposta voluta fortemente per valorizzare un settore tanto delicato quanto vitale a livello economico e sociale oppure penso al fondo per la competenza digitale volto a contrastare il divario digitale e culturale e per sostenere la massima inclusione favorendo l'educazione sulle tecnologie del futuro e termino insomma la tagliola a cui già ci ha abituato il governo Meloni questa volta si è abbattuta sulle nostre richieste di modifica incrementando ancora di più il divario tra ricchi e poveri tra occupati e disoccupati perciò innanzi a questo provvedimento che ignora totalmente i profondi cambiamenti del mercato del lavoro forti dell'appoggio della comprensione dei 20.000 manifestanti a Roma che il 17 giugno hanno gridato no alla precarietà qui ribadisco ribadiamo con forza no alla deriva pericolosa del governo Meloni di una destra asociale asociale che vuole sempre più convincere il popolo italiano che la povertà sia una colpa e noi non lo consentiremo grazie grazie senatore Mazzella lascio la parola alla senatrice Cantù a lei la parola grazie presidente per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sanità di cui mi occupo il provvedimento in discussione al capo secondo contiene alcune lodevoli disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro orientate allo sviluppo delle misure di prevenzione e di protezione in particolare di carattere organizzativo gestionale dove sicurezza è sinonimo di salute e per il rafforzamento delle regole già esistenti di tutela contro gli infortuni così come per il potenziamento dei controlli ispettivi in tutto il paese con previsioni atte a supportarne l'osservanza applicativa per un migliore governo dei rischi secondo le specificità aziendali così agendo in effettiva formazione e competenza datoriale in materia di sorveglianza sanitaria e attività del medico competente nonché con l'integrazione e la condivisione dei dati e delle informazioni disponibili per una programmazione sempre più incisiva e mirata dei controlli ispettivi soprattutto in chiave preventiva e deflattiva dobbiamo infondere la cultura della sicurezza e questo provvedimento va nella giusta direzione si tratta di marginalizzare quelle aree grigie dove si formano fattispecie generatrici di incidenti essenzialmente per inerzie e distorsioni legate ad inadeguatezze con causa di gran parte degli infortuni per non essere più distratti tra virgolette in ordine all'applicazione di procedure di sicurezza note e consolidate da tempo quando il vero tema è proprio puramente semplicemente il loro rigoroso rispetto certo non scontato soprattutto perché spesso taluni accorgimenti vengono disattesi proprio dagli stessi addetti per eccesso di confidenza con gli strumenti utilizzati apprezzabile attenzione viene inoltre posta alla tutela degli studenti in formazione non solo quanto alla loro copertura assicurativa INAIL ma anche creando un fondo che preveda il ristoro delle famiglie degli studenti in formazione vittime di infortuni anche se questo non dovrebbe più succedere credo sia un segnale positivo perché il principio è lo stesso anche per finalmente riconoscere il giusto ristoro ai medici vittime del covid e ai loro familiari se deceduti rimasti in assenza di qualsivoglia tutela in forma assicurativa la sfida è coniugare sicurezza salute lavoro ed impresa agendo per andare oltre il mero controllo ispettivo il mero approccio ispettivo e prettamente sanzionatorio posto che senza competitività non c'è futuro non c'è mercato senza mercato non c'è impresa senza impresa non c'è lavoro senza lavoro sicuro e l'attore di salute non c'è né crescita né sviluppo perché quando c'è un infortunio sul lavoro di una certa gravità fino ad arrivare a quelli mortali i costi umani e sociali sono inaccettabili ma altrettanto vero è che i costi economici anche a carico dell'impresa sono molto pesanti siamo consapevoli che in taluni settori e l'edilizia è uno fra questi come noto l'anno scorso è stato il settore che ha avuto più infortuni mortali il tutto è più complesso perché in molti si improvvisano e dunque la formazione e l'addestramento specifico così come previsto dal DL a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente apparecchiature che richiedono conoscenze particolari intende incidere proattivamente sul cambiamento di rotta a garanzia di adeguata essenziale conoscenza e competenza datoriale l'orizzonte a cui tendere è un sistema evoluto ed integrato di prevenzione sicurezza salute tanto nell'impiego e che nella realizzazione dei prodotti a cominciare da quelli di nuova immissione sul mercato e qui entriamo in un mio mantra che è la prevenzione predittiva perché come molti di voi sapranno all'inizio dell'introduzione su base volontaria della certificazione di qualità molti storcevano il naso perché la consideravano un costo ebbene i dati sono lì a dimostrare che la qualità è un ricavo così come lo sarà investire strutturalmente in governo dei rischi e in sicurezza ovviamente di questi tempi tutti ci occupiamo di risparmi energetici perché lo shock che stiamo ancora e appena superando e non è detto che lo sia è tale che per molto tempo si parlerà di rinnovabili di immobili meno energivori e di tutto il corollario e dunque il pensiero prevalente è risolvere quel problema che deve essere ricondotto nella transizione energetica mediante per esempio impiego di materiali da costruzione tali per cui le case del futuro siano decisamente meno energivore antisismiche e non rilascianti inquinanti a valio titolo cosa voglio dire negli anni 60 l'amianto era usato diffusamente senza aver fatto le dovute preventive verifiche sulla garanzia di salubrità del materiale dobbiamo imparare dal passato ed errori simili non si devono più ripetere e dunque anche per materiali che sembrano molto promettenti si devono fare delle istruttorie molto approfondite affinché ciò che oggi anche solo per moda o per tendenza pare interessante non si dimostri in futuro ad elevata incidenza di rischio per la salute e per l'ambiente dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma ma proprio perché dobbiamo farlo e proprio perché di nuove tecnologie e di nuovi prodotti trattasi dobbiamo far sì che già dalla progettazione vi sia una maggiore sicurezza intuitiva sul lavoro sia per le imprese che le realizzano sia per le aziende che le andranno ad impiegarli e una maggiore sicurezza tutela della salute individuale e collettiva non solo nella produzione ma soprattutto nell'utilizzo vorrei essere ancora più esplicita non dovremmo permettere e non solo per gli alimenti sintetici e i mangimi sintetici che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto se non vi è una chiara e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio financo con prove di accelerato invecchiamento palesi posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli operatori che lo realizzano ma soprattutto di avere a cuore la salute di chi lo andrà ad utilizzare siamo consapevoli che il contributo di questo provvedimento è solo un primo passo ma in linea con un cambio di prospettiva dove tanti anche piccoli primi passi e anche se ogni tanto c'è un passo di lato ma vi vorremmo sicuramente rimedio contribuiranno a far sì che vi sia un sistema lavoro sempre più proattivamente sicuro e salubre grazie grazie senatrice lascio la parola alla senatrice Zampa a lei la parola la ringrazio presidente colleghe e colleghi non possono non ramaricarmi dell'assenza in quest'aula della ministra Calderone che aveva assicurato alla sua prima incontro in commissione competente di questo decreto la sua presenza partecipazione una grande volontà di confronto si sa che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni poche cose quanto il valore del lavoro il suo ruolo per l'individuo e per la società da un lato e dall'altro poche cose quanto la povertà laddove non sia una scelta personale magari per ragioni religiose ma una condizione esistenziale possono segnare tanto la distanza tra differenti culture politiche lo abbiamo toccato con mano se avevamo bisogno di un'altra prova lo abbiamo toccato con mano proprio con questo decreto legge che contrasta non la povertà ma combatte i poveri un decreto che ha come titolo vero precarietà e povertà e che noi continueremo a chiamare così i dati presentati ieri dall'ufficio parlamentare di bilancio hanno fotografato gli effetti che devasteranno la vita di questi poveri e che derivano dalla sostituzione del reddito di cittadinanza con questo assegno di inclusione probabilmente immagino che sia da qui che è derivata la volontà di presentare in aula da parte della relatrice un emendamento che cambia la misura di equivalenza perché avete dovuto prendere atto che questi dati presentati appunto da un organismo assolutamente terzo ci dicono che meno 42% è la percentuale che riguarda le famiglie e meno 28% sono le risorse che andanno a contrastare la povertà il che dimostra che combatte i poveri e non la povertà il decreto è innervato da un pregiudizio e questo mi ha molto colpito devo dirvi guardate al di là delle appartenenze politiche io sono rimasta colpita sia dalla pochezza non me ne vogliono i colleghi del confronto in commissione dove questo testo è approdato oltre un mese fa una pochezza che era trista sentire parlare solo di gente che non ha voglia di lavorare che sta sul divano è davvero sconcertante ma questo decreto vi dicevo è innervato da un pregiudizio ed è per questo che ho parlato di cultura politica questo pregiudizio afferma che la povertà è uno stato di colpevolezza si è poveri perché non si fanno sacrifici abbastanza e mi ha colpito non citerò per rispetto e anche per la stima che comunque ho nei confronti di un collega che ha paragonato i sacrifici che abbiamo fatto per diventare senatori e i sacrifici che dovrebbero fare i poveri che devono uscire dalla condizione di povertà questo significa che noi e per questo che vi dicevo ho trovato rattristante quel dibattito che comprendo in parte cioè sempre ci si sottrae quando si è in maggioranza un confronto vero perché è più facile si scappa dalle cose però non va a finire bene di solito e poi si cambia idea e ci si deve correggere dicevo in questa questione del sacrificio abbastanza si è anche e questo è il secondo grave errore contrapposto questa condizione della vita al lavoro che in questo decreto perde il valore straordinario che è assegnato al lavoro dalla Costituzione all'articolo 1 e all'articolo 4 ed è così che perde dignità hanno scritto due studiosi per la rivista Il Mulino che quello che si prospetta oggi di fronte a noi non è solo un imperdonabile cattivo attacco ai poveri è un attacco al lavoro dignitoso tanti poveri saranno costretti oltre a ricorrere alla carità o all'aiuto di parenti amici immagino saranno costretti ad accettare lavori e lavoretti sempre meno tutelati hanno detto le mie colleghe benissimo e non torno su questo e siamo davvero di fronte all'impossibilità di garantire una vita dignitosa e decorosa contrastare questa misura e tra le altre cose scrivono ancora questi due studiosi nell'interesse di chi difende il valore della dignità del lavoro facendo così queste norme non corrispondono in alcun modo al dettato costituzionale laddove all'articolo 36 i padri costituenti hanno affermato che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa libera dal ricatto e dignitosa come diritto di ogni essere umano il decreto divide i poveri tra i meritevoli che hanno non autosufficienti a carico e non meri o minori a carico e non meritevoli che non hanno invece questi cari così facendo si trasforma in una misura categoriale ed è questo uno dei vulnus più gravi di questo decreto perché questo è un errore che in parte abbiamo tentato inutilmente di correggere è la negazione della necessità dell'universalità una misura di carattere davvero di contrasto alla povertà deve essere per sua stessa natura universale e di fatto tutti i paesi europei e in tutti i paesi esiste una misura di sostegno al reddito rivolto ai poveri e il consiglio europeo proprio di recente ha varato una raccomandazione a favore di un sostegno al reddito mediante appunto un reddito minimo quindi noi continuiamo ad andare in una direzione che ci porta lontano dai paesi europei le norme tradiscono come dicevo una cultura punitiva sei colpevole della tua condizione di povertà e devi accettare dunque qualunque offerta ha ricordato Anna Maria Furlan devi andare a qualunque distanza magari con un part time e se non rispetti le regole se un componente della famiglia che viene considerato occupabile non segue tutte queste regole il nucleo familiare nel suo insieme perde il reddito negando tra l'altro anche i diritti dei minori gli esperti hanno inutilmente segnalato che sono ben pochi i centri per l'impiego in grado davvero di accompagnare beneficiari nei termini previsti dal decreto o termini in questo caso cronologici di tempo e le norme sbagliano perché scontano appunto indicano sulla stessa occupabilità che viene definita in base come ho detto alla composizione familiare e all'assenza di quello che appunto è necessario quando si vuole accompagnare e far uscire dalla povertà chi è in stato di bisogno sappiamo che il reddito di cittadinanza aveva difetti io non ho nessun problema a dirlo e che andavano corretti e dall'altra parte proprio per iniziativa del partito democratico venne introdotta per la prima volta una misura universale di contrasto alla povertà si trattava del rei condizionato alla per volontà e poi completamente cancellato per volontà del Conte 1 di cui io credo che in questo diciamo sfolgorante sfavillante mondo della maggioranza la memoria sia davvero corta Conte 1 di cui era magna pars la presenza della Lega che oggi sembra avere completamente dimenticato di essere tra coloro che ha votato il reddito di cittadinanza e partecipato ai festeggiamenti del reddito di cittadinanza ma noi non smetteremo di ricordarvelo quindi preparatevi perché ogni volta che prenderò la parola andrò a vedere che cosa ha fatto la Lega nel Conte 1 che cosa ha fatto la Lega nel Conte 2 e anche nel Draghi la logica del decreto come vi dicevo sembra derivare dalla congiunzione tra un giudizio negativo sulle politiche contro la povertà e una priorità attribuita alla natalità e anche in questo è destinata evidentemente a fallire in sostanza il messaggio che arriva è se siete poveri lo Stato non è disposto ad assicurare un sostegno per vivere decentemente ma non posso senatrice la invito a concludere le ho già dato due minuti in più in un minuto concludo non posso non concludere richiamando e stigmatizzando il metodo di lavoro che questa maggioranza ha adottato in queste ultime ore ieri pomeriggio questa mattina sono stati presentati per Laura numerosi emendamenti della relatrice chiaramente presentati su richiesta come è ovvio del governo e concordati con il governo si tratta di emendamenti rispetto ai quali la commissione bilancio non ha ancora potuto esprimersi in assenza delle relazioni tecniche l'ultimo per rimediare immagino al gravissimo errore compiuto dalla ministra Calderone che ha tagliato del 50% il fondo per i familiari vittime di gravi infortuni sul lavoro si tratta di emendamenti che evidentemente ignorano anche la missiva che il ministro Ciriani ha inoltrato d'intesa con la presidente Meloni ricordando che non è questo il metodo da adottare alla sua stessa maggioranza e quindi grazie senatrice le ho dato un minuto in più grazie senatrice lascio la parola al senatore Zullo ha lei la parola grazie presidente colleghi senatori e senatrici membro del governo io la ringrazio per la rappresentanza al ministero del lavoro così come ringrazio la relatrice Mancini per tutto il lavoro che è stato svolto in commissione accanto a tutti noi che abbiamo partecipato a quei lavori i miei colleghi di gruppo hanno illustrato genesi sviluppo obiettivi del decreto legge in corso di conversione e non starò qui a replicare le cose che loro hanno detto e che credo abbiano detto in maniera egregia ho sentito nel corso del dibattito diverse parole che alcune sono state dette con grande oppositività altre con un fare che io ho trovato costruttivo si è parlato di indifferenza del governo Meloni di arroganza si è parlato di esaltazione della precarietà si è parlato di un tentativo di una voglia di colpire i poveri di aumentare le disuguaglianze di insulto di provvedimento vergognoso di cresta addirittura sui poveri di lotta ideologica di dividere il sistema tra lavoratori e sfruttatori una serie di parole che però non fanno il paio con una realtà con la quale noi dobbiamo confrontarci e questa realtà pone in evidenza una parola che non è stata mai citata in questo dibattito e la parola è sostenibilità tutto il sistema dell'inclusione sociale e lavorativa può andare avanti può produrre frutti se il sistema paese si sostiene se il sistema delle imprese si sostiene e questo sostentamento questa sostenibilità del sistema paese non lo si ritrova andando nelle piazze lo si ritrova nel sacrificio e nel lavoro che il nostro premier Giorgia Meloni sta compiendo nel mondo intero tenendo alta la credibilità e l'affidabilità della nostra nazione e dell'Italia non solo nel mondo intero ma sui mercati finanziari perché vedete alla fine la sostenibilità è fatta di risorse e le risorse attengono a quanto il nostro Stato è affidabile quanto il nostro Stato è capace di attrarre investimenti e dei dati che ci dicono che siamo sulla strada giusta sono lo spread che ha livelli minimali e quanto questo rende al nostro Stato e anche il PIL che si sta elevando la sostenibilità come detto è un discorso che fa il paio anche con un PIL che si innalza e questo PIL si innalza perché vengono esaltati alcuni settori produttivi che trovano il proprio sostentamento proprio in misure che noi abbiamo introdotto che il governo ha introdotto in questo decreto legge la introdotte attraverso quelle che voi chiamate misure di precarietà quando invece sono misure importanti per coniugare domande e offerte di lavoro in alcuni settori particolari che non possono e non riescono a determinare una stabilità del lavoro per la loro specificità e non per la loro volontà quando invece dovremmo sostenere le misure che per esempio il ministro Santanchè o il ministro San Giuliano stanno portando avanti per destagionalizzare il turismo o il ministro Lollo Brigida per determinare una protezione e valorizzazione del made in Italy dei nostri prodotti agroalimentari e che possono determinare la stabilità del lavoro la seconda parola che è mancata e che invece noi citiamo molto spesso è resilienza che significa resilienza è la capacità di affrontare momenti di crisi venendone fuori più forti ed è questo che vogliamo noi in tutte quelle persone che vogliamo includere nell'inclusione sociale e lavorativa fare in modo che in loro si accresca la capacità di affrontare la crisi e lo stato di la condizione in cui versano per poterne uscire più forti e questo concetto di rafforzamento coinvolge sì la collettività ma coinvolge i singoli e perché ne devono uscire più forti ne devono uscire più forti perché la dignità la si ritrova nel lavoro la dignità non si ritrova in un messaggio subliminale che arriva alle persone per le quali sarebbe molto più comodo stare sul divano sì lo ripeto è un messaggio subliminale che in questi anni è passato nella mente delle persone che è più comodo stare sul divano piuttosto che accettare un lavoro che dia dignità e lo ripeto quando la collega Zampa parlava di un collega che in commissione ha citato la parola sacrificio quel collega ero io io la ringrazio collega perché perché questa parola sacrificio in questo dibattito l'ha citata solo lei prima di me e la cito e la valorizzo io ora perché quando una sua collega mi pare Furlan parla di ascensore sociale ma l'ascensore sociale su che cosa si è fondato se non sul sacrificio ma quando si dice che in commissione si è detto che addirittura noi produciamo nuovi schiavi perché schiavizziamo quelle persone che perdono il sacrificio se solo non accettano un lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale o a tempo determinato entro i limiti di 80 km o di 120 minuti di percorrenza con mezzi pubblici quindi se questi non accettano e perdono il beneficio per loro abbiamo schiavizzato le persone e allora io vi chiedo ma chi è più schiavo quella collettività che attraverso il sacrificio attraverso la tassazione trova la copertura di spesa per determinare misure di inclusione sociale oppure qualcuno che sulla base di sacrificio non riesce ad accettare queste condizioni e che così facendo a mio avviso lo schiaffo lo dà non a noi di maggioranza ma a tanti nostri padri tanti nostri nonni che con sacrificio hanno dovuto emigrare oltre i confini nazionali per dare dignità a se stessi alle loro famiglie e al lavoro c'è un dato inoludibile che noi dobbiamo dobbiamo tenere presente il lavoro è stato detto c'è l'articolo 1 della Costituzione c'è l'articolo 4 è un diritto e non lo neghiamo perché anche questa è stata un'accusa che noi ricettiamo l'accusa della negazione dei diritti assolutamente no il lavoro è un diritto però è anche un dovere ed è un dovere non perché lo dice Zullo lo dice l'articolo 4 della Costituzione del secondo comma dove dice ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità la propria scelta un'attività una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e qui voglio citare Aldo Moro il quale diceva questo paese non si salverà la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere e noi vogliamo che la stagione dei diritti e delle libertà non sia effimera perché dobbiamo capire che abbiamo tutti il dovere di concorrere alla crescita e alla sostenibilità del nostro paese e vogliamo coniugare libertà doveri e diritti e lo facciamo guardando all'inclusione sociale lavorativa valutando le potenzialità di accesso al lavoro non si è detto si discrimina o si creano diseguaglianza tra chi ha accesso al lavoro questo non è vero non corrisponde al vero perché l'accesso al lavoro è condizionato da un piano individualizzato di valutazione per le potenzialità che una persona può e ha in sé per poter accedere al lavoro quindi dire qualcosa che non è scritto nel decreto io penso che non sia rispettoso delle nostre intelligenze allora cari colleghi il problema non è di dividere sfruttatori e lavoratori il problema è una visione diversa un approccio diverso che noi abbiamo voi avete una visione parziale del mondo del lavoro noi pretendiamo e pensiamo di avere una visione globale del mondo del lavoro una visione globale che parte da una necessità essenziale la sostenibilità del nostro paese la sostenibilità del sistema delle nostre imprese ma anche una valorizzazione di quelle che sono le relazioni sindacali di quelle che sono le norme di igiene e sicurezza del lavoro che possono permettere il benessere psicofisico ma anche economico di miglioramento della qualità di vita del lavoratore e della loro famiglia quello che può essere anche la ricaduta in termini di crescita civile e sociale del nostro paese ecco noi è questa visione che abbiamo voluto intravedere in questo decreto legge che voglio sottolineare è un decreto legge che contiene in sé misure urgenti in attesa di una riforma globale una riforma globale per la quale ovviamente chi ha mostrato oggi in quest'aula degli atteggiamenti propositivi certamente lo troveremo lì a cimentarsi con noi per trovare delle soluzioni strutturali soluzioni strutturali vantate e chieste per il cuneo fiscale che noi abbiamo portato introdotto e portato fino al 31 dicembre quando mai c'era stato finora e che anche queste si rimandano a una crescita della nostra collettività e della sostenibilità per cui noi guardiamo alla valorizzazione di tutte quelle parti importanti alla valorizzazione del complesso di queste norme che attraverso la formazione attraverso gli incentivi all'assunzione attraverso la riduzione di alcune poste di tassazione attraverso anche la re-ingegnerizzazione del lavoratore previsto un minuto ancora e attraverso il miglioramento delle norme di igiene e sicurezza del lavoro vogliono creare intendono avviare un percorso di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle loro famiglie grazie senatore è iscritta a parola la senatrice Pierron grazie presidente solo per chiedere di lasciare agli atti un intervento scritto che non riesco a fare grazie va bene dichiaro chiusa la discussione generale va bene grazie presidente credo che si stesse accingendo a dichiarare la nostra soluzione di aula intendo esprimerle significare tutto il disappunto del mio gruppo il Movimento 5 Stelle per questo slittamento dei lavori che dimostra davvero la mancanza di rispetto per i lavori di quest'aula questo slittamento dei lavori questo ritardo è dovuto a come dire controversie tutte interne alla maggioranza di una sorta di bulimia emendativa per cui emendamenti della stessa relatrice presentati all'ultimo secondo e mancanti della necessaria relazione tecnica del MEF ecco tutto questo provoca il ritardo dei lavori di quest'aula mancando quindi di rispetto a questa stessa aula e mi permetto di aggiungere un'altra notazione ancora una volta ancora una volta si è replicato il costume che questa maggioranza ha sviluppato e messo in piedi di bocciare emendamenti proposti dalle opposizioni per poi farli propri e riproporli come emendamenti propri o addirittura in forma di decreti ecco siccome noi abbiamo sempre predicato la condivisione abbiamo sempre detto che siamo disponibilissimi a collaborare se ci volete copiare copiateci ma almeno chiedete il permesso non fatelo con questi metodi autoritari tipici di questa maggioranza grazie grazie senatrice io le chiedo la prossima volta se mi può dare la sua sfera di cristallo perché ha anticipato secondo la sua sfera di cristallo perché non era esattamente così io stavo dando la parola alla relatrice quindi lascio la parola alla relatrice grazie sì sì sull'ordine del lavoro si può sempre intervenire ma visto e considerato che la collega ha anticipato quello che la presidenza stava facendo cosa non assolutamente reale ho semplicemente detto alla collega di cambiare sfera di cristallo perché comunque non vincerà mai al superenalotto a lei la parola senatrice ringrazio presidente lascio queste polemiche soprattutto per quello che riguarda la bulimia e solo una precisazione al senatore Magni innanzitutto l'articolo che riguarda la scala di equivalenza è assolutamente compressivo di una relazione illustrativa e tecnica precisa e puntuale e quindi questo mi sembrava doveroso puntualizzarlo altra cosa mi risulta assurda la sua polemica dalla presentazione di un mio emendamento se la necessità è proprio quella di porre ulteriori somme per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro e soprattutto gli infortuni mortali quindi veramente sono polemiche serie che da relatore di un decreto che ritengo così importante lasciano il tempo che trovano grazie senatore Calandrini che mi ha chiesto la parola sì presidente chiedevo la parola per informarla di quelli che sono i lavori che stiamo conducendo nella quinta commissione bilancio cioè che sono arrivati gli ultimi pareri rispetto ad alcuni emendamenti che erano stati accantonati da parte della commissione e quindi se fosse possibile anche per un rapporto che abbiamo avuto con i colleghi senatori di opposizione che chiedevano degli approfondimenti con alcune note che sono appena arrivate dal MEF e quindi noi saremmo pronti intorno alle 14 perché se lei decide di sospendere a noi servono una mezz'ora di tempo per poter valutare tutta la parte degli emendamenti della relatrice e alcuni sub che sono arrivati dopodiché noi per le 14 potremmo essere pronti per iniziare a votare grazie quindi secondo la richiesta del collega Calandrini sospendiamo la seduta fino alle ore ah non l'avevo visto presidente anche noi riteniamo francamente inaccettabile questa richiesta di sospensione su un provvedimento che è in commissione da un mese è da un mese che stiamo analizzando questo provvedimento e noi abbiamo dovuto assistere al deposito di emendamenti della relatrice ieri e oggi con la necessità quindi di uno slittamento dei lavori per consentire alla commissione bilancio di intervenire oggi nonostante avessimo deciso tutti insieme che la seduta sarebbe continuata dalle 13 per il voto degli emendamenti secondo me questo è un modo di procedere non molto rispettoso delle opposizioni anche perché ricordo che questi emendamenti sono stati depositati ed è stato dato un termine ridicolo per i sub-emendamenti quindi è stato dato anche molto poco tempo per esaminarli e tenuto conto del fatto che è un provvedimento così importante e sul quale la commissione ha lavorato così a lungo noi riteniamo inaccettabile questo modo di procedere per cui noi siamo totalmente contrari alla sospensione dei lavori in ogni caso colleghi senatori senza il parere della quinta noi non possiamo andare avanti quindi chiedo sospendo la seduta fino all'ora 14 secondo quanto richiesta dal presidente grazie la seduta è ripresa ha chiesto di parlare il presidente della commissione quinta senatore a lei la parola sì grazie grazie presidente no volevo informarla che la commissione bilancio chiaramente ha completato ha fatto il lavoro quasi completo cioè siamo arrivati a lavorare sul 90% degli emendamenti che erano previsti in questo decreto e mancava la parte finale quindi la parte riferita ai 12 emendamenti della relatrice e a 4-5 sub-emendamenti accantonati quindi su questa votazione finale c'è stato un voto di parità e quindi di fatto il voto non è stato no c'è stato un voto è stato un voto di parità quindi è inutile che dire cose non vere quindi di parità e quindi significa che da parte per quanto riguarda il regolamento il voto è contrario e quindi non è stato approvata la parte finale riferita riferita ai emendamenti della relatrice quindi molto semplicemente la commissione può riconvocarsi per esprimere un nuovo e chiaramente in parte differente parere al fine di poter assicurare rispetto e l'applicazione dell'articolo 81 della costituzione per quanto riguarda l'esame degli stessi emendamenti nell'assemblea quindi le chiedo Presidente se fosse possibile noi abbiamo la convocazione alle ore 15 stiamo aspettando il MEF che dà un ulteriore parere sul testo modificato e quindi immaginiamo che per le 15.30 possiamo riprendere i lavori qui in aula quindi se fosse possibile un'ulteriore breve sospensione grazie bravo Presidente alcuni colleghi hanno chiesto la parola quindi lascio la parola primo collega che ha chiesto la parola è stato il Senatore Boccia lei la parola grazie Signor Presidente quello che è successo in Commissione Bilancio è molto grave Signor Presidente il gruppo del Partito Democratico chiede l'immediata convocazione della conferenza dei capigruppo intanto perché ci sono temi regolamentari che abbiamo il dovere di affrontare nella conferenza dei capigruppo abbiamo trovato non solo fuori luogo ma anche diciamo abbastanza goffa la spiegazione del Presidente della Commissione Bilancio e non solo perché eravate arrivati al 99esimo cancello e siete tornati indietro ma perché come lei sa Signor Presidente per la sua esperienza parlamentare non esiste non esiste il voto pari quando si è pari un emendamento è stato respinto quindi o si è pari o si è inferiori alla parità quando c'è una votazione se non c'è un voto in più diciamo chiunque viva le aule parlamentari conosce questi regolamenti quindi consiglierei al Presidente della Commissione consiglierei lasciate parlare Presidente Boccia al Presidente della Commissione Bilancio di considerare approvati gli emendamenti che hanno un voto in più della maggioranza ma il tema non è questo il tema Signor Presidente è di merito oggi la maggioranza e il Governo cercavano di porre toppe che ovviamente erano peggio del buco dagli indici di equivalenza passando per gli infortuni sul lavoro passando per il lavoro gratuito tutte questioni lavoro gratuito fatto dai lavoratori socialmente utili per non parlare dell'utilizzo dei lavoratori che prendevano un tempo il reddito di cittadinanza tutti i temi che noi abbiamo contestato nella Commissione Lavoro con le colleghe del gruppo del Partito Democratico e dei gruppi di opposizione non sono state accolte molte delle nostre proposte in maniera abbastanza rabberciata il Governo ha tentato di correggere alcune lacune che non erano corregibili e alla fine il risultato è stato quello che è sotto gli occhi di tutti sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati oggi dalla maggioranza come lei sa Signor Presidente non è possibile riproporli per questo chiediamo la conferenza dei capi gruppo non è più possibile nemmeno per noi tollerare una sorta di regolamento alla cart la maggioranza si sveglia e all'improvviso umiliando il Parlamento presenta rammendi peggiori dei buchi e poi pretendete di andare avanti come se nulla fosse successo non ve lo permetteremo pretendiamo il rispetto delle regole per questo Signor Presidente chiediamo la conferenza dei capi gruppo e chiediamo che le commissioni di merito innanzitutto la commissione lavoro e salute e poi la commissione bilancio si riuniscano successivamente alla conferenza dei capi gruppo per tornare ad analizzare il testo che non potrà più essere comprensivo degli emendamenti che oggi sono stati bocciati grazie grazie senatore lascio la parola senatore patuanelli a lei la parola grazie presidente colleghi posto che non mi affascina tanto il gioco per cui quando si è maggioranza si ragione in un modo e quando si è opposizione si ragione nell'altro dico però che oggi c'è un elemento nuovo molto innovativo che non ha precedenti cioè la commissione è andata in commissione bilancio la maggioranza è andata sotto sull'approvazione del parere che la commissione dà all'aula per gli emendamenti d'aula e questa è una cosa che non ha precedenti quindi dopo il DEF che non aveva precedenti ulteriore innovazione di precedenti da parte di questa compatta maggioranza sul tema dei pareri della commissione bilancio io credo che per questa ragione e soprattutto per la gestione dei tempi da adesso in poi sia necessaria la conferenza dei capi gruppo perché il presidente Calandrini ha semplicemente detto un'ovvietà si cambia il parere posto che per il noto principio del nebbis in idem non si può rivotare lo stesso parere ci sarà un parere che su un emendamento verrà modificato e si rivota il parere ecco però io credo che il dato politico e anche di rapporto tra maggioranza e opposizione ci consenta di chiedere come forze di opposizione una conferenza dei capi gruppo per gestire i tempi con i quali arriveremo al voto finale su questo decreto e lo dico con un po' di amarezza perché nonostante il tentativo incomiabile del presidente Zaffini in commissione io ricordo che gli emendamenti segnalati sono stati depositati il 28 maggio il 28 maggio quasi un mese fa ecco in un mese se la maggioranza e il governo non è riuscita a costruire il proprio percorso emendativo su un testo che sta lì da un mese e ci troviamo emendamenti all'ultimo secondo compresa questa mattina con termini che non vengono fissati per i sub-emendamenti o con termini molto vicini per i sub-emendamenti quando il tempo per fare un lavoro ordinato pur nella contrapposizione politica su un decreto che è evidente che non avrà mai il nostro supporto ma pur in questa contrapposizione si poteva fare un lavoro ordinato evidentemente non si è in grado di fare un lavoro ordinato e quindi ritengo che sia la conferenza dei capigruppo a dover affrontare questo tema grazie l'attrice Paita lei è la parola Presidente almeno supero la fregole boicottaggio Presidente voglio solo rammentare il fatto che questo decreto è stato annunciato con una propaganda di stampa che diceva che sarebbe stato il più grande taglio del cuneo di tutti gli ultimi anni non siete stati in grado nemmeno di garantire la maggioranza per il più grande taglio del cuneo degli ultimi anni e questo è un problema è un problema perché vedete chi vi parla non ha un atteggiamento ideologico su questo decreto ne vede i lati buoni e i lati meno buoni ma il punto è politico che voi non siete in grado all'interno delle commissioni di garantire le maggioranze neppure per le cose per le quali fate una propaganda esasperata nel paese allora ve lo dico in modo molto chiaro nonostante una posizione che è molto articolata sui temi del decreto noi ci associamo alla richiesta di conferenza dei capigruppo fatta dagli altri colleghi dell'opposizione perché è del tutto evidente che la riprogrammazione dell'aula deve essere fatta sulla base di quello che è avvenuto e che non si possa fare finta di nulla ripeto potete anche avere fatto un'operazione parziale sul taglio del cuneo di sicuro non siete in grado nei lavori delle commissioni di riuscire a portare avanti nemmeno il minimo lavoro che impostate pertanto dal momento che è successo un fatto grave che non può essere diciamo declinato come una non maggioranza come ha detto il presidente Calandrini che rispetto che è persona seria eccetera eccetera ma che d'altronde deve gestire peraltro ricordo a tutti che il voto a parità è stato raggiunto con il voto del presidente Calandrini e la cosa in qualche modo dovrebbe anche spiegare le difficoltà che voi avete non è nostro dovere garantirvi la maggioranza c'è bisogno di una riprogrammazione dei lavori in conferenza dei capigruppo quindi presidente la prego di convocarla immediatamente perché abbiamo tutti bisogno di fare chiarezza senatore De Cristoforo lei ha la parola senatrice ha lei la parola al posto del senatore De Cristoforo ah hai fatto il cavaliere va bene ok grazie grazie presidente grazie senatore De Cristoforo io mi associo alle richieste dei senatori che sono intervenuti prima la decima commissione è impegnata su questo disegno di questo decreto legge con la conversione da settimane la settimana scorsa abbiamo fatto una serie di sedute con anche riconvocazioni praticamente ad oras o anche a minuti e ogni volta mancavano sempre i pareri e ogni volta c'erano problemi sugli emendamenti della stessa maggioranza quindi quello che è successo in commissione è davvero grave ma soprattutto significativo e certamente non è rispettoso del ruolo di questa Camera di questo Senato pretendere una riconvocazione a mezz'ora quando si sa che intanto mezz'ora non basterà e soprattutto la maggioranza deve sapere gestire i suoi tempi d'aula le sue votazioni e garantire che i suoi provvedimenti arrivino firmati con i pareri e la votazione necessaria per poter essere portati in aula quindi mi associo alla richiesta di convocazione della conferenza di capigruppo perché è necessario nel rispetto di tutti noi che i lavori vengano calendarizzati tenendo conto di tutto quello che è successo grazie Senatore Malan a lei la parola Sì Presidente io vorrei precisare una cosa che mi sembra superflua ma evidentemente non lo è siamo tutti ben consci del fatto che quando un provvedimento o un qualsiasi documento che viene messo al voto di una commissione o dell'Assemblea del Senato finisce pari tanti voti in favore quanti voti contrari questo documento non è approvato ma non erano ma era un parere su una serie di emendamenti non vuole assolutamente dire che questi emendamenti sono stati bocciati è stato bocciato nel senso di non approvato il parere sugli emendamenti detto questo ci sono state due richieste di di convocare la conferenza dei capigruppo e una richiesta di non farlo anche dall'opposizione bene io mi rimetto alla decisione del Presidente ma ritengo per conto per conto nostro per conto del gruppo Fratelli d'Italia del tutto superfluo una conferenza di capigruppo per una questione che deve che non può che essere risolta in commissione perché uno può avere tutti i pareri che vuole ma ci vuole un parere della commissione bilancio senza quel parere che può essere a favore contro ci deve essere per cui è lì che si deve fare non si fa certamente nella conferenza di capigruppo grazie Presidente Malan lascio la parola al Senatore Romeo sì grazie Presidente adesso al di là di quelle che sono le valutazioni politiche ognuno fa il gioco delle parti quindi indubbiamente quello che è successo in commissione bilancio l'opposizione lo metterà in rilievo in risalto come giusto che sia che noi al vostro posto avremmo fatto sicuramente lo stesso però al di là della valutazione politica visto considerato che il decreto comunque abbiamo messo in evidenza come era stato stabilito nella scorsa conferenza dei capigruppo che fosse comunque portato a conclusione nella giornata di oggi tanto è vero che non è neanche prevista la seduta non ha fine lavori e l'ora 20 come in tante altre situazioni l'invito che faccio al di là della questione politica che resta e di cui farete tutto quello che potete fare l'intervento in aula mostrare la maggioranza è mancata questo e quello tutte cose legittime però da un punto di vista regolamentare seguiamo una procedura che o la commissione bilancio effettivamente a termini di regolamento può diciamo così esprimere si deve ritornare a diciamo in commissione per fare la valutazione sull'espressione di un preere che deve essere favorevole o contrario oppure altrimenti c'è sempre l'alternativa che gli emendamenti vengano ritirati e si prosegua lo svolgimento normalmente del decreto quindi queste sono due opzioni sul tavolo e che però senza star qua a perdere tempo forse è meglio che la commissione bilancio si ritrovi subito non alle tre alle tre un quarto o meno e faccia queste valutazioni quindi o ci sono effettivamente se si è in grado di esprimere un parere sulla base di termini regolamentari chiari e certi o altrimenti si ritirano gli emendamenti perché giustamente gli incidenti possono capitare se capitano ci mancherebbe altro la maggioranza farà ammenda di questo indubbiamente però non rallentiamo quello che è un ITER che comunque alla Camera stanno aspettando il decreto perché devono avere quella tempistica necessaria al netto di tutte quelle che possono essere le valutazioni politiche ripeto però la conferenza di Capigruppo cosa può chiarire se non semplicemente fare un po' di gran cassa di una situazione che è accaduta da un punto di vista regolamentare penso possa essere poco produttiva le valutazioni c'è tempo di fare sugli emendamenti sulla discussione sulle dichiarazioni di voto è semplicemente per cercare insieme una gestione ordinata dell'Aula ribadisco al netto delle valutazioni politiche che sono evidenti io sono in maggioranza lo riconosco io e non ci nascondiamo certamente dietro a nessuno grazie Presidente De Cristoforo lei ha la parola no Presidente grazie però solo mi rivolgo ai miei colleghi per il suo tramite come si fa in questi casi però vorrei dire loro che non è che qui si sta facendo una pantomima un gioco delle parti tra maggioranza e posizione se no diventa veramente una ridicolizzazione dell'Aula della Commissione e anche delle cose politiche francamente almeno dal mio punto di vista assolutamente non condivisibile non è che siccome ora c'è un'opposizione che dice delle cose non è così qui c'è semplicemente un fatto anzi in realtà di fatto ce ne sono due perché diciamo questa cosa che è successa me lo consentirete me lo consentirete lo devo dire è anche un po' l'epilogo di una scelta che però si è fatta in tutte queste settimane tra l'altro se vi rileggete perché l'Aula era inevitabilmente un po' deserta stamattina mentre lui faceva il suo intervento quando il mio collega il senatore Magni stamattina è intervenuto in discussione generale ha esattamente posto naturalmente non poteva ancora sapere quello che sarebbe successo in Commissione e bilancio ma ha esattamente posto una serie di questioni di merito su come è stato condotto l'iter di questo provvedimento e anche sull'atteggiamento che il Governo ha avuto nei confronti di alcuni emendamenti di diversi emendamenti dell'opposizione che come spesso accade sono stati messi da parte e poi bocciati senza che ci fosse una motivazione di nessun genere ma è evidentemente anche questo il frutto inevitabile della scelta che è stata fatta in tutte queste settimane è stato ricordato gli emendamenti sono stati presentati molte settimane fa e ricordiamoci anche sempre che questo decreto nasce col vizio di fondo perché non lo dimentichiamo mai è il decreto che è stato presentato il primo di maggio quindi proprio con il massimo diciamo così della propaganda dal mio punto di vista anche della strumentalità perché poi contiene cose che non vanno nella direzione della festa dei lavoratori e delle lavoratrici diciamo così ma in ogni caso stiamo ai fatti si è prodotto un fatto politico all'interno della commissione dopo una serie di settimane in cui il governo ha avuto un determinato atteggiamento nei confronti degli emendamenti anche quelli di buonsenso fatti dall'opposizione poi si produce in commissione un fatto politico che la potete raccontare come volete ma è un fatto politico evidente un emendamento che viene proposto in commissione e che non passa è bocciato non è che c'è da fare diciamo così giochi di parole su questo l'emendamento è respinto da questo punto di vista il regolamento è ovviamente chiarissimo è chiarissimo naturalmente quello che è successo negli ultimi cento anni di storia diciamo così di questo senato e quindi mi pare evidente che rispetto a un fatto del genere come minimo bisogna consentire alle forze dell'opposizione che lo stanno richiedendo per di più su un provvedimento così importante un elemento di approfondimento quello che chiediamo noi io mi associo alla richiesta dei miei colleghi dell'opposizione con la convocazione della conferenza dei capogruppo però mi lasci finire in questo modo è proprio l'epilogo inevitabile di una scelta che è stata fatta in tutte queste settimane è chiaro che se scegli la strada della propaganda e scegli non confrontati nel merito poi questo è il frutto inevitabile di un meccanismo tutto sbagliato grazie senatore lascio la parola al senatore Damiani a lei la parola sì grazie presidente io sono intervenuto per primo in aula questa mattina alle ore dieci e venticinque circa per in discussione generale ed eravamo presenti un po' di maggioranza forse non c'era nessuno dell'opposizione ho dichiarato e ho dichiarato immediatamente il voto il voto favorevole il voto favorevole di Forza Italia su un provvedimento importante su un provvedimento che il governo ha fatto in quella che è la data simbolo il primo maggio del lavoro e del lavoratore che forse voi vi siete dimenticati da un pezzo e ci pensiamo noi oggi ai lavoratori e al lavoro con l'approvazione di questo provvedimento quello che è accaduto in commissione dal punto di vista politico non ha alcuna rilevanza se oggi siete attaccati a questi piccoli episodi non avete argomenti politici per controbattere la maggioranza quello che è accaduto in commissione senatore la invito a rivolgersi alla presidenza mi rivolgo al presidente grazie quello che è accaduto in commissione bilancio era ampiamente noto perché già questa mattina avevamo un impegno di gruppo che è ritardato di solo un quarto quindici minuti quindi siamo arrivati io e il senatore Lotito componenti della commissione bilancio sempre presenti cento per cento di presenza in commissione siamo arrivati un quarto d'ora in ritardo non c'è alcun problema politico non c'è bisogno di alcuna conferenza dei capigruppo possiamo ritornare in commissione bilancio perché l'emendamento non è stato votato in maniera contraria possiamo ritornare in commissione bilancio rivotare il nuovo parere e stare tutta la notte a votare gli emendamenti ed approvare il provvedimento qui in aula quindi le polemiche politiche dell'opposizione le respingo e noi siamo pronti invito il presidente di quest'aula a ritornare e a riconvocare anche una commissione bilancio per tornare a votare quindi nessuna polemica su quello che è accaduto soltanto purtroppo una coincidenza di tempi che non c'è stata rispetto a un impegno di gruppo che avevamo grazie senatrice Biancofiore a lei la parola grazie presidente da capogruppo del gruppo civici moderati civici d'Italia moderati Udc Coraggio Italia e Maie mi associo ovviamente a quanto detto dai miei colleghi di maggioranza perché il senatore De Cristoforo fa finta di non aver capito quanto detto dal collega a Malan ovvero fa finta di non capire qual è stata l'evidenza ovviamente riportiamo tutto a più miti consigli e anche alla calma in quest'aula in realtà non è stato bocciato alcun emendamento ma semplicemente un parere e come tale il parere va discusso di nuovo in quella commissione quindi non c'è alcun bisogno della capigruppo si prosegua secondo quelle che sono le regole che ci siamo date già in precedenza l'aula è convocata quindi per cortesia evitiamo le polemiche che non ci sono esterile giustamente loro fanno politica ma qua non c'è nessuna questione politica c'è da rivotare un parere e quindi questo parere va votato come ho detto nella commissione grazie grazie senatrice no ho fatto parlare uno per gruppo ho fatto parlare uno per gruppo sentite per vie sentite per vie brevi il presidente la russa convoco la conferenza dei capigruppo per le 14.45 la seduta è tolta colleghi la seduta è ripresa chiedo ai rappresentanti del governo se il rappresentante del governo si intende intervenire no la presidenza dichiara è improponibile esensi dell'articolo 97 comma 1 del regolamento per estranità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge gli emendamenti 13.0100 16.01 18.01 19.0.3 19.0.4 22.0.1 23.0.1 24.0.14 27.0.1 27.0.2 36.101 38.0.6 38.0.8 38.0.14 38.0.17 41.0.100 43.1 43.2 43.0.1 e 43.0.8 la presidenza dichiara altresì inammissibile il subemendamento 25.0.1000 barra 1 allora emendamenti all'articolo 1 la senatrice Pirro intende illustrare non intende illustrare senatore Mazzella il senatore Magni la senatrice Susanna Lina Giulia Camusso non intende illustrare la senatrice Zampa non intende illustrare pareri della relatrice contrari a tutti gli emendamenti dell'articolo 1 pareri del governo conforme al relatore allora passiamo alle votazioni siete pronti alle votazioni siccome è la prima votazione grazie allora se qualcuno deve ritirare le tessere procedete senatrice Gelmini prenda posto allora pongo in votazione l'emendamento 1.1 Pirra ed altri e anche con il parere contrario della quinta oltre che del governo del relatore dichiara aperta la votazione avete votato tutti è la prima votazione quindi c'è un margine di tolleranza maggiore senatore Guidi attendiamo il senatore Guidi certo ha votato il senatore Guidi sì allora dichiaro chiusa la votazione il senato non approva passiamo all'emendamento 1.2 Mazzella ed altri con il parere contrario del relatore di governo e quinta votare la prima parte se respinta sono preclusi altri emendamenti dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari dichiaro chiusa la votazione il senato non approva sono quindi preclusi l'1.3 e l'1.4 e quindi passiamo all'1.5 pagina 6 pareri contrari del relatore di governo zampa ed altri e anche pareri contrari della quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva siamo all'emendamento 1.7 zampa ed altri pareri contrari del relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva ordine del giorno abbiamo l'1.5 scusate allora mettiamo votazione l'emendamento 1.5 pagina 6 zampa ed altri pareri contrari del relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo quindi ora l'ordine del giorno G1.100 Magni altri ordini del giorno dobbiamo chiedere i pareri alla relatrice sugli ordini del giorno G.1.100 contrario scusi non la sento G.1.100 contrario G.1.101 contrario G.1.102 contrario G.1.100 favorevole con riformulazione G.1.100 lei ha detto G.1.100 G.1.100 è dopo è dopo non lo trovavamo quindi bene allora ci sono i pareri contrari del governo conforme il relatore bene quindi passiamo alla votazione degli ordini del giorno che immagino il senatore Magni vorrà rivolgere allora pareri contrari di regolazione del governo ordine del giorno G.1.100 Magni ed altri dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva allora abbiamo l'ordine del giorno G.1.101 del senatore Magni ed altri pareri contrari dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva G.1.102 Magni ed altri pareri contrari dichiaro aperta la votazione a cosa passiamo dichiaro chiusa la votazione allora dobbiamo accantonare il senato non approva allora accantoniamo l'articolo 2 e passiamo all'articolo 3 pagina 44 del fascicolo così potete seguire più agevolmente allora illustrazione eventuale degli emendamenti da parte di senatrice Sbrollini intende illustrare no senatrice Furlani intende illustrare no senatrice Zampa intende illustrare no senatrice Camusso intende illustrare no mi pare di capire no senatrice senatore Magni intende illustrare no senatrice senatore Mazzella senatrice Guidolin senatrice Pirro senatrice Damani e questi erano i presentatori passiamo alla votazione ai pareri della relatrice parere contrario su tutto l'articolo pareri del governo conforme al relatore allora a questo punto abbiamo i pareri e quindi con i pareri contrari del relatore del governo e anche della quinta commissione pongo in votazione congiuntamente gli emendamenti 3-1 Sbrollini 3-2 Furlan ed altri parere anche contrario della quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva emendamento 3-3 Zampa ed altri pareri contrari del relatore del governo e quinta commissione dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 3-4 Magni ed altri pareri contrari del relatore del governo e quinta commissione dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva siamo al 3.5 pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.6 pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.12 si vota la prima parte se respinta ci sono delle preclusioni pareri contrari all'emendamento Pirro e altri di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva sono preclusi il 3.13 e il 3.14 siamo al 3.15 Zambito ed altri pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.16 si vota la prima parte con effetti preclusivi per altri in caso di respingimento di Damante, Mazzella ed altri pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva a questo punto è precluso il successivo 3.17 abbiamo il 3.18 Piro Guidoli e Mazzella pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.19 Camusso ed altri pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.20 Furlano ed altri pareri contrari di Governo e Relatore e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.21 Pirlo ed altri pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 3.01 si vota la prima parte Magni, Zampa ed altri pareri contrari di Relatore Governo e Quinta dichiaro aperto la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva sono preclusi il 3.02 e il 3.03 e quindi siamo all'articolo 4 è arrivato il parere della Quinta che ci consente di votare tutti gli emendamenti credo che gli uffici abbiano bisogno di qualche attimo qui dell'aula perché sono 5 pagine bisogna fare il lavoro con precisione però il parere è arrivato potremmo esaminare negli ordini del giorno così mentre gli uffici prendono nota delle osservazioni che sono arrivate per comunicarle all'aula e avere una regolarità quindi potremmo votare alcuni ordini del giorno a pagina 87 che non hanno bisogno di questi pareri ulteriori allora adesso non della Quinta dicevo allora a pagina 87 Relatrice abbiamo un ordine del giorno Cosenza G12.100 che lei aveva citato prima anticipandosi si ci eravamo portati avanti ha visto era stata favorevole con la seguente riformulazione prego ascolti il presentatore Cosenza Cosenza impegna il governo a valutare la possibilità compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e con l'ordinamento comunitario di prevedere nel primo provvedimento utile l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni rese dall'agenzia per il lavoro ad enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo di cui l'articolo 12,4 del decreto legislativo 10 settembre 2023 numero 286 non riconducibile alla fatta in specie di cui l'articolo 10,1 numero 20 del DPR 26 ottobre 72 numero 633 allora se il presentatore accetta questa come dire ampia riformulazione la senatrice Cosenza accetta la riformulazione quindi è accettato è accolto con riformulazione dopodiché abbiamo un altro ordine del giorno a pagina 129 la senatrice si rechi a pagina 129 come faccio io l'ordine del giorno G19.100 del senatore Bergesio qual è il suo parere? favorevole con raccomandazione come raccomandazione poi c'è un G19.101 Murelli e altri favorevole favorevole non come raccomandazione quindi viene accolto il G19.102 del senatore Magni ed altri contrario contrario ce n'è uno successivo 103 del senatore Magni ed altri contrario contrario allora poi abbiamo ancora un G19.104 Magni ed altri contrario e poi vediamo se abbiamo finito no sì mi pare che gli ordine del giorno di questo settore li abbiamo finiti allora il parere del governo senatore Durigon si deve alzare conforme al relatore grazie allora quindi abbiamo allora il G19.100 senatore Bergesio è stato accolto come raccomandazione lei si dichiara soddisfatto senatore Murelli è stato accolto quindi è soddisfatto perché è stato accolto mentre il senatore Magni immagino chieda la votazione del suo ordine del giorno come suo diritto quindi pongo in votazione con i pareri contrari del relatore del governo l'ordine del giorno Magni 19.102 a pagina 131 per chi vuole seguirlo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 19.103 ordine del giorno Magni ed altri i pareri contrari di relatore del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 19.104 Magni e Cristoporo ed altri i pareri contrari del relatore del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva andiamo a pagina 147 è un altro fascicolo che adesso vediamo se la presidenza ce l'ha adesso ci forniremo dell'altro fascicolo a pagina 147 eccolo qua allora pagina 147 reca l'ordine del giorno 22.100 relatrice penso che lei abbia tutti i fascicoli 22.100 del senatore Magni qual è il suo parere? favorevole con la riformulazione a valutare l'opportunità di governo nel limite delle risorse disponibili beh certo conformi al relatore senatore Magni accetta la riformulazione va bene quindi accolto con riformulazione e quindi anche questo di pagina 147 poi possiamo andare a pagina 175 dove abbiamo l'ordine del giorno G26.100 senatore Pirro la relatrice è contraria governo conforme al relatore senatore Pirro immagino che eh senatrice chiedo scusa senatrice Pirro insiste per la votazione certamente certo allora pongo in votazione con i pareri contrari l'ordine del giorno Pirro della senatrice Pirro G26.100 pagina 175 dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva poi abbiamo a pagina 179 l'ordine del giorno relatrice G27.100 del senatore Zanettin favorevole con la seguente riformulazione a valutare l'opportunità di adottare ogni misura volta a garantire la pronta implementazione della procedura telematica di pronotazione di fondi che l'Inps è tenuto a strutturare e gestire i sensi dell'articolo 27,4 del decreto legge 48 2023 allora il senatore Zanettin accetta la riformulazione quindi accolto con riformulazione accolto poi a pagina 194 troviamo un altro ordine del giorno dei Murelli Minazzi Cantucci 34.100 relatrice la ringrazio per la sua duttilità favorevole e il governo conforme al relatore accolto Murelli ed altri e quindi accolto a pagina 208 troviamo un altro ordine del giorno che è Damiani Silvestro G37 punto 100 e lei è favorevole invito a ritiro favorevole ah invito a ritiro governo conforme grazie senatore Damiani che cosa fa accoglie l'invito del governo accoglie l'invito a pagina 211 troviamo invece l'ordine del giorno Magni di Cristoforo Cucchi ed altri 38.100 contrario contrario governo contrario senatore Magni insiste per la votazione che io apro con i pareri contrari di relatore governo di aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva poi a pagina 226 abbiamo l'ordine del giorno 39.000 Pirro Mazzella Guidolin parere favorevole per la seguente riformulazione a valutare ogni opportuna iniziativa nei limiti delle risorse disponibili è accettata la riformulazione senatrice Pirro lo accetta quindi accolto con riformulazione gli uffici hanno preso nota che vedo che è una fase un po' anche per loro impegnativa accolto con riformulazione poi abbiamo un altro ordine del giorno a pagina 253 del fascicolo abbiamo l'ordine del giorno 4200 Murelli Minasi Cantù parere favorevole con la riformulazione che lei ci legge impegna il governo a valutare l'opportunità di istituire un fondo nuove competenze per la maternità al fine di supportare anche con incentivi e di fiscalizzazione le aziende private che per sei mesi successivi rientrano sul posto di lavoro avviano percorsi di formazione e crescita delle competenze per le lavoratrici madri nei limiti delle risorse disponibili Governo conforme al relatore allora quindi accetta la riformulazione sì e quindi accolto con riformulazione aspetti che ne prendiamo nota accolto con riformulazione poi abbiamo abbiamo esaurito gli ordini del giorno che intanto abbiamo esaminato ritorniamo all'articolo 2 allora torniamo all'articolo 2 allora eventuali illustrazioni articolo 2 senatrice Guidolin senatrice Pirro senatrice Damante Mazzella Camusso Furlan Zampa Magni Sbrollini e poi c'è un emendamento della relatrice però ce lo dirà nei pareri quindi nessuno ha illustrato quindi direi i pareri della relatrice sugli emendamenti all'articolo 2 e torniamo alla pagina 12 del fascicolo prego senatrice allora sono tutti i contrari ad eccezione delle 2.1000 del relatore 2.1000 che poi troveremo nel fascicolo più avanti devo immaginare perfetto bene governo conforme al relatore allora partiamo dal 2.100 già 2.1 pareri contrari del relatore governo e quinta commissione si vota la prima parte dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione tutto a posto il senato non approva sono preclusi quindi è precluso il successivo 2.101 pertanto passiamo al 2.102 prima parte camusso ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva quindi è precluso il 203 e quindi passiamo al 204 prima parte Piero Guidroni ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva il successivo 2.105 è precluso siamo alla prima parte del 2.7 Magni ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva a questo punto sono preclusi il 2.8 e il 2.9 andiamo al 2.11 Piero Mazzella ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione ah vuole intervenire prego mi scusi eh? dichiarazione di voto ci mancherebbe sarò breve ma volevo solamente rimarcare ancora una volta l'assurdità del parere contrario su questo emendamento che non chiedeva null'altro che estendere alle famiglie con figli sotto i 26 anni che quindi stanno facendo e che stanno facendo un percorso di studi la possibilità di accedere all'assegno di inclusione perché forse la maggioranza del governo non si sono resi conto che gli studenti in Italia concludono il ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado all'età di 19 anni voi gli state togliendo il sostegno un anno prima della conclusione degli studi dicendo che devono andare a lavorare per dare una mano a mantenere la famiglia a fare gli schiavi invece che formarsi un percorso di studi e proseguire magari anche all'università questo state dicendo ai nostri giovani che devono restare ignoranti per fare gli schiavi nelle imprese dei vostri amici ditelo ai cittadini italiani quello che pensate veramente allora dopo la dichiarazione vota della senatrice birro pongo in votazione il 2.11 a pagina 20 pareri contrari di redatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.13 guidoline ed altri pareri contrari di redatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.14 prima parte furlan zampa ed altri pareri contrari il redatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva sono preclusi i 2.15 i 2.16 seguenti quindi passiamo al 2.18 pareri contrari sulla prima parte che si pone in votazione di quinta relatore governo magne ed altri dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva adesso sono preclusi successivi fino al 2.21 che pongo in votazione mazzella ed altri con pareri contrari di relatore il 2.22 scusate il 2.21 era anche lui precluso 2.22 pagina 27 furlan zampa mazzella ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.23 guidoline ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva poi siamo al 2.25 prima parte furlane ed altri dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari di quinta governo e relatore dichiaro chiusa la votazione il senato non approva e pertanto è precluso il successivo 2.26 il 2.27 prima parte magna ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva sono preclusi il 2.28 e il 2.29 siamo al 2.30 pareri contrari di relatore governo e quinta commissione dichiaro aperta la votazione camusso ed altri dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.32 camusso zampa furlana ed altri dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari governo relatore quinta dichiaro chiusa la votazione il senato non approva siamo al 2.106 già 2.33 guidoline ed altri pareri contrari di relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.46 già 1.8 Camusso ed altri dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari di relatore del governo e quinta dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.100 2.1000 barra 1 Pirro che succede? è arrivato il senatore Menia benissimo ne prendiamo atto allora 2.1000 barra 1 pareri contrari del relatore del governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.1000 barra 2 pareri contrari di quinta di relatore del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva pareri contrari della quinta del relatore del governo all'emendamento 2.000 barra 3 Camusso, Zampe ed altri, dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 2.000 barra 4 Camusso ed altri pareri contrari del relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 2.000 barra 5 Furlane ed altri pareri contrari di quinta relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva Pirro 2.000 barra 6 pareri contrari di relatore governo equita dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva ora siamo al 2.100 della relatrice e 2.000 della relatrice con parere favorevole della relatrice e del governo che è condizionato al parere della quinta c'è una riformulazione della quinta lei accetta la riformulazione della quinta? accetto la riformulazione come concordato si è a disposizione è in distribuzione ai gruppi come di consedutine se volete la leggiamo la leggiamo e datemela che la leggiamo sull'emendamento in questione il parere nonostativo è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della costituzione alla seguente riformulazione all'articolo 2 i commi 4 e 4 bis sono sostituiti dal seguente 4 il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2 virgola lettera B numero 2 corrispondente a una base di garanzia di inclusione per la fragilità che caratterizza nel nucleo è pari a 1 ed è incrementato avvino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza a. di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità e non autosufficiente secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159 del 2013 b. di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore ai 60 anni c. di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti dall'articolo 6,5 d. di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio biopsico sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione e. di 0,15 per ciascun minore di età fino a 2 f. di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo conseguentemente all'articolo 13 e quindi c'è una copertura nuova se volete la potrei leggere nel dettaglio però poi potrei chiedere a qualcuno di fare un riassunto e sarebbe difficile è in distribuzione ai gruppi quindi diciamo tutti potranno prenderne atto la senatrice Zampa ha chiesto la parola prego grazie Presidente chiedo la parola ho chiesto la parola per dichiarazione di voto perché il nostro gruppo voterà a favore di questo emendamento ed è l'unico degli emendamenti e subemendamenti che sono stati presentati dalla maggioranza noi prendiamo atto che la maggioranza ha avuto un importante ravvedimento e ha corretto dopo discussioni davvero inutili e superfule che sono state fatte in commissione credo che sia stato molto convincente quanto ieri l'ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso facendo una fotografia di ciò che avverrà con la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione meno 42% sarebbero state nella prima versione le famiglie in realtà che possono avere accesso e meno 28% le risorse diciamo così è stato ascoltato poi questa mattina nella complessa questione che si è svolta alla commissione bilancio la nostra richiesta anche di arrivare fino a una soglia superiore e quindi queste sono le ragioni meglio tardi che mai per cui noi abbiamo deciso di votare a favore Allora Senatore Mazzella Prego Anche il Movimento 5 Stelle Alzi il microfono Senatore non la sento In dichiarazione di voto Prego Anche il Movimento 5 Stelle vuole esprimere comunque la sua il suo voto favorevole a questo emendamento che è l'unico che ci sembra abbia colto un nostro un nostro parere un nostro condizionamento mentre dobbiamo sottolineare la totalità poi degli altri emendamenti o la gran parte di tutti gli emendamenti non sono stati accolti per cui poi noi abbiamo continueremo il nostro percorso di opposizione a questo decreto che continuiamo a chiamare decreto precarietà Allora credo di poter porre in votazione il 2.1000 con la riformulazione che è stata distribuita ai gruppi parere della relatrice è favorevole il governo non ho chiesto il parere ma lo acquisiremo sì favorevole immagino allora dichiaro aperta la votazione con i pareri favorevoli dichiaro chiusa la votazione il senato approva allora a questo punto siamo a pagina che sono preclusi ulteriori emendamenti 2.35 2.36 eccetera fino a pagina 42 ripartiamo dal 2.108 già 2.42 zampa ed altri pareri contrari il relatore governo è prima dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.44 pirro ed altri pareri contrari di relatore governo è quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 2.45 magne ed altri pareri contrari di relatore governo è quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo identici emendamenti 3.1 e 3.2 di sbrollini no l'abbiamo già votati questo giusto quindi andiamo all'articolo 4 questi li abbiamo tutti votati del 3 allora si scusate che facciamo un attimo andiamo alle illustrazioni del 4 allora gli avventamenti al 4 sono a pagina 57 le eventuali illustrazioni riguardano la senatrice Zampa intende a illustrare no senatrice Camusso no senatrice Malpezzi no mazzella senatrice Guidolin la relatrice poi ci darà il parere su 4.1000 a questo punto le diamo la parola per i suoi pareri contraria ad eccezione del 4.1000 governo conforme al relatore votazione del 4.100 già 4.3 di Zampa ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 4.4 mazzella ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 4.5 camusso ed altri pareri contrarie di relatore governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 4.17 pareri contrari di quinta governo e relatore dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 4.18 pareri contrari di relatore governo dichiara aperta la votazione di Camusso e altri demendamenti. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.19, Guidolini e altri, pareri contrari di Relatore, Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.23, Malpezzi ed altri, pareri contrari di Relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.101, già 4.7, Guidoline e altri, pareri contrari di Relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, passiamo al 4.24, Guidoline e altri, contrario, Governo, Relatore e Quinta, dichiaro aperta la votazione. E' aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.1000.1, pareri contrari di Relatore e Quinta, Governo e Relatore, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Siamo ora al 4.1000 della Relatrice, con pareri favorevoli della Relatore e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. 4.102, Camusso ed altri, pareri contrari della Relatore e del Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Guidoline e altri, 4.103, già 4.26, pareri contrari di Relatore e del Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.27, Guidoline e altri, dichiaro aperta la votazione, con i pareri contrari di Relatore e del Governo, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 4.104, Camusso ed altri, dichiaro aperta la votazione, i pareri sono contrari. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Articolo 5, senatrice Sbrollini intende illustrare, no, senatrice Camusso, senatrice Malpezzi, Mazzella, senatrice Guidolin, no, scusate, Zambito, Camusso, Magni, Guidolin, bevi l'acqua, la Relatrice, gli do ora la parola per i suoi pareri perché ce n'è anche uno che lei ha presentato. Prego, senatrice. Tutti i contrari ad eccezione del 5.1000. 5.1000 a pagina 62, un emendamento della Relatrice. Governo, conforme Relatore, pongo in votazione, in unica votazione, gli emendamenti 5.1 Sbrollini e 5.2 Zambito. Il parere è contrario, di Relatore, Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato è contrario, non approva. Abbiamo il 5.1000 della Relatrice, con parere favolevole del Governo e della Relatrice. Dichiaro aperta la votazione. Il parere della Relatrice è favorevole. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 5.4 e 5.5, il primo è Di Magni, il secondo è Camusso ed altri. Vengono posti in votazione congiuntamente, con pareri contrari del Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. 5.4 e 5.5. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 5.6, Guidoline ed altri. Abbiamo il parere contrario del Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 5.7, bevi l'acqua ed altri. Prego, Senatrice. Vorrei intervenire in dichiarazione di votazione. Perfetto, 5.7, prego. Vorrei fare riflettere sulla maggioranza sul fatto che questo emendamento avrebbe lo scopo di ancorare l'offerta formativa ai tirocini e quant'altro al territorio in cui vengono erogati. Perché, faccio un esempio, fare un corso di formazione per saldatori in una realtà in cui non esistono fabbriche siderurgiche significa comunque destinare quell'attività all'insuccesso per un'offerta lavorativa che sia coerente col territorio. Quindi vi invito a tenere presente il fatto che se vogliamo creare corsi di formazione che portino a sbocchi lavorativi sarebbe opportuno tener conto delle esigenze lavorative di quel territorio. Quindi fate attenzione a quello che state facendo e ditelo agli italiani che li volete trasbordare lontani dalla loro terra altrimenti perdono il reddito di inclusione. Grazie. 5.7. Con pareri contrari di relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Poi abbiamo l'articolo 6. Senatrice Camusso non intende illustrare. Senatrice Furlan, senatrice Zampa, senatrice Guidolin, senatrice Pirro, la relatrice Cidra dopo, senatore Magni, senatrice Sbrollini. La relatrice per i pareri c'è anche un suo emendamento. 2. Sono tutti contrari ad eccezione del 6.1000, 6.1001 sempre a firma relatora. Sono due emendamenti. Benissimo. Governo. Conforme al relatore. Passiamo alla votazione del 6.2 Camusso ed altri. Pareri contrari del relatore Governo dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 6.3. Pareri contrari di Governo, relatore Quinta, Guidolin e altri. La senatrice Guidolin intende fare una dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Allora, solo per ripetere per l'ennesima volta quello che ho spiegato in Commissione, che appunto questo emendamento cercava di dare anche una mano alla maggioranza, in quanto a nostro avviso stiamo sovraccaricando quelli che sono i servizi sociali dei nostri territori, e quindi gli assistenti sociali dei comuni, di numerose incumbenze. Perché pensiamo a questo decreto, pensiamo a quello sui dialianziani. E quindi volevamo appunto chiedervi, tra l'altro, che è una cosa comunque già coperta finanziariamente, chiedervi di portare il rapporto assistenza sociale abitante a 1,4 mila. Non avete voluto ascoltarci, io credo che questo provocherà numerosi problemi sui territori. Comunque, ecco, grazie. Allora, pongo in votazione l'emendamento. Allora, era il 6. 6.3 con pareri contrari del relatore di Governo e Quinta dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 6.4 furlano ed altri, pareri contrari del relatore di Governo, dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 6.6 e 6.7 identici, Guidolin entrambi con altri confirmatari, pareri contrari del Governo, del relatore e della Quinta dichiara aperta la votazione. C'era anche il successivo, il 6.100, sì, sono identici. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non li approva. Siamo al 6.1000 barra 1, Camusso ed altri, con pareri contrari. Di relatore di Governo e Quinta dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Ora siamo all'emendamento della relatrice, 6.1000, con parere favorevole della relatrice e del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Ricordo il parere della relatrice, però state attenti. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva l'approvazione del precluso, l'emendamento 12.100 a pagina 80, quindi prendetene nota. Abbiamo poi l'emendamento 6.1001 della relatrice, parere favorevole della relatrice e del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. 6.101, già 6.12, Furlan Zampedalti, pareri contrari di relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, 6.13, Magni e Dalti, si vota la prima parte. Pareri contrari di relatore Governo, aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva, quindi sono preclusi 6.14, 6.15. 6.18 e 6.19, unica votazione perché identici. 6.18, Piru e Dalti, 6.19, Camus e Dalti. Pareri contrari di relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, 6.23, Zampa, Camus e Dalti, pareri contrari di relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, 6.26, Piru e Dalti, contrari, Quinta, relatore Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, 6.24, Sbrollini, contraria, Quinta, Governo e Relatore, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, 6.31, Camus e Dalti, contrari, Quinta, relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, abbiamo il 6.32, Zampa e Dalti, contrari, Governo, Quinta, relatore e Relatore, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Abbiamo poi l'ultimo emendamento, giusto, 6.02, Camus e Dalti, contrari, Quinta, relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. L'articolo 7 non reca emendamenti. Quindi passiamo all'articolo 8, Senatore Magni, Senatrice Camusso, Senatrice Malpezzi, Senatrice Guidolin. Non ci sono illustrazioni, pareri, contrari, Governo, conforme. Quindi andiamo a votare l'emendamento 8.1 e l'8.2 identici, il primo di Magni ed altri, il secondo di Camusso ed altri, pareri contrari di Relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 8.3 Guidolin, pareri contrari di Relatore e Governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Abbiamo l'8.9 e l'8.10 identici, il primo di Guido Limpino e Romazzella, il secondo di Malpezzi ma anche da altri. I pareri sono contrari della quinta del Relatore e del Governo. Li pongo in votazione. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. Il 9, articolo 9. Giusto? Quindi cambiamo articolo. La senatrice Germini intende illustrare? No, no. No, no. Grazie. Poi abbiamo senatrice Pirro, senatore Magni, senatrice Zampa. La senatrice Camusso intende illustrare quello della senatrice Zampa, immagino. Quale intende illustrare? Dopo? Siamo all'articolo 9, senatrice. Quindi dopo, bene. Allora, quindi i pareri. Governo. Conforme. Votazione, articolo, emendamento 9.4, Zampa ed altri. Pareri, anzi no, scusate, 9.100, Gelmini ed altri. Pareri contrari di quinta, Governo e Relatore. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Abbiamo ora gli identici 9.2, Pirro ed altri, 9.3, Magni ed altri. In identica sostanza, votazione unica, pareri contrari, aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 9.4, Zampa ed altri. Pareri contrari di Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 9.5, Zampa ed altri. Pareri contrari del Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Abbiamo adesso la prima parte del 9.7, Magni e numerosi altri colleghi. C'è un pareri contrario del Governo, del Relatore e della Quinta. Dichiaro aperta la votazione. E vuole intervenire. Fermi tutti. Annullata la votazione. La Senatrice Camusso intende intervenire. Sul 9.7, con i pareri contrari. Noi stiamo votando la prima parte che ha effetti preclusivi sul successivo. Prego, Senatrice Camusso. Credo che tutti i colleghi e le colleghe sappiano che stiamo qui parlando dell'offerta congrua. cioè di quella che dovrebbe essere un'offerta di lavoro per chi percepisce il reddito di inclusione o per chi è avviato ai corsi di formazione che non può essere rifiutata appena la perdita del beneficio. Abbiamo già avuto occasione, gli emendamenti precedenti che avete bocciato sono tutti emendamenti che provano a dire che le persone difficilmente possono, se sono in povertà, hanno delle famiglie complesse alle spalle, spostarsi da un capo all'altro della penisola, magari trovare anche casa, magari risolvere tutti i problemi per dei lavori che magari sono a part time perché il vincolo è al 60%, quindi sono lavori anche poco retribuiti. In questo emendamento noi abbiamo provato a dire che almeno c'erano delle condizioni che dovevano essere generali, che si applicassero i contratti alle loro condizioni e che comunque, visto che l'obiettivo è sottrarre quelle persone alla povertà, ci fosse una condizione che il loro reddito, la retribuzione oraria, non fosse inferiore a 9 euro l'ordi all'ora, come condizione che non solo riconosce che il lavoro va pagato in ragione della sua qualità e della quantità della prestazione, ma che serve anche costruire un retroterra per quelle persone che gli permettano non di campare qualche tempo, ma di uscire dalla trappola della povertà e ad avere una prospettiva. Come potete vedere è un emendamento firmato da molte delle opposizioni che ci sono in questa aula ed era, come dire, un'occasione per dire che non si vuole persone povere, che non si vuole lavoro povero, che si vogliono dare delle risposte positive. Io credo che sarebbe utile che il governo, la relatrice, ci ripensassero prima di continuare a bocciare qualunque cosa che serve a dare una prospettiva di uscita dalla povertà a chi oggi ne ha bisogno. Senatore Magni Velocemente avevo chiesto la parola prima per illustrarlo, però poi e allora per dichiarazione di voto anch'io associandomi a quanto ha già detto la senatrice Camusso aggiungo un dato. A me pare che dovremmo tutti pensare se davvero crediamo che un lavoratore o una lavoratrice di fronte a una proposta di lavoro che ad esempio maggiormente sia a lunga distanza possa accettarlo deve avere le condizioni. Ora voi negando questo emendamento negando questa possibilità state dicendo in modo esplicito che è impossibile accettare qualsiasi proposta. Quindi voi a parole dite di voler creare e di dare la possibilità di lavoro nei fatti impedite di accettare questa cosa perché è impossibile per un lavoratore di Napoli pensare di arrivare a Lecco e non avere una garanzia e una condizione almeno dignitosa dal punto di vista della retribuzione. Senatore Mazzella Grazie Presidente In quest'Aula che ovviamente ha un valore sacro per tutti quanti noi io cito l'articolo 36 voglio leggerlo l'articolo 36 della Costituzione perché forse lo avete dimenticato il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ebbene tutto questo decreto non dà non dà la tutela al lavoratore noi chiedevamo esclusivamente che ci fosse una tutela secondo l'articolo 36 della Costituzione voi state negando la dignità del lavoro a centinaia a migliaia di lavoratori li state precarizzando con i voucher l'articolo 36 viene conculcato e vi ricordo che significa conculcare calpestare la Costituzione Allora pongo in votazione l'emendamento 9.7 Magna e molti altri colleghi parere contrario di relatore governo e quinta commissione la prima parte dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva è precluso quindi il successivo 9.8 passiamo a 9.6 zampe in altri parere contrario di relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 9.11 Pirro Mazzella ed altri parere contrario di relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 9.13 Pirro ed altri parere contrario di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 9.16 Pirro ed altri parere contrario di quinta relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva l'articolo 10 senatrice Pirro senatrice Camusso Franceschè Senatrice Fregolent. Pareri della relatrice. Senatrice, i suoi pareri. Sono tutti contrari. Governo. Votazione del 10.6. Pirro ed altri. Pareri contrari. Come avete appena sentito, dichiara aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 10.7. Pirro ed altri. Pareri contrari del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 10.10. Camusso ed altri. Pareri contrari. Di quinta. Relatore governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 10.11. Fregolent ed altri. Pareri contrari. Di quinta. Relatore governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 10.12. Fregolent e Sbrollini. Pareri contrari. Di quinta. Relatore governo. Dichiaro aperta la votazione. Aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 10.13, Fregole e Sbrollini. Contrari, quinta, relatore governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 10.16, Franceschelli. Contrari, relatore governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. L'articolo 11, Senatrice Guidolin, Fregole and, Senatrice Furlan, non illustrano. Passiamo ai pareri della relatrice. il governo pari 1.11 in votazione guidoni ed altri pareri contrari di relatore del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 1.14 frego l'entresbrollini dichiaro aperta la votazione pareri contrari 11.4 dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 11.6 furlano ed altri pagina 78 dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari di relatrice e governo dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 1.0.1 guidoline ed altri pareri contrari 1.11.0.1 con pareri contrari della quinta della relatrice e del governo dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva siamo all'articolo 12 a pagina 80 senatrice Pirro intende illustrare senatrice Guidolin senatrice Bevilacqua senatore Mazzella senatrice Camusso senatrice Malpezzi senatrice Furlan senatrice Zampa senatore Magni senatrice Cosenza senatore Guidi senatrice Gelmini la relatrice che ha un emendamento e dà dei pareri sono tutti i contrari dell'eccezione del 12.1000 il 12.1000 allora prendiamo nota che è un punto 1000 governo conforme al relatore pongo in votazione con i pareri contrari del relatore e governo con identica unica votazione perché identici ma i pareri contrari della relatrice del governo e della quinta commissione il 12.1 Pirro Guidolin Bevilacqua il 12.2 Camusso Zambito Furlan Zampa Manca Misiani è aperta la votazione chiusa la votazione il senato non approva il 12.100 è precluso dalla votazione del 6.1000 e quindi non lo poniamo in votazione dopodiché passiamo agli identici emendamenti 12.7 di Guidolinio ed altri 12.8 Malpezzi ed altri unica votazione unico parere contrario di relatore e governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.1000 barra 1 Furlan ed altri parere contrari di quinta relatore e governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.1000 12.1000 barra 2 camusso ed altri parere contrario di quinta 12.1000 barra 2 camusso ed altri parere contrario della quinta della relatrice e del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo ora l'emendamento a pagina 83 12.1000 della relatrice con i pareri favorevoli della relatrice e del governo dichiaro aperta la votazione il parere della relatrice favorevole dichiaro chiusa la votazione il senato approva quindi è precluso il successivo 12.11 che è precluso abbiamo il 12.12 zampa ed altri contrari relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.13 bevilacqua ed altri parere contrari di relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.15 furlano ed altri contrari quinta relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.16 mazzella ed altri quinta contraria come relatore e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato e il senato non approva abbiamo un ordine giorno cosenza che l'abbiamo votato già l'ho detto per mia memoria e quindi abbiamo però l'emendamento guidi che è un emendamento aggiuntivo devo dedurre 12.0 punto 1 però c'è la contrarietà della quinta e anche della relatrice e del governo con un invito a ritiro del senatore guidi che mi pare voglia accogliere l'invito a ritiro lo ritira grazie quindi è ritirato abbiamo il 12.0 punto 100 magni ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo il 12.0 gelmini ed altri pareri contrari di quinta relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro aperta la votazione il senato non approva 12.0 punto 102 mazzella ed altri vuole intervenire per dichiarazione di voto il senatore mazzella grazie presidente allora questo emendamento riguarda le competenze digitali tutto questo provvedimento vi prego attraverso il presidente voglio richiamare un attimo l'attenzione di tutti i miei colleghi tutto questo provvedimento ha come terminale una piattaforma digitale si chiama SILS è sicuramente una piattaforma importante e richiede sicuramente una serie di competenze digitali io non so se voi avete avuto l'occasione di parlare con chi ha percepito il reddito di cittadinanza con chi adesso percepirà delle forme che serviranno per la formazione del lavoro quello che avete costruito richiede certamente una competenza digitale competenza digitale che non hanno questi soggetti l'istituzione di un fondo per le competenze digitali che costa 5 milioni di euro va a colmare questo gap che ha questo disegno di legge quindi è migliorativo sicuramente nella direzione che doveva servire proprio alla formazione del lavoro io mi domando che tipo di formazione di lavoro volete per queste persone che adesso dovranno garantire il loro futuro se non ci diamo anche le competenze digitali ma scusate era un provvedimento di buonsenso non qualcosa veramente che andava contro questo provvedimento così come abbiamo votato favorevolmente come abbiamo combattuto avete visto abbiamo fatto prima una votazione insieme perché c'è stato un miglioramento io vi invito a cambiare la vostra opinione chiedo al governo di cambiare l'opinione sulle competenze digitali sono importantissime queste competenze dovete sapere che ci sono persone che non sanno neanche veramente accedere ad un'email e allora non possiamo non riconoscere questa necessità che ha la popolazione che si dovrà poi fornire di strumenti per poter raggiungere questo obiettivo che è il lavoro che è l'agognato lavoro degno decoroso che l'articolo 36 della Costituzione deve garantire e tra il decoro e la dignità che il lavoro deve garantire ci sono anche gli strumenti digitali e le competenze digitali perciò invito tutti i miei colleghi a rispondere con responsabilità con un voto responsabile su questo emendamento grazie allora pongo in votazione il 12.0 102 con pareri contrari di relatore governo e quinta commissione dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.0 103 guido limma e le d'altri contrari quinta commissione relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 12.0 punto 104 germini ed altri contrari quinta relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva articolo 13 la relatrice ha un emendamento dopo ci dirà senatrice Camusso senatrice Malpezzi senatore Magni senatore Calenda non intendono illustrare pareri della relatrice che è anche presentatrice di un emendamento il 13.000 della relatrice è ritirato quale? il 13.000 è ritirato è ritirato è ritirato e sugli altri emendamenti sono contrari governo conforme alla relatrice ritirato l'emendamento 13.000 votiamo con pareri contrari di relatore governo e quinta il 13.100 Camusso ed altri aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 13.101 Camusso ed altri pareri contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 13.10 Camusso ed altri pareri contrari di relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva 13.102 e 13.7 identici e 13.8 di Malpezzi Camusso e Magni con pareri contrari di relatrice governo e quinta posti in votazione congiuntamente aperta la votazione con i pareri contrari la votazione è chiusa il senato non approva il 13.0 risulta improponibile senatore Calenda articolo 14 Zampa intende illustrare Furlan Zambito Camusso aperta la votazione chiusa la votazione il senato non approva abbiamo ora il 14.4 Furlan ed altri parere contrario di relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 14.5 Zambito e altri contrari relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 14.6 Pirro ed altri il governo è contrario come la relatrice dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 14.9 Camusso ed altri pareri contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 14.12 Camusso ed altri pareri contrari da dice governo Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.100. Camusso ed altri. Pareri contrarie di ralettrice governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.26. Sbrollini. Pareri contrarie di ralettrice governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.27. Zampa, Camusso, Fulano, altri. Pareri contrarie di ralettrice governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Ora siamo al 14.101. Già 14.29. Sbrollini. I pareri sono contrari di ralettrice governo. Dò la parola alla Senatrice Zampa per dichiarazione di voto su 14.101. No, Presidente. Semplicemente noi chiediamo alla Senatrice Camusso, Furlan, Zambito ed io di sottoscrivere questo emendamento a prima firma Sbrollini. Ne prendiamo atto? Vuole dire qualcosa la Senatrice Sbrollini? Ci dica. Grazie, Presidente. Ma questo è un emendamento che noi consideriamo tra le priorità di questo decreto perché riguarda e ci ricorda soprattutto una vicenda molto dolorosa, quella della ragazza Luana Dorazio che morì proprio a causa dell'insicurezza dei macchinari e quindi noi chiedevamo al governo che ha avuto tanto tempo per poter verificare anche le eventuali coperture finanziarie di lasciare questo emendamento tra i prioritari proprio perché riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, sia ovviamente a partire dalle aziende private. Siccome sono state trovate altre risorse sicuramente per settori meno importanti, su questo chiedo un ripensamento al governo perché lo consideriamo davvero fondamentale visto che purtroppo è la cronaca quotidiana quella di vedere troppi morti sul lavoro e soprattutto tanti lavoratori anche giovani, di giovanissima età. Quindi davvero chiedo al governo, mi appello ancora, affinché ci sia un voto diverso. Grazie. Non mi pare che... Prego il senatore Mazzetti. Mazzella. La sottoscrizione di questo emendamento, grazie. Grazie. Il senatore lo scrive o lo sostiene? Lo sottoscrive. Anche Musolino, certo. Musolino lo sottoscrive. Presidente, sia Musolino che il senatore Patton. Perfetto, uffici prendano atto delle sottoscrizioni. Non mi pare che il governo abbia preso decisioni diverse, quindi lo pongo in votazione con i pareri che rimangono quelli espressi. Siamo a 14.101, un tempo sbrollini, ora di un numero notevole di colleghi. Dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari. Dichiaro chiusa la votazione. Il senatore non approva. 14.30, Camusso ed altri, pareri contrari di relatrice e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il senatore non approva. 14.31, Camusso ed altri, pareri contrari di relatrice e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il senatore non approva. 14.32, Zampa, Camusso, Purana ed altri. Dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.102, Pirro ed altri, pareri contrari di Relatrice e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Roic ed altri. 14.103, già 14.35. Si vota la prima parte. Pareri contrari della Quinta, della Relatrice e del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, pertanto è precluso il successivo 14.104. Siamo al 14.44 della Senatrice Sbronlini, con pareri contrari della Commissione Quinta, della Relatrice e del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.46. Lombardo Sbronlini, con pareri contrari di Relatrice e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.01, Pirro ed altri, con pareri contrari della Quinta, della Relatrice e del Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.0.2, Pirro ed altri, con pareri contrari della Relatrice e del Governo. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 14.0.3, Mazzella ed altri, con pareri contrari della Quinta, della Relatrice e del Governo. Senatore Mazzella, scusi, grazie. I segretari aiutano per questo. Prego, a lei la parola. Il 14.0.3 vuole introdurre l'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole. Allora, stiamo tutti quanti soffrendo perché le morti bianche, le morti sul lavoro stanno aumentando anche. Istituiamo una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause delle morte del lavoro e non vogliamo introdurre nella scuola la cultura della sicurezza, ma se non vogliamo cominciare dalla prevenzione, da dove vogliamo cominciare? Io veramente vi voglio invitare tutti a riflettere un attimo su questo emendamento. È un emendamento di razionalità, di prevenzione, primaria, prima che accada il danno. La cultura della sicurezza deve diventare un patrimonio di tutta la nazione e lo può diventare solo se parte dalle scuole. Questo è quello che dice l'emendamento. Grazie. Allora, il 14.0.3, contrari, quinta, relatore, governo, dichiaro aperta la votazione, Mazzella ed altri. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.5, eroice ed altri, contrari, quinta, relatore, governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.6, Pirro ed altri, parere contrario della quinta, relatore del governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.7, Pirro ed altri, quinta, commissione, contraria, relatore, governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.8, Mazzella ed altri, contrari, quinta, relatrice, governo, dichiaro aperta la votazione. Ah, vuole intervenire, annullo la votazione e do a lei la parola, Senatore Mazzella. Ci mancherebbe altro. Datemi una mano a guardare le richieste. Allora, ancora una volta invito i miei colleghi attraverso di lei, Presidente, a riflettere su questo emendamento. Prima abbiamo parlato di competenze digitali e le avete bocciate, poi abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro nella scuola e l'avete bocciato. Qui parliamo di una cosa che tutti fanno, che è il lavoro agile o che vedremo poi tutti potranno fare se vorrete. Ebbene, in questo emendamento noi chiediamo che sia data la possibilità di disconnessione durante questo tipo di lavoro, perché sappiamo benissimo che cosa significa essere connessi 24 ore al giorno anche nel lavoro, avere sempre il telefono che squilla, avere sempre connessi i nostri sistemi informatici e quindi chiedevo solo un diritto. Non ha costi, non è un emendamento che ha costi per lo Stato, è un emendamento ancora una volta razionale che non prevede costi. Eppure su questo dite no. Io non so in che modo è possibile parlare di tecnologia, di smart working, di competenze digitali. Questo è un governo che non ragiona con i tempi moderni. Grazie. Allora, pongo in votazione il 14.0.8 con l'ulteriore firma del senatore Martò. Pareri contrari del relatore di governo e quinta commissione, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.9 Mazzella ed altri, con pareri contrari del relatore di governo e quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.11 Roic e altri, pareri contrari del relatore di governo e quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.12 Pirro ed altri, con pareri contrari di quinta, relatore di governo e quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 14.0.13 Mazzella ed altri, con pareri contrari del relatore di governo e quinta, dichiaro aperta la votazione. Annullo la votazione, il senatore Mazzella parlerà, non ci sono problemi. Grazie Presidente, anche questo emendamento, parla di sicurezza del lavoro, è un emendamento che richiede il potenziamento della medicina del lavoro. Vi invito anche qui a riflettere, sicurezza del lavoro come prevenzione non la volete nelle scuole, medicina del lavoro come potenziamento non lo volete. Ma come possiamo fare prevenzione sulla sicurezza? Questo è un decreto che parla anche di sicurezza e voi state negando la sicurezza a migliaia di cittadini. 14.0.13 Mazzella, prego, vuole firmare? Prego, allora, se ci sono altri colleghi poi lo segnalano agli uffici anche? Prego. Allora, quindi possiamo votare 14.0.13 con le ulteriori firme, ma i permanenti persistenti pareri contrari. Di quinta, relatrice governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Abbiamo a questo punto l'articolo 15. Senatrice Pirro, senatrice Camusso, senatrice Zambito, senatrice Furlan, senatore Magni non illustrano. Pareri della relatrice. Tari. Governo. Conforme al relatore. C'è un altro microfono acceso, senatore. Conforme al relatore. Allora, quindi abbiamo pareri contrari. Pongo in votazione, in unica votazione, gli identici, 15.1 Pirro e Mazzella, 15.2 Camusso, Zampa ed altri. E 15.03 Magni, De Cristoforo ed altri. Dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari di relatore e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Zambito ed altri. 15.4 Pareri contrari di relatrice e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 15.5 Furlan, Zampa ed altri. Pareri contrari di quinta relatrice e governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Articolo 16. Senatrice Pirro. Sì, lo so. È improponibile. Lo stavo dicendo. L'avevo letto. È improponibile. Lo diciamo per notizia. Quindi passiamo all'articolo 17. Allora. Illustrazioni eventuali. Magni, Mazzella, Camusso, Zambito, Furlan, Sbrollini. Non ci sono illustrazioni. Pareri della relatrice al 17. Contrari. Governo. Conforme al relatore. Non si distragga che rallenta i lavori. Allora. Allora. Quindi sono contrari i pareri. Pongo in votazione il 17.3. Magni ed altri con pareri contrari della quinta, della relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 17.4. Mazzella ed altri. Pareri contrari di quinta, della relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 17.5. Mazzella ed altri. Pareri contrari di relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Camusso ed altri. 17.7. Pareri contrari di quinta, della relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Mazzella ed altri. 17.8. Pareri contrari di relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 17.10. Camusso ed altri. Contrari di quinta, della relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 17.12. Zambito, Zampa ed altri. Pareri contrari di relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Ora siamo al 17.4. Prima parte. 17.14. Con il parere contrario di relatrice e del governo. E quinta. Si vota la prima parte. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Per cui è precluso il successivo. 17.16. 17.17. Furlano ed altri. Contraria. La relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Identici e quindi in unica votazione. 17.18. Mazzella ed altri. Sbrollini. 17.19. Identici i pareri contrari della relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 17.21. Sbrollini. Pareri contrari di relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Adesso siamo all'articolo 18. Evettuali illustrazioni. Sbrollini. Mazzella. Maiorino. Furlan. Zampa. La relatrice deve darci i pareri ma anche un emendamento. Prego. Relatrice. Contraria ad eccezione del 18.000. Che è della relatrice. Quindi. Governo. Governo. Conforma il relatore. Bene. Allora poniamo in votazione il 18.1. Sbrollini con i pareri contrari di relatrice e governo e quinta commissione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Un attimo. Un attimo. Non dichiaro chiusa la votazione. C'era qualcuno? Era già chiusa. Se ci sono obiezioni la annulliamo e la ripetiamo Senatore Martò. Va bene. Allora la chiudiamo e quindi la votazione. Comunque non avrebbe avuto essiti diversi e non approva l'emendamento. Allora adesso abbiamo l'emendamento 18.02. Mazzella e altri. Punto 2. Con i pareri contrari della. Scusi abbiamo già bocciato il 18.1. Ora siamo al 18.2. Della senatrice. No del senatore Mazzella. Guidoline ed altri. I pareri sono contrari della quinta, della relatrice e del governo. Dichiaro aperta la votazione. Avete votato? Dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. Allora qui c'è questo. Dichiaro il senato non approva. Abbiamo il 18.4. Pareri contrari della quinta, della relatrice e del governo. Firmatari e Furlan, Zampa ed altri. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. Abbiamo poi l'emendamento che è in un foglio aggiuntivo che è stato distribuito da tempo. Nel 18.0.1000 barra 1, Zampa ed altri. Dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari della relatrice e del governo. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. Abbiamo ora l'emendamento 18.0.1000 della relatrice che si è espressa a favore condizionato alla riformulazione della quinta che lei ha accettato. E quindi abbiamo il parere favorevole. Sì, adesso ci arriviamo. Tanto c'è il parere positivo della relatrice sul suo emendamento. Su questo emendamento ha chiesto la parola alla senatrice Camusso. Chiara la parola. Grazie Presidente. Chiedo la parola in dichiarazione di voto perché noi voteremo a favore di questo emendamento della relatrice perché mai potremmo votare contro l'idea che ci siano risorse dedicate alla sicurezza sul lavoro e dedicata anche ai tanti che soffrono la perdita in ragione degli infortuni e delle morti sul lavoro. Vorremmo però cogliere l'occasione perché sennò c'è una molta ipocrisia nelle cose che si fanno per chiedere al Presidente del Senato di farsi promotore rispetto al governo di ritirare decreti che giusto ieri avevano deciso di abbassare il massimale che si riconosceva alle famiglie che hanno avuto dei defunti nella loro vita perché credo che questo sia come dire se no un po' ipocrita. Da un lato raccontiamo che si mettono risorse ma dall'altro alle persone invece ne arrivano meno. E' sempre come dire doloroso dire che si ricerciscono le famiglie perché ci sono stati degli infortuni sul lavoro non violiamo ulteriormente la loro serenità attraverso ipocrisie inutili. Presidente grazie vorrei anche io ricordare che appunto ne abbiamo parlato anche prima troppi infortuni sul lavoro ormai è una quotidianità a cui non ci dobbiamo mai abituare bene certamente mettere e inserire questi 5 milioni in più però se poi si sottraggono in altri provvedimenti e in altri decreti è evidente che facciamo un gioco davvero ipocrita contro le famiglie e le persone che hanno subito infortuni sul lavoro. Quindi chiedo anch'io al governo che ci sia una riflessione rispetto a quello che si sta votando oggi e ad altri decreti su cui si sta lavorando in maniera contraria. Grazie. Allora il governo è presente però mi pare che il parere resti quello, gli appelli sono stati fatti quindi pongo in votazione il 18.0.1000 della relatrice quindi con pareri favorevoli della relatrice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva forse c'era un collega che ha fatto un errore di votazione se lo vuole comunicare allora a questo punto abbiamo un improponibile poi abbiamo l'articolo 19 che il 18 è finito allora Turco, Lorefice, Mazzella, Gelmini, Sbrollini, Bergesio, Murelli, Magni non intendono illustrare pareri della relatrice Contrari Governo Contrari Votazione del 19.1 Turco ed altri pareri Senatore Turco chiede la parola Prego Sì grazie Presidente in merito all'emendamento 19.1 si propone che una quota parte del fondo sulle politiche attive venga destinato alla riqualificazione e al miglioramento dei livelli occupazionali dei lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento Ilva di Taranto quindi noi chiediamo al governo di valutare questa possibilità di poter accogliere questo emendamento grazie Presidente Allora pongo in votazione il 19.1 Turco ed altri Contrari alla relatrice del governo e la quinta commissione dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione Senato non approva Germini e Sbrollini 19.3 Contrari Quinta relatrice del governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 19.6 Sbrollini Contrari Quinta relatrice del governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva, 19.8 Turco ed altri, i contrari, la quinta la commissione il governo, il senatore Turco chiede di intervenire per dichiarazione di voto Sì, grazie presidente, anche in questo emendamento, presidente, sulle politiche attive del lavoro con riferimento ai corsi di formazione noi chiediamo che questi corsi siano anche destinati alle riqualificazioni dei lavoratori da destinare poi alle attività di bonifica ambientale nei siti strategici quindi chiediamo al governo se ci fosse questa possibilità al fine di riqualificare i lavoratori delle aree di crisi industriale Allora, procediamo con il 19.8, pareri contrari del governo della radice della quinta, dichiara aperta la votazione Chiaro ha chiuso la votazione, il senato non approva gli ordini del giorno l'avamo già votati Allora, quindi dobbiamo andare a pagina 136 Allora, sono aggiuntivi 19.0.2, l'orefice Mazzella pareri contrari di quinta Relatrice governo, dichiaro aperta la votazione Chiaro Chiusa la votazione Senato non approva Improponibili successivi Quindi abbiamo il 19.0.5 a pagina 138 Mazzella ed altri Contrari Quinta Relatrice governo Senatore Mazzella non ho aperto la votazione perché chiede di intervenire Allora questo emendamento chiede chiede un credito d'imposta quindi andiamo vi guardiamo in faccia e vi diciamo che stiamo parlando alle imprese e agli studi professionali qualcosa che dovrebbe essere forse caro anche a voi maggioranza e vi chiediamo il credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici perché? Perché un'altra volta ritornano le problematiche legate al lavoro agile e alle competenze digitali e a tutto quello che si dovrà fare grazie alle piattaforme digitali quindi io non credo che questo emendamento possa essere ignorato perché significa ignorare il presente e anche il futuro della nostra nazione credito d'imposta per gli strumenti digitali non li volete lavoro agile non lo volete competenze digitali non le volete ma insomma che tipo di Italia esce fuori da questo decreto del lavoro io non lo so vi invito veramente a rivedere la vostra posizione sul credito d'imposta perché questo uscirà su tutti i giornali che non volete il credito d'imposta la maggioranza pensate allora 19.0.5 contrari la quinta il governo la relatrice dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva articolo 22 cambiamo fascicolo via il fascicolo nuovo fascicolo allora senatrice sbrollini senatore magni senatrice pirro turco camusso non intendono illustrare pareri pareri senatore pareri contrari governali se no non sento i pareri contrari allora pongo in votazione il 22.1 parere contrario della quinta della relatrice del governo dichiaro aperta la votazione sbrollini zambito dichiaro chiusa la votazione il senato non approva il 22.3 magni ed altri contrari il relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva allora adesso abbiamo gli identici 22.4 sbrollini 22.5 pirroalti 22.6 camusso e altri con la contrarietà della quinta della relatrice del governo vengono posti in votazione dichiaro aperta la votazione adesso chiudiamo la votazione e abbiamo che il senato non approva ora abbiamo il 22.7 prima parte magni ed altri contrari quinta relatrice governo dichiaro aperta la votazione allora dichiaro chiusa la votazione il senato non approva e quindi è precluso il 22.8 siamo al 22.9 magni ed altri prima parte contrari quinta relatrice governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva quindi a questo punto siamo alla preclusione del successivo giusto del 22.10 e quindi passiamo al 22.11 magni ed altri contrari a quinta relatrice governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva poniamo in votazione congiunta 22.12 camusso alti 22.13 spurollini 22.14 pirro ed altri perché identici i pareri sono contrari della quinta relatrice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo il 22.15 sbrollini contraria la commissione quinta la relatrice del governo dichiaro aperta la votazione poi chiudiamo la votazione e il senato non approva l'ordine del giorno era stato già approvato poi è improponibile il 22.01 e abbiamo l'emendamento 22.02 a pagina 149 contraria la quinta la commissione governo pirro ed altri dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 22.01 siamo al 23 allora sbrollini irto giacobbe non credo che intendano illustrare pareri contrari governo sta a casa contrari governo contrari allora pongo in votazione con i ripereri contrari della quinta del governo del relatore il 23.5 sbrollini aperta la votazione chiusa la votazione il senato non approva sbrollini 23.7 contraria la quinta il governo la relatrice dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 23.10 irto contraria quinta relatrice governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva c'è un improponibile poi abbiamo il 23 bis punto cento la senatrice camusso intende illustrarlo credo di no poi la senatrice minasi intende illustrare credo di no pareri sul 23 bis della lei l'aveva già espresso congiuntamente anche il governo si era espresso su 23 bis che quindi pongo in votazione il 23 bis punto cento camusso e altri con il parere contrario della relatrice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo il 23 bis punto zero punto cento della senatrice minasi sono contrarie alla quinta della relatrice del governo non so se la senatrice minasi intende a ritirarlo non vedo il parola il capogruppo ritira è ritirato l'eventamento della senatrice minasi l'articolo 24 eventuali illustrazioni Damante Guidolin Bevilacqua Pirro Patuanelli Zambito Camusso Zampa Magni Sbrollini Gelmini non intendono illustrare pareri della relatrice Contrari Governo Contrario Poniamo in votazione unitariamente gli emendamenti 24.1 Damante e Dalti e 24.2 Zambito perché identici con pareri contrari della relatrice e del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo il 24.3 Guidolin e Daltri Guidolin e Daltri parere contrario della quinta della relatrice e del governo dichiaro aperta la votazione prego la senatrice Guidolin intende intervenire la votazione non è aperta prego senatrice sul 24.3 e anche i successivi allora in questo articolo possiamo dire che avete liberalizzato la qualunque avete tolto le causali dai contratti a termine avete permesso i contratti one to one quindi dall'attore di lavoro al lavoratore solo due attori appunto che partecipano al contratto secondo noi questo è pericoloso con questi emendamenti noi chiediamo che vengano reinserite le casuali nei contratti di lavoro a termine non è possibile condannare alla precarietà i nostri giovani e tutti i nostri lavoratori che verranno ricattati per pochi euro al mese se poi aggiungiamo se poi aggiungiamo che avete rifiutato anche il nostro emendamento su una soglia minima sotto la quale non si può andare cioè nove euro all'ora vuol dire che stiamo condannando le persone a lavorare per cinquecento seicento euro al mese questo non è possibile allora colleghi siccome la serata avanza pregherei che corrispondessero le votazioni alle presenze intelligenti pauca trattenersi in aula allora pongo in votazione l'emendamento Guidolin ventiquattro punto tre con i già citati i pareri negativi dichiaro aperta la votazione se ad ora l'ho dito si può regare a votare al posto senatore De Poli andate a votare dal posto dichiaro chiusa la votazione il senato non approva scusate qui ai banchi del governo se c'è meno rumore ci fate lavorare meglio allora allora siamo arrivati al ventiquattro punto quattro pareri contrari della quinta della ratrice e del governo senatore ci pensiamo noi a dirigere i lavori dichiaro aperta la votazione i compagni dei contrari della quinta della relatrice e del governo allora il segretario dichiaro chiusa la votazione e quindi il senato non approva il segretario è autorizzato ad andare a ritirare delle schede che non vedano presenti il votante i segretari ci sono per questo allora quindi bisogna stare al proprio posto e votare dal proprio posto se c'è qualcosa che non va i segretari sono autorizzati a intervenire allora scusate ho perso però 24.5 Magni e altri contrari la relatrice del governo e la quinta dichiaro aperta la votazione riservata ai presenti dichiaro chiusa la votazione il senato non approva non è nemmeno necessario poi allora adesso abbiamo il la prima parte del 24.6 guidoline ed altri con pareri contrari della relatrice del governo e della quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva abbiamo adesso il 24.7 precluso per questa votazione e quindi passiamo al 24.8 guidoline ed altri quinta commissione contraria relatrice e governo contrari dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.11 camus ed altri pareri contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.20 zampa ed altri contrari governo e relatrice dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.100 camus ed altri dichiaro aperta la votazione i pareri sono contrari dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.101 camus ed altri pareri contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva siamo ora al 24.102 già 24.29 della senatrice sbrollini sono contrari la quinta commissione il governo e la relatrice e quindi dichiaro aperta la votazione dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva camus e dati 24.103 pareri contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva e quindi passiamo al 24.104 camus e dati contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.105 zampa ed altri contrari di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.0.1 bevilacqua ed altri dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari non è aperta la votazione senatrice bevilacqua grazie presidente in dichiarazione di voto perché vorrei ricordare alla maggioranza che questo emendamento va a intervenire su un'area a cui il governo e la maggioranza ha dimostrato di essere molto sensibile ovvero il sostegno alla maternità alla genitorialità vi riporto l'ultimo dato disponibile dell'ispettorato nazionale del lavoro che parla per il 2020 di 42.000 neogenitori che abbandonano il lavoro danno le dimissioni volontarie nel primo anno di vita perché non sono in grado di conciliare correttamente l'attività lavorativa con le esigenze della famiglia e il dato preoccupante è che di questo il 75% di questo numero 37.000 sono le donne quindi confidando nell'attenzione che questa maggioranza ha nei confronti della natalità io vi ringrazio anticipatamente per il voto favorevole che sicuramente esprimerete anche perché questo è un sostegno alla vostra lotta da patrioti alla sostituzione etnica quindi mi aspetto con piacere questo vostro voto favorevole grazie allora siamo alla votazione 24.0.1 le vilacqua altri pareri contrari dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva allora ora siamo al 24.0.2 camus e altri contrari alla quinta la radice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.0.5 pirro ed altri contrari quinta la radice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.0.6 pirro ed altri pareri contrari di radice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 24.0.7 prima parte Magni ed altri dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari di relatrice governo dichiaro chiusa la votazione il senato non approva è precluso il 24.0.8 siamo al 24.0.11 Gelmini Sbrollini contrari, quinta relatrice governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva il successivo è improponibile quindi passiamo all'articolo 25 Sbrollini, Fina, Zampa la parola alla relatrice per i suoi pareri ascoltate sono tutti i contrari d'eccezione del 25.000 e del 25.0.1000 grazie ci sono due emendamenti della relatrice governo conforme al relatore partiamo dall'emendamento della relatrice 25.000 con il parere diciamo anche della quinta che lo ha riformulato parere favorevole della relatrice del governo dichiaro aperta la votazione 25.000 25.000 della relatrice ascoltate favorevole allora dichiaro chiusa la votazione il senato approva poi i colleghi ascoltino i pareri se li vogliono ascoltare poi allora adesso abbiamo l'emendamento 25.2 della senatrice Sbrollini per il quale invece i pareri sono contrari nella relatrice e nel governo e lo pongo in voto anzi no voleva trasformarlo in ordine del giorno senatrice mi diceva no no quindi no è quell'altro quindi pareri contrari aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione non è stato approvato ahimè poi abbiamo un'inammissibile fina poi abbiamo l'emendamento della relatrice 25.0.1000 con i pareri favorevoli del governo e della relatrice dichiaro aperta la votazione vabbè io la dichiaro chiusa e il senato approva allora ora abbiamo zampa i dati 25.0.1 pareri contrari di quinta relatrice del governo dichiaro aperta la votazione qua il parere è contrario del governo allora dichiaro chiusa la votazione senato non approva abbiamo adesso il 25.0.2 sbrollini contraria la quinta relatrice del governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva articolo 26 Furlan Camusso Camusso Zampa Magni Pirro Mazzella Sbrollini nessuno intende illustrare pareri relatrice allora sono tutti contrari ad eccezione del 26.4 Magni e altri e del 26.100 Camusso e altri per cui il parere è favorevole sono tremendamente identici relatrice quindi lei è favorevole al 26.4 al 26.100 al 26.5 giusto? Tutti e tre un attimo verifico il 26.5 scusi sono identici diciamo il terzo è parzialmente identico perché gli altri due hanno una estensione più ampia diciamo sostitutiva però è la stessa cosa perché l'ultimo contiene una parte degli altri ritengo che il suo parere possa essere favorevole a tutti e tre questi emendamenti senatore e onorevole De Ruicon senatore conforme al relatore è conforme allora pongo in votazione in questo caso col parere contrario il 26.1 Furlane ed altri parere contrario di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 26.2 pareri contrari senatore dice camusso ed altri pareri contrari radice governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 26.3 camusso ed altri dichiaro aperta la votazione i pareri sono contrari dichiaro chiusa la votazione il senato non approva Ora ci sono gli emendamenti su cui la relatrice si è espressa e anche il governo favorevolmente, dei senatori Magni 26.4 ed altri, della senatrice Camusso 26.5 ed altri, della senatrice Pirro ed altri, della senatrice 26.5. Vengono messi in votazione congiuntamente con il parere favorevole. Dichiaro aperta la votazione. I pareri erano favorevoli. Comunque dichiaro chiusa la votazione e vengono approvati. Dopodiché invece con i pareri contrari della relatrice del governo metto in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 26.7 Pirro, 26.8 Magni ed altri, 26.9 Camusso ed altri. Dichiaro aperta la votazione con i pareri contrari. I pareri sono contrari. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. 26.11 Furlani ed altri, dei pareri contrari di relatrice del governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione e il senato non approva. 26.12 Camusso ed altri, dei pareri contrari. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. il senato non approva 26 101 Zampa Camusso altri pareri contrari dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva siamo al 26 13 Camusso ed altri pareri contrari di radice governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione 26 14 il senato non approva 26 14 Camusso ed altri pareri contrari di radice governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva ora abbiamo il 26 18 sbrollini contraria alla quinta radice governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 26 21 sbrollini contraria a quinta radice governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 26-27 sbrollini, contrari la quinta, la relatrice e il governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 26-29 sbrollini, contrari la relatrice e il governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 26-33 sbrollini, contrari alla quinta regatrice del governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva sbrollini 26 36 contraria alla quinta regatrice del governo dichiara aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva gli ordini del giorno l'hanno già votato prima pirro allora abbiamo gli emendamenti aggiuntivi su cui si era già espressa contrariamente la regatrice pongo in votazione il 26.0.4 mazzella e altri ma il senatore mazzella lo precede con la sua dichiarazione di voto grazie presidente questo emendamento richiede un'indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome credo che tutti qui siano sensibili al problema della violenza sulle donne avete in più momenti della storia della repubblica ha dimostrato la vostra sensibilità quindi io mi appello ancora una volta la vostra sensibilità le lavoratrici nel pubblico sono in qualche modo tutelate ma le lavoratrici autonome non sono tutelate e badate che i corsi di protezione relativi alla violenza di genere sono i percorsi normali che vengono fatti dalle donne per poter in qualche modo uscire da questa situazione di violenza ora tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome ma non è una discriminazione questa è una discriminazione veramente nei confronti delle donne tutelare solo le donne nel pubblico e non le lavoratrici autonome chiedo veramente una riflessione su un tema così importante come quello della violenza sulle donne allora siamo al 26.0.4 contraria la quinta la lettrice del governo dichiara per a senatrice sbrollini prego vuole intervenire sì grazie presidente vorrei aggiungere la mia firma e di tutto il gruppo Italia vivazione grazie bene senatore Marton sì anch'io il senatore Liccheri aggiungiamo la firma bene allora qualcun altro deve aggiungere qualcosa no allora passiamo alla votazione del 26.0.4 dichiaro aperta la votazione pareri contrarie dichiaro chiusa la votazione il senato non approva al 26 abbiamo ancora il 26.0.100 pirro pareri contrarie di relatrice e governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva a questo punto ci ha raggiunto il vicepresidente centinaio al quale cedo la presidenza dell'articolo 27 articolo 27 illustrazioni dell'articolo 27 senatrice sbrollini gelmini camusso zanettin no nessuno deve intervenire pareri del relatore contrarie pareri del governo contrarie perfetto passiamo allora all'emendamento 27.1 senatrice sbrollini parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 27.2 parere contrario del relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 27.6 parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 27.1 parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 27.1 parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione Il Senato non approva. 27.15. Parere contrarie al relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo agli ordini del giorno. Passiamo al 28. Io ho 27.01. Improponibile. 28. Senatore Matera, Senatrice Sbrollini, Versace, Guidolin, Pirro, Mazzella, Camusso e Relatrice. Non è stato votato. Come scusi? Degli aggiuntivi il 27.0.1. Era improponibile. Ah scusi, non avevo sentito. Grazie. Parere relatore? Contrarie ad eccezione del 28.100, firma Matera, e del 28.0.1000, relatore. Conforme al relatore? Governo? Conforme? Allora, quindi passiamo al 28.100. Parere favorevole di relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 28.1. Precluso. Allora, 28.101. Senatrice Sbrollini voleva trasformarlo in ordine del giorno? Sì, grazie. Ci deve dare il parere relatore e Governo? Favorevole. Parere favorevole. Governo? Conforme al Renatore. Perfetto. Quindi lo dichiariamo accolto. Punto 28.3. Parere contrario, relatore Governo Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Chiaro. Chiusa la votazione. Il Senato non approva. 28.0.11. Parere contrario di relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 28.0.12. Parere contrario di relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 28.0.14. Parere contrario di relatore Governo Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Per effetto del parere espresso dalla Commissione bilancio i testi degli emendamenti 28.0.100, 28.0.100. testo 2, 28.0.101 e 28.0.102 testo 2 come riformulati risultano tutti identici. Prima di porli congiuntamente in votazione passiamo pertanto al voto del subemendamento 28.0.100.1. prima firma Camusso a pagina 187 del fascicolo 28.0.100.1 quindi votiamo prima questo 28.0.100 testo 2 28.0.100 testo 2 Scusate eh Eh quando c'era Gasparri si andava più veloce lo ammetto io farei un applauso al Senatore Gasparri Quindi questo votiamo prima questo avevo ragione quindi 28.0.100.1 Parere contrario Relatore, Governo e Quinta Dichiaro aperta la votazione Dichiaro chiusa la votazione Il Senato non approva Quindi passiamo al 28.0.100 testo 2 Quindi 28.0.100 testo 2 28.0.100 testo 2 28.0.100 testo 2 28.0.100 Ok Quindi poniamo in votazione con Parere Sì ma parere contrario Parere parere volevole Con un'unica votazione votiamo il 28.0.100 La firma del gruppo del Partito Democratico a questi ammendamenti Ok Quindi 28.0.1000 28.0.100 testo 2 Mi dica Senatrice Sbrollini Aggiungiamo anche noi la firma di tutto il gruppo Grazie Va bene 28.0.100 Se andiamo avanti così andiamo facciamo notte Mi dica Senatore Allora non è per aggiungere la firma ovviamente perché si tratta di voglio chiarire che si tratta di un emendamento che ho proposto e riproposto dalla legge di bilancio perché è un emendamento che tutela i fragili che sono in una condizione grave e in commissione ringrazio quindi anche per aver compreso questo 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 tipo di di spirito in commissione ho sottolineato chi erano questi fragili e ci tengo a precisare che stiamo parlando di pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria trapianto di organo trapianto di cellule staminali terapia a base di cellule T per cui esprimenti un recettore chimerico antigenico immunodeficienze secondarie dialisi insufficienza renale cronica preghessa splenectomia sindrome da immunodeficienza pazienti con cardiopatia ischemica fibrillazione atriale scompenso cardiaco ictus diabete mellito broncopneumotipatia ostruttiva cronica epatite cronica e obesità è importante tutto questo perché è importante perché ricordare questo è stato difficile nel percorso di comprensione ma è importante sottolineare che si tratta dei fragili grazie relatore chiedo quindi si vota come riformulato dal 28.0.1000 quindi al 30 settembre con le competenze giuste esatto perché siccome quello che sta dicendo non corrisponde al vero cioè si va a votare una cosa che non è al 31.12 ma è al 30 settembre e che va a coprire dei fondi che prima non erano indicati si vota come riformulato 28.0.100 28.0.1000 28.0.100 testo 2 28.0.101 28.0.102 testo 2 si votano tutti insieme come riformulati senatrice Murelli a lei la parola grazie presidente volevo ringraziare la relatrice perché come lega abbiamo presentato in commissione questo emendamento con la scadenza per i lavoratori tra fragili e il rinnovo al 30 settembre del 2023 lo abbiamo ritirato perché non c'erano le coperture ringrazio la relatrice perché ha lavorato e il governo perché questo emendamento è stato ripresentato in accordo di maggioranza come relatrice tra tutti i partiti e quindi questo è un buon risultato grazie perfetto ok quindi gli emendamenti così come riformulati dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato approva articolo 30 articolo 30 senatrice Camusso senatrice Damante e senatore Turco relatore relatore intermiti di legge chiaro chiusa la votazione il senato non approva 30 punto 2 parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il senato non approva 30.3. Parere contrario relatore Governo? Quinta. Dichiaro aperta la votazione? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 30.0.3. Parere contrario relatore Governo? Quinta. Dichiaro aperta la votazione? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Articolo 32, Santrice Pirro, Magni, Camusso, Sbrollini. Relatori? Contrari. Governo? Contrari. Quindi, 32.1, 32.2, 32.3, identici con un'unica votazione, parere contrario di relatore governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 32.0.2, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Articolo 33, senatrice Pirro e senatore Mazzella. Relatore? Contrari. Governo? Contrario. Perfetto. Emendamento 33.1, parere contrario relatore governo, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 33.2, parere... Chi è che voleva intervenire? Mazzella, lei ha la parola. Grazie, grazie Presidente. Penso che oggi la giornata di lavoro me la sono guadagnata. Allora, questo emendamento forse è un emendamento importante perché ci sono dei giovani che sono stati utilizzati durante la pandemia con un lavoro somministrato per far fabbricare le mascherine. Molte delle mascherine che avete portato durante la pandemia le hanno fabbricate in questo istituto militare, l'istituto spolettificio di Torre Annunziata in provincia di Napoli. E questi giovani, 35 giovani, all'indomani della chiusura, all'indomani della fine della pandemia, sono stati tutti licenziati. L'emendamento pone un limite a questi licenziamenti. Si tratta di lavoratori che sono stati utilizzati e poi buttati in mezzo alla strada. Tutti giovani, compresi tra i 18 e i 25 anni. E io non riesco a capire proprio perché non lo volete comprendere che ci sono dei lavoratori e non degli inoccupati, delle persone che non sono dei divanisti. Vogliono lavorare e voi gli state chiudendo la porta in faccia. Grazie, senatore Mazzella. 33.2, parere contrario al relatore Governo Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Articolo 34. Senatore Mazzella, Trevisi, Magni, Camusso, Murelli, Sbrollini. Relatore? Contrario. Governo? Contrario. 34.1 e 34.2, identici con un'unica votazione. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 34.3, parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiaro chiusa la votazione. Senato non approva. emendamento 34.0.100 della senatrice Sbrollini. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 34.0.101, parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 34.0.3, parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 34.0.5, parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. il Senato non approva. Articolo 35.0. Senatrice Sbrollini, Trevisi, Pirro, Mazzella, Camusso, Magni. Parere del relatore? Parere del Governo. Contrario. Quindi, 35.1. Parere contrario al relatore Governo e Quintas. Votiamo la prima parte. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Quindi è precluso il successivo 35.2. Passiamo al 35.6 e 35.7. Che si votano con un'unica votazione. Parere contrario al relatore Governo e Quintas. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 35.0.1. Parere contrario al relatore Governo e Quintas. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Articolo 36. Senatrice Sbrollini-Midicato. Presidente scusi solo per dirle. Se oltre al numero dell'emendamento può anche dire della prima firma. Perché a volte magari non sentiamo bene. Grazie. Va bene. Articolo 36. Fregolent. Roic Liris. Relatore. Parere contrario al 36. Cento, già 36. Quattro. 36. Cento uno contrario. Si chiede il ritiro del 36. Punto zero punto cento ed è favorevole 36. Punto zero punto cento uno. Governo. Conforme al relatore. Quindi 36. Cento Fregolent e altri. Parere contrario. Relatore, Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 36. Cento uno improponibile. 36. Punto zero punto cento. C'è un invito al ritiro. Senatore Liris. Liris lo ritira. Lo ritira. Ok. Passiamo all'articolo 37. Il 36. Punto zero punto cento uno. 36. Punto zero punto cento uno. Parere favorevole. Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Chiaro chiusa la votazione. Senato approva. Articolo 37. Turco, Mazzella, Nave, Zampa, Camusso, Verini, Magni, Sbrollini e Damiani. Relatore. Contrari. Governo. Contrario. 37.1 e 37.2. Prima firma Turco e Zampa. Parere contrario. Relatore e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 37.3. Magni e altri. Parere contrario. Relatore e Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 37.4. Mazzella e altri. Parere contrario. Relatore e Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 37.5. Camusso e altri. Parere contrario. Relatore e Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. il Senato non approva. 37.9. Nave e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.10. Camusso e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.101. Già 37.20. Sbrollini. Parere contrario al relatore Governo. Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.22. Nave e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.0.4. Parere contrario al relatore Governo. Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 37.0.6. Verini e altri. Parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Articolo 38. Pirro, Turco, Magni, Zaffini, Sbrollini, Camusso, Zampa, Nicita. Nicita. Parere del relatore. Contrari con un invito al ritiro per il 38.0.100. Parere del Governo. Conforme al relatore. Quindi 38.1. Pirro e altri. 38.2. Magni e altri. Parere contrario al relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 38.3. Parere contrario al relatore Turco e altri. Parere contrario al relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 38.0.100. c'è stato l'invito al ritiro. C'è stato l'invito al ritiro. Senatore Zaffini lo ritira? Ok. 38.0.2. Pirro e altri. Parere contrario. Relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 38.0.6 è improponibile. 38.0.8 è improponibile. Così come 38.0.14 è 17. Passiamo al 38.0.29. Camusso e altri. Dichiaro parere contrario al relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 38.0.31. Zampa e altri. Parere contrario al relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 38.0.35. Camusso e altri. Parere contrario al relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Senato non approva. 38.0.39. inicita parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva articolo 39 Turco Mazzella, Pirro, Guido Linz Brollini, Lombardo, Zampa Camusso relatore? Contrari Governo Governo? Contrario grazie quindi passiamo al 39.1 Turco e altri parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39.2 Turco e altri parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39.3 parere con Turco e altri parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39.4 Sbrollini parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione Senato non approva 39.6 votiamo la prima parte parere contrario parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione Senato non approva è precluso il 39.8 passiamo al 39.10 Zampa e altri parere contrario relatore Governo e Quinta dichiaro aperta la votazione annullo la votazione Senatrice sul 39.10 perché è un passaggio molto importante del decreto che è quello relativo al cuneo fiscale alla riduzione del cuneo fiscale il governo in realtà porta avanti un percorso virtuoso che è iniziato col Presidente Draghi si è consolidato nella finanziaria l'ultima finanziaria e anche nel decreto va avanti su questo percorso fino ad arrivare a 6-7 punti di taglio del cuneo fiscale certo non è ancora sufficiente per recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori visto anche il taglieggiamento dell'inflazione ma un passo significativo e siccome noi crediamo davvero che sia un passo importante e significativo crediamo anche che non possa essere uno spot una cosa momentanea che dura sei mesi nelle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori e pertanto nell'emendamento creiamo e proponiamo le condizioni perché anche oltre la fine di quest'anno ai lavoratori venga consolidato il taglio del cuneo fiscale dove prendere le risorse diamo un suggerimento molto facile da poter coscientizzare noi siamo un paese che tra evasione fiscale e evasione contributiva conta circa 150 miliardi all'anno ecco dove trovare i 10 miliardi per garantire anche nel 2024 i 10 miliardi nel 2025 il taglio al cuneo fiscale anzi già che ci siamo utilizziamo già da subito il recupero che c'è stato quest'anno dell'evasione fiscale per ritornarlo a chi le tasse le paga i lavoratori e le lavoratrici e magari tutti assieme in quest'aula vediamo quale piano strategico importante il governo ha per una lotta davvero importante senza quartiere all'evasione fiscale grazie senatrice quindi 39.10 zampa e altri parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 39.11 mazzella e altri parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 39.12 testo 2 camusso e altri parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva passiamo al 39.0.100 mazzella e altri parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 39.0.101 guido lin e altri parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione per sottoscrivere eh senatrice però non avete più tempo a disposizione ah scusi questo emendamento ok quindi 39.0.101 non avete più tempo avete finito il tempo a disposizione colleghi va bene va bene però no non ve lo può dare neanche il PD perché l'ha finito anche il PD quindi andiamo avanti allora annullo la votazione perché eravamo in votazione quindi sta facendo fuori il finimondo annullo la votazione colleghi vi dico non avete più tempo nel Partito Democratico nel Movimento 5 Stelle non hanno più tempo io metto in votazione il 39.0.101 parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis senatrice Camusso Turco Patuanelli Pirro Guidolin Mazzella Sbrollini relatrice 39 bis articolo 39 bis contrario 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 quindi 39 bis 100 Camusso e altri parere contrario relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis punto 0 punto 100 parere contrario relatore governo quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis punto 0 punto 101 patuanelli e altri parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione chiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis punto 0 punto 102 pirro e altri parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis punto 0 punto 103 Guidolin e altri parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis punto 0 punto 104 sbrollini parere contrario relatore governo e quinta dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il Senato non approva 39 bis 0.105, Sbrollini, parere contrario, relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 39 bis 0.106, Mazzella, parere contrario, relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 39 bis 0.107, Mazzella e altri, parere contrario, relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Annullo la votazione. Mi dica senatrice. Semplicemente per aggiungere le firme del gruppo del Partito Democratico. Va bene. Grazie. Sbrollini. Per aggiungere la firma di tutto il gruppo. Va bene. 39 bis 0.107, Mazzella e altri, e di chi ha aggiunto le firme, parere contrario, relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 39 bis 0.108, Mazzella e altri, parere contrario, relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 39 bis 0.109, Mazzella e altri, parere contrario, relatore Governo e Quinta. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 36 bis 0.110, guido linee altri, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, chiaro chi usa la votazione, Senato non approva, 39 bis 0.111, Pirro e altri, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, chiaro chi usa la votazione, Senato non approva. 39 bis 0.112, Pirro e altri, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, chiaro chi usa la votazione, Senato non approva, votiamo la prima parte del 39 bis 0.113, guido linee altri, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chi usa la votazione, Senato non approva. Successivo, 39 bis 0.114 è precluso. Passiamo quindi all'articolo 40. Magni, Turco, Pirro, Naturale, Mazzella, Guidolin, Sbrollini, Zaffini, Furlan, Camusso. Relatore. Sono tutti i contrari e si chiede per il 40.100 la trasformazione in ordine del giorno. Ok, conforme il relatore. Quindi, 40.1, Magni e altri, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chi usa la votazione, Senato non approva. 40.3, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chi usa la votazione, Senato non approva. 40.4, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, dichiaro chi usa la votazione, Senato non approva. 40.7, Pirro e altri, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, chiaro chi usa la votazione, Senato non approva. 40.12, Sbrollini, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, chiaro chi usa la votazione, Senato non approva. 40.13, naturale, parere contrario, relatore governo e quinta, dichiaro aperta la votazione, Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 40.14. Sbrollini, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 40.16. Sbrollini, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 40.100. Zaffini. In ordine del giorno. Va bene. 40.23. Sbrollini, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 40.20. Furlan e altri, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 40.0.3. Pirro e altri, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 40.0.4. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il senato non approva. Il 40.0.5 era identico. Quindi, 40.0.6. Mazzella e altri, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il senato non approva. 40.0.7 e 40.0.8. Il primo Camusso e altri, il secondo Magni e altri, sono identici. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il senato non approva. 40.0.9. Guidoline e altri, con parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il senato non approva. 40.0.100. Improponibile. Passiamo al 42.0. 42.0. Guidoline, Zampa, Zambito, Camusso, Sbrollini, Paita e Murelli. Relatore. Relatore. Contrari. Contrari. Quindi, 42.1. Guidoline e altri, parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il senato non approva. 42.2. Guidoline e altri. 42.3. Zampa e altri. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Il senato non approva. 42.4. Sbrollini. 42.5. Zambito e altri, parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 42.100. Camusso e altri, parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Chiusa la votazione. Senato non approva. 42.0.3. Votiamo la prima parte. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il senato non approva. È precluso il successivo 42.0.100. Andiamo al 42.0.1. Sbrollini. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il senato non approva. Allora, 43 sono improponibili. Quindi, tranne il 43.0.6, parere del Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. 44.100. Parere favorevole. Scusate, mille. Parere favorevole di relatore Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il senato approva. 44.4. Parere contra... Furlane e altri. Parere contrario al relatore Governo e Quinta, dichiaro aperta la votazione. No. Chiaro chiusa la votazione. Il senato non approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. No. Dichiaro chiusa la votazione. Scusate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.